Capitolo 5 Uccideteci! Fate saltare tutto! Mettete fine a questa storia! Se il mondo finisce nella melma Quella di esperta statistica all'American Model of Lineage and Dimensions presso l'Ufficio Censimenti degli Stati Uniti era la seconda carriera di Annie Teller. Vent'anni prima di fuggire dall'Ufficio della MLD a Washington il giorno in cui i morti cominciarono a risorgere Annie aveva 22 anni e si stava riprendendo da un infortunio alla spina dorsale che aveva messo prematuramente fine la sua carriera da giocatrice di football professionista. Era nella Natia a Londra e attraversava la Haymarket a Coventry quando una moto che viaggiava al doppio del limite di velocità l'era finita addosso sbattendola contro il palo di un semaforo. L'incidente in sé non aveva avuto conseguenze psicologiche traumatiche perché Annie non ricordava nulla. Quello che ricordava era di aver sentito dire che probabilmente non avrebbe più camminato un verdetto comunicatole da un chirurgo con la durezza di chi sapeva che reazioni aspettarsi. Nel football si guadagnava bene Annie poteva permettersi le cure migliori. Per 28 mesi lavorò con i terapisti del centro di riabilitazione di Mansfield on Sherwood nel Nottinghamshire la regione dove un tempo si aggiravano Robin Hood e i suoi allegri compagni. Malgrado le circostanze quel posto dava gioia ad Annie. Da adolescente era stata più brava come arcera che come calciatrice anche se quest'ultimo sport garantiva migliori prospettive a lungo termine. Esercitandosi a casa nel proprio giardino piantava una vecchia freccia di legno nel centro esatto del bersaglio e la prendeva di mira da 100 yard con l'obiettivo di spaccarla a metà come Robin di Loxie. 16 volte l'aveva colpita ma neanche una delle sue high flitz con la punta d'acciaio erano riuscite a spaccarla. Le prime settimane a Mansfield Annie riusciva solo a girare la testa ma poter vedere dalla finestra le cime verdi della foresta di Sherwood che frusciavano quasi a sfidarla la spinse a considerare un recupero al di là di quello previsto dallo staff medico. Dopo quattro mesi diede una carta di credito alla sua chiropratica preferita Mildred e le chiese di andare da Hetheringdance un negozio di articoli sportivi e comprare un arco tradizionale di pino con una tensione della corda entro i limiti che Annie aveva scritto nonché una singola freccia di legno con alette naturali. Voglio lanciare quella freccia nella foresta e ti chiedo di segnare il punto in cui cade. La direzione non sarà contenta di vedere delle frecce che volano fuori dalle finestre, cara disse Mildred. Annie parlò rapidamente come se avesse memorizzato le frasi successive Quando potrò camminerò fino a quel punto da sola e troverò quella freccia e allora saprò di essere guarita. Tu pensi che io stia esagerando ma l'unico motivo per cui la persona accetta di attraversare una palude di merda nella vita è perché pensa che dall'altra parte possa trovare latte e miele. So che non potrò più fare sport ma camminerò e quella foresta sarà il primo posto in cui accadrà quindi tu segna il punto in cui cade la freccia e segnalo in modo che rimanga per un po' di tempo. Va bene? Mildred sembrava aver imparato anche lei a memoria le frasi di buonsenso con cui rispose. Annie doveva darsi degli obiettivi meno ambiziosi fare un passo per volta e altri luoghi comuni simili ma Annie si fidava della chiropratica per buone ragioni. la sua fronte poteva anche aggrottarsi quando sorrideva ma il suo sorriso era sufficiente. Se c'è qualcuno che può farcela cara di sicuro sei tu posteggerò una rover nel punto esatto e le toglierò il motore se necessario Dio è dalla tua parte lo sento nel profondo del cuore. Annie non credeva in Dio ma dalla sua gola uscì un suono che non emetteva da prima dell'incidente. Era il suono di chi assaggia un cibo delizioso riceve una carezza erotica o assiste a un'impresa sportiva incredibile torna a vivere torna a desiderare. Due anni se non riesco a raggiungere quel punto in due anni quello sarà il posto in cui ti chiederò di seppellirmi. Annie Teller era giunta a Mansfield on Sherwood da sola. Nei primi mesi le compagne di squadra le fecero visita ma erano impegnate sempre in viaggio e Annie sapeva che vedere un atleta costretto a letto gettava le altre nel panico. Le sorelle di Annie andarono a trovarla ma i suoi genitori non le telefonarono mai. Sua madre, che Annie preferiva chiamare Judith Teller l'aveva abusata sessualmente da bambina. Suo padre, camionista che Annie preferiva chiamare Wilfred Teller gliel'aveva lasciato fare. Entrambi erano devoti, cosiddetti cristiani. Annie, una volta uscita da quella casa di peccato non aveva mai più messo piede in una chiesa. Era Wilfred Teller che aveva lasciato in eredità ad Annie la sua competitività cosa di cui si era resa conto quando aveva detto a una compagna di squadra penso che mi piacerebbe battere quel bastardo ubriacone a qualcosa e l'aveva fatto. Diciotto settimane dopo Annie lanciò la sua freccia di legno nella foresta di Sherwood. Certi muscoli si erano atrofizzati ma l'istinto fisico trovava modo di durare. La freccia volò a lungo e dritta affondando tra le foglie verdi e l'ombra scura. Mildred si aspettava di sentire dei passi indignati ma non ce ne furono. Poi si infilò stivali, cappotto e cappello strizzò l'occhio ad Annie e si inoltrò nel bosco per cercare la freccia e segnare il punto. Un mese prima del termine di due anni che si era autoimposta dopo settimane di passeggiate più brevi all'interno Annie si avventurò giù dalle scale e per la prima volta da quando la moto l'aveva investita uscì all'aperto. Non c'erano mura o recensioni là fuori ma il suo desiderio di riuscire la spingeva più di qualsiasi allenatore. Ci mise tre ore a trovare il punto dove era caduta la freccia. Mildred l'aveva segnato con un grande crocifisso di ferro a cui Annie ne fu scioccata la chiropratica aveva costretto un giardiniere a dare una base di cemento. Un'ondata di gratitudine la scosse. Le sue deboli gambe cedettero e Annie cadde sul muschio morbido. Stretta al crocifisso si scoprì furibonda per l'errore della donna. Annie scosse la croce finché la sfilò dalla sua base e alzò il volto ansimante sudato contro la pioggia leggera. Dio non c'entra niente con questo! È stato Robin Hood! La cittadinanza americana di Giuditta Teller era l'unica cosa utile che la madre avesse mai fatto per Annie. Altri due anni dopo, Annie era la Robert Emmett McDonagh School of Business presso la Georgetown University negli Stati Uniti e si stava laureando in Statistica, anche se non aveva mai dimenticato la convinzione del personale della Mansfield che il suo destino fosse di diventare infermiera. Con un permesso di lavoro in mano e in attesa della Green Card accettò un lavoro alla MLD dove fra le altre cose elaborava dati da un sistema che teneva sotto controllo le nascite e le morti nel paese. Il lavoro le sembrava adatto a lei. Annie stava vivendo una seconda vita e il fatto che zoppicasse era l'unico indizio che ne aveva avuto un'altra prima. Aveva conosciuto Tawna Maydewy nel posto più americano di tutti, Disney World. Ma Tawna non era l'illusione di un progettista della Disney. Dopo settimane di mail, Annie sapeva di essere innamorata della grande californiana bionda, alta come lei ma più morbida in tutto. Tawna era l'opposto delle insonni carrieriste di Washington, dormiva fino a tardi, bighellonava nei caffè sotto il sole di Los Angeles, divorava film noir e paragonava la zoppia di Annie alle camminate sexy di Lauren Bacal e Gloria Graham. Gli impegni impedirono un secondo appuntamento per mesi, cosa che spinse Annie a chiedersi se quello fosse un messaggio di Robin Hood. Certo, non di Dio, che la loro storia non era destinata a realizzarsi. Poi Tawna cominciò a inviare le foto dei pozzi di Catrame di Labrie, che erano vicinissimi a casa sua. Possiamo accanto alle melmose rovine della terra preistorica, le scrisse, e anche il cuore di Annie divenne mieloso. Lei rispose, Se il mondo finisce nella melma, ci troveremo sulle rive della bella Labrie, diceva sul serio. Pensava tutti i giorni di lasciare la MLD. Qualche settimana più tardi, la mattina del 24 ottobre, desiderò più che mai di averlo fatto. Quello fu il giorno in cui i morti smisero di restare morti e fecero saltare le statistiche. I modelli della MLD e qualsiasi altra cosa al mondo. Annie non riusciva a mettersi in contatto con Tawna. Le inviò sms per tutta la mattina, ma il suo telefono si rifiutava di segnarli come consegnati. All'ora di pranzo, Annie si mise a telefonarle. Persino Tawna, pigra e con l'ora del pacifico, doveva essersi alzata. Invece della segreteria, Annie sentì il suono di occupato. Le reti telefoniche stavano collassando, dicevano i colleghi. Annie guardò con rabbia lo strumento di plastica che un tempo significava tanto per lei. La gente aveva cominciato ad andarsene fin dall'inizio della giornata, ma le tre e un quarto, chissà perché, fu l'ora della massa critica. Lo sgocciolio divenne una marea e quando gli statistici nei due cubicoli ai lati di Annie se ne andarono, lei capì che era il momento di cercare le cose importanti. Come una volta, aveva cercato una freccia di legno lanciata da una finestra. Incrociò brevemente lo sguardo con la lontana Etta Hoffman che mangiucchiava frutta secca polverosa con la solita indifferenza. Annie raccolse la giacca e la borsa, come faceva sempre, e uscì. La strada era un caos di claxon, macchine che sterzavano all'improvviso e persone che vi passavano in mezzo. Dovette camminare 40 minuti prima di trovare un taxi da condividere con un'altra donna diretta all'aeroporto Dulls. Annie chiese alla donna se aveva un biglietto. Lei le rispose di no. Annie le chiese dove intendeva volare. Dovunque rispose la donna tranne che qui. Dopo ore di nausea passate in code serpeggianti a spingere e gridare a piedi nudi a causa dei tacchi scomodi che si era messa quel giorno Annie prese quello che poteva un volo notturno per Los Angeles con scalo di 5 ore a Las Vegas. La Brie si ripeteva per cancellare gli uomini urlanti e i bambini in lacrime. Lo scherzo era diventato un giuramento da cui dipendeva ogni cosa. In volo, ore più tardi il pilota annunciò con voce spezzata che la rotta era stata modificata o per Chicago o per Atlanta. Non lo sapeva, cazzo. Nell'istante in cui Annie sentì l'imprecazione seppe che non avrebbe mai raggiunto Los Angeles con mezzi normali. Arrivare ai pozzi di catrame avrebbe richiesto alla medesima tenacia che ci era voluta per uscire da quel letto a Mansfield e andare nella foresta di Sherwood. L'aeroporto internazionale Arsfield-Jackson di Atlanta era disegnato nello stile di un centro commerciale su più livelli. Quel giorno gli acquirenti erano impazziti più che in qualsiasi Black Friday e creavano una confusione che nessun servizio di sicurezza era in grado di controllare. Gli impiegati delle linee aeree tentavano di tenere a bada i passeggeri. Cartellini con i nomi venivano attaccati sul petto delle persone in modo da poterle ritrovare in mezzo al caos. Era un'idea da asilo infantile. non poteva funzionare. Ma Annie scrisse il suo nome e per buona misura aggiunse la propria destinazione. Annie Teller Pozzi di Catrame di Labrie. La maggior parte dei cartellini col nome non durarono neanche un'ora. Annie vide agenti a gate atterrati dalle persone che prendevano d'assalto agli aerei strapieni. Vide gente arrampicarsi sui nastri trasportatori ai raggi X con i portatili stretti al petto e le scarpe ai piedi. Annie uscì zoppicando dall'aeroporto. A fine ottobre ad Atlanta faceva caldo e lei aveva sonno e fame. Percorse l'asfalto rovente delle strade e le banchine di ghiaia seguendo la gente del posto che doveva saperne più di lei. Dopo mezza giornata trovò un autobus cittadino fermo su una strada di accesso all'aeroporto. Portava i passeggeri a Ovest gratis. E ad Annie bastò sentire quella parola Ovest. Salì vedendo qualcun altro con il cartellino col nome e si trovò talmente stretta nella corsia che riuscì a schiacciare un pisolino stando in piedi. Si svegliò per un tumulto colpita da una gomitata nelle costole. La gente gridava e si precipitava giù dall'autobus. Annie scrutò al di là dei corpi che correvano. Era ancora giorno. Era fradicia di sudore. Solo in parte suo. Sentì un odore di diesel dolce e leggero. Seguì la folla come l'aeroporto si trovò in mezzo a una via cittadina. Sulla destra l'autobus il muso schiacciato contro il tubo per versare il cemento di una betoniera. Il retro in fiamme e la metà destra delle sue sedici ruote impastata di una sostanza rossa vischiosa. A sinistra decine di persone scappavano come formiche da un McDonald's le braccia piene di confezioni di cibo. Le due cose erano collegate. Uno dei saccheggiatori del fast food era stato schiacciato dall'autobus e il suo corpo era esploso a entrambe le estremità come un tubetto di dentifricio premuto al centro. Tra l'autobus e il McDonald's proprio davanti a lei c'era un ospedale. parecchi corpi erano distesi su un pezzo di prato dove due donne in camice bianco macchiato di verde si occupavano di loro. In cima a una torre una finestra era stata infranta e ne venivano lanciati dei mobili. Perché? Annie non riusciva a immaginarlo. Pensò alla rete della WSDC che a quanto sapeva ancora funzionava e a com'era essenziale che il personale dell'ospedale continuasse a inviare dati se un giorno si voleva capire cosa stava succedendo. Pensò a Mildred ma come lei e gli altri di Mansfield on Sherwood avevano lodato Annie per la rapidità con cui aveva capito i principi infermieristici. I pozzi di Catrame e di Labrie avevano aspettato diecimila anni. Potevano aspettare ancora qualche ora mentre Annie faceva il suo dovere. Il fallimento della MLD non era nulla in confronto alla catastrofe che si annunciava al Westside Medical Center. L'atrio beige e rosa formicolava di corpi mentre le squadre del pronto soccorso stabilivano quali erano i casi disperati. Annie fuggì. Percorrendo i corridoi vide la metà inferiore di una donna che scalciava mentre un uomo l'aggrediva dopo essersi infilato nella macchina dove stava facendo la risonanza magnetica. Vide un tapirulando in funzione su una sala per la terapia fisica occupato solo da una gamba umana attaccata a un filamento nervoso. Vide incubatrici rovesciate e il corpo di un'infermiera che tre minuscoli neonati dalla pelle blu succhiavano rumorosamente. Annie si inghiozzò di sollievo quando trovò un pronto soccorso affollato. Finalmente un posto dove poteva dare un contributo professionale o meno e proseguire nel suo viaggio verso ovest. bastarono tre secondi perché una donna morta di nome Katrina Gotteborg si svegliasse si aggrappasse al braccio di Annie e la mordesse. Anche i ricordi mordevano Dorchester sei anni prima un contrasto con una robusta centrocampista che l'aveva morsa sul braccio George Town due anni prima a letto con un uomo di nome Barney che l'aveva fatta sanguinare mordendole le orecchie la reazione del tronco encefalico all'essere aggrediti all'essere cibo era primitiva e familiare Annie arretrò mentre i medici o forse dei passanti benintenzionati tentavano di aiutarla vide la carne del suo braccio destro tendersi per 4-5 centimetri e vide due linee rosse comparire mentre i canini di Katrina incidevano la pelle nel tentativo di trattenerla liberandosi con uno strattone Annie arretrò due metri inciampò e cadde pesantemente sulla schiena per qualche attimo vide solo le luci molteplici soli bianchi su un mondo radicalmente mutato quando gli occhi ripresero a funzionare indagò sulle proprie ferite i canini di Katrina le avevano procurato dei piccoli tagli come di rasoio li sentiva roventi e nello stesso tempo ghiacciati il suo stomaco sussultava come se stesse per vomitare ogni battito del polso le mandava al cervello un sangue sempre più denso le sue membra si fecero fredde mentre le sue ossa diventavano così calde che poteva sentire l'odore del midollo smise di sentire i medici Katrina Gotteborg e l'autunno di Atlanta si rannicchiò vicino a un portaflebo premendo il volto caldo sull'acciaio fresco era la sua ultima azione consapevole e lo sapeva la rabbia cedette l'amarezza il romanzo di Annie e Tawna sarebbe dovuto finire con il loro braccio reciproco dove era la scena in cui lo spirito di Robin Hood ispirava Annie affinché continuasse a lottare dove era la scena in cui Annie usava le sue gambe allenate da giocatrice di football per sfuggire a ogni pericolo Annie Teller morì non era giusto aveva affrontato cambiamenti radicali ma niente di paragonabile a quello che sperimentò 14 minuti dopo la morte era sempre Annie Teller il cartellino con il nome lo precisava ma non solo Annie Teller era anche Katrina Gothenburg era anche parecchie altre persone era tutti loro era tutti tu sai cosa hai perduto conosci il desiderio di riempire il vuoto impari a camminare da lì cominci la caccia solo dal numero di veloci che assaggi si può misurare il progresso mentre banchetti con le chiappe di un veloce un ricordo emerge palpabile come il sangue che ribolle sulla tua lingua è un po' lo vedi ma non riesci a evocarne gli odori i suoni i sapori o le sfumature vedi alberi verdi con lunghi tronchi senza foglie vedi alte recinzioni intorno a pozze nere il nero è catrame un mammut viene risucchiato nel catrame non ti rendi conto che è una scultura senti il terrore della bestia ma non ne provi tu stessa le foto che ricordi sono accompagnate da lettere ventidue lettere sempre nello stesso ordine curioso le trovi ripetute sul pezzo di carta che hai sul petto pozzi di catrame di labri non sai come sia straordinario per te collegare un pensiero a delle parole scritte quello che sai sono tre fatti i pozzi di catrame di labri sono un posto i pozzi di catrame di labri sono lontani i pozzi di catrame di labri è dove devi andare la tua zoppia ti rallenterà non ti fermerà cammini per mesi o giorni o settimane o solo per pochi minuti finché esci dall'ospedale senti i veloci da tutte le parti questo è un bene durante il viaggio per i pozzi di catrame di labri userai i veloci per creare altri tu c'è un sacco di tempo perché il tempo non esiste guardi il sole è arancione e basso nel cielo hai la sensazione di doverlo seguire ancora cammini per secondi o minuti o giorni o settimane o mesi finché il bisogno di avere uno dei veloci non ti soverchia ti fermi e vedi un edificio alto con la facciata specchio decidi di entrare ci sono delle lettere sull'edificio solo tre molto meno numerose di quelle che costituiscono la frase pozzi di catrame di labri non sai leggerle ma i loro segni a guzzi a zig zag ti ricordano i monitor che hai visto all'ospedale questo deve voler dire che c'è vita all'interno che ci sono dei veloci ti piacciono molto quelle tre lettere W W N sarcofagi vaffanculo mi prendi in giro pezzo di merda Luisa Cocella gridava rivolto al telefono il suo migliore amico la sua Nemesi mentre incoraggiava le decisioni più ardite di Charlie come sfondare la plastica rossa di un cartello di Wendy's per evitare un incolonamento o distruggere un roseto in un giardino per schivare la strettoia era riuscito a digitare istericamente le molte e lunghe password necessarie per aprire una versione lillipuzziana della home page della WSDC il suo scopo era caricare manualmente quella che riteneva una rivelazione fondamentale del caso John Do che un colpo al cervello era stata l'unica cosa che l'aveva affermato e adesso scopriva che quel maledetto accesso era collegato al maledetto indirizzo IP del maledetto obitorio aveva informazioni che potevano salvare delle vite e nessun modo per divulgarle a meno che non fosse il segnale di merda che lo rallentava per Luis questa era un'ansia abbastanza familiare da risultare confortante e vi si aggrappò tenendo in alto il telefono fuori dal finestrino del passeggero come se servisse a qualcosa e poi cancellando delle app di sfondo come se anche questo servisse a qualcosa la Prius superò una cunetta il traffico si muoveva solo a singhiozzo a 15 all'ora ma le sospensioni dell'auto sobbalzarono l'ostacolo era più di un normale dosso Luis guardò nello specchietto retrovisore non guardare indietro a cocella buon consiglio dopo quello che avevano visto all'obitorio e lungo le strade è meglio non sapere anche se questo andava contro l'istinto del medico Luis si strinse nelle spalle rivolto a Charlie sperando di esprimere una goffaggine che poteva incoraggiarlo a continuare per un po' era come quando da bambini con suo fratello Manolo riparavano la ruota della bicicletta le pezze di gomma adesiva reggevano per qualche chilometro una distrazione dall'inferno che era uscito strisciando dal frigorifero dell'obitorio e aveva cominciato a invadere le strade di San Diego ripensò a quando era corso fuori dal Fabis Spanish Palace alla prima volta che aveva visto il corpo di John Doe rannicchiato a terra nel sottopassaggio come sembrava strano adesso il suo litigio con il detective Walker nelle ore trascorse da allora Luis aveva visto molti corpi sui marciapiedi prati portici e giardinetti e un paio li aveva colti nel momento in cui si rialzavano in piedi eppure dichiarare che quella era la fine del mondo era prematuro i fast food aperti 24 ore su 24 continuavano a vendere ictus confezionati e i bancomat notturni continuavano a erodere stipendi solo una cosa era davvero al collasso le strade una centrale elettrica doveva essere andata in blocco da qualche parte perché i semafori e i lampioni erano spenti nemmeno un passeggero con la mappa mentale completa della città o un guidatore degno di Indianapolis sarebbe riuscito ad arrivare da qualche parte statali provinciali corsi vicoli qualsiasi rotta tentassero un incidente un veicolo abbandonato o una barriera di cavalletti li ostacolavano Luis sentì che Charlie gli stringeva il polso della mano libera forse era la paura il disorientamento ma quel contatto gli fece bene dovete liberare il polso per scegliere Rosa tra i suoi preferiti il cellulare diceva che era la trentatreesima volta ancora è sempre il segnale morto che non aveva mai sentito prima l'auto sobalzò di nuovo mentre Charlie frenava di colpo davanti al finestrino di Luis c'era una clinica veterinaria trucioli di sporcizia filtravano da sotto le porte e baffi e peli spuntavano dalle finestre gli animali tentavano di uscire Luis fece per scattare una foto ma aveva l'archivio pieno bestemmiò tornò indietro e guardò le miniature per scegliere una foto da cancellare non c'era una tribù di indigeni che diceva che le foto ti rubano l'anima chiese Charlie se è vero siamo tutti vuoti hai battuto il record devi smetterla di guardare il telefono il disastro in corso a Coachella si sta verificando davanti ai nostri occhi cazzo ma certo beh sei più entusiasta di quello che mi aspettavo no i social media cazzo ecco come lo diffonderò ma dai premette preferiti e andò su twitter Taylor Swift Justin Bieber conto su di voi ragazzi Charlie sbuffò facendo sorridere Luis un'altra pezza su un'altra gomma la Diner aveva conservato il suo spirito Luis glielo concedeva guardò Charlie e dovette ammettere che non era mai stata più bella il camice era scomparso da un pezzo e aveva lasciato emergere un insieme di vecchi shorts discoloriti jeans e una camicia di flanella elasticizzata gli abbondanti capelli biondi sembravano bolle di sapone sotto una brezza Luis aveva già notato come nei momenti di crisi si affilasse tornando all'agilità e all'energia della sua gioventù di park chester tutta alcol e botte era attraente inutile negarlo non si era mai sentito più grato di stasera per questo casa a cocella era a 10 chilometri dall'obitorio un quarto d'ora di macchina in una sera normale ma erano partiti da ore ormai e Charlie conservava una tensione tranquilla da atleta era fortunato ad averla questo non era cambiato l'umorismo cinico era la chiave per stare bene in un obitorio adesso era assolutamente essenziale se volevano ignorare tre grosse domande minacciose finché non fossero arrivati alla mesa la prima Rosa era ancora viva era una domanda talmente al di là di quanto Luis poteva immacinare il giorno primo scendo di casa che trovava facile evitarla assurda come un'invasione di Ieti Luis vedeva la seconda domanda negli sguardi che Charlie lanciava lo specchietto retrovisore era più difficile ignorarla Lindolf l'uomo che godeva per la caduta di JT al Trump International Hotel li stava seguendo in qualche modo lui o qualche suo socio Lindolf aveva tentato di gettare Luis nel panico e per quanto lui volesse ignorare quel bastardo il panico era l'emozione del giorno Luis aveva conosciuto uomini che parlavano come Lindolf uomini di potere che facevano dei rancori gli hobby di una vita e sospettava che Charlie avrebbe controllato lo specchietto retrovisore per molto tempo la terza domanda naturalmente era la più grossa cosa cazzo era tutta questa storia quando tagliarono una spalletta per uscire dalla Martin Luther King Junior Freeway intasata Luis immaginò la targa del suo ufficio davanti a Pizza Hut che veniva sbarrato vide la targa dell'home depot sull'imperial da cui la gente usciva correndo con quelli che immaginava fossero beni rubati zappe pali e altri oggetti contundenti inseguita dagli operai con le tute arancioni immaginò la placca in cima la chiesa di Dio di Santo Stefano che sembrava impegnata in una cerimonia notturna con tanto di parrocchiani armati a tutti gli ingressi questo è il luogo in cui la morte gode nell'aiutare la vita curioso tante volte si era soffermato sulle parole della frase latina e mai aveva prestato attenzione alle prime quattro questo è il luogo solo che il luogo si era allargato ben al di là dell'ufficio di Luis e il modo in cui i morti stavano aiutando i vivi restava tutt'altro che chiaro eppure Luis subodorava che ci fosse qualcosa come aveva subodorato che nessuno dei colpi ricevuti da John Do fosse stato mortale aprì twitter la foto del profilo molto filtrata di lui che esibiva un gran sorriso bianco all'ultimo pride la patetica biografia assistente medico legale di San Diego artista del ceviche mi piacciono sempre i chargers l'archivio dei tweet inviati e ignorati dei suoi 834 follower questo post forse sarebbe stato diverso cominciò a scrivere decise che era il caso di usare le maiuscole e ricominciò urgente sono un medico e l'unico modo per fermare questa epidemia si fermò pensava all'evento come un'epidemia ma questo non avrebbe detto niente agli altri come li chiamo chi quella gente i maledetti John Do e come faccio a saperlo la radio li chiama sempre solo loro sei tu quello su twitter rispettore gadget giusto luis cliccò sull'icona ricerca e fece scorrere i trend le prove dell'epidemia erano lì ma non si erano ancora raggruppate sotto un unico hashtag e venivano inserite sotto hashtag ben heinz l'amato autore doveva aver fatto una dichiarazione effetto luis tornò al suo messaggio sarcofagi illuminami dal greco sarco carne e fagi mangiatori mosche carnarie in sostanza quelle che depongono le loro larve durante le fasi di putrescenza attiva di un corpo charlie sterzò per evitare un'orda di macchine clacsonanti e luis fu schiacciato contro la portiera vediamo se ti seguo capo se ricordo il video che ci hanno fatto vedere a scuola le larve sarcofagi e compaiono quasi immediatamente entro 24 ore hanno sulla testa dei piccoli uncini per poter mangiare la carne in putrefazione senza scivolare via non possono andare da nessun'altra parte ben presto ce ne sono talmente tante all'opera che la temperatura del cadavere sfiora i 49 gradi una cucina molto calda sì nel giro di una settimana il 60% del cadavere è scomparso è quello che mi preoccupa solo che il corpo è Luis indicò lo skyline di San Diego Charlie emise un gemito per stroncare sul nascere il suo atteggiamento melodrammatico anche lei stava riparando le gomme della bicicletta per restare nella normalità finché non avessero trovato Rosa sana e salva Luis le fu grato per questi sforzi completò il suo post evitando i sarcofagi ci sarebbe tornato in seguito urgente sono un medico e l'unico modo per fermare i morti tornati in vita è un colpo alla testa per favore diffondete gli restava circa metà dei suoi 280 caratteri bene prezioso per i milioni di condivisioni che si aspettava ma cos'altro c'era da dire le autorità non offrivano niente a cui aggrapparsi e lui non aveva nulla da allegare a dispetto delle minacce di Luis e di Charlie a Lindolf nessuno dei due aveva scattato una foto a John Do lui non aveva neanche una dei registri dell'obitorio per ottenere un minimo di legittimazione non aveva altro che la verità la verità doveva bastare non era questa l'America premete tweet poi aggiornò la sua pagina per vederlo comparire di solito i social media gli davano il formicolio di attesa che vedevano i pazienti quando premevano i pulsanti accanto al letto per ottenere morfina o fentanyl stavolta no il servizio di San Diego era ridotto a una sorta di segnale anemico suddiviso fra gli zotici delle Badlands del sud Dakota e il Panhandle del Texas ma la barra dei caricamenti si muoveva per cui Luis confidava nell'app credeva in Twitter più che in Dio e scorse per vedere se c'erano notizie fresche ce n'erano ma ci mise un po' a vederle il testo si presentava con un'apparenza innocua qualcuno sa cosa succede a Lower Walker la gente abbandona l'auto la polizia circonda un'agenzia di pompe funebri a Lawrence il sottointeso era però più cupo e Luis dovette aprire i commenti su Lower Walker sono le gang di neri del sud sono venuti fuori dalle gallerie sulle pompe funebri un poliziotto mio amico dice che sono gli ebrei che l'hanno occupata perché le sinagoge fanno schifo il grosso dei post seguiti da Luis riguardavano San Diego persone che conosceva o amici di amici più progressisti e più istruiti della media di quelli che intervenivano fu quindi con nausa crescente che Luis lesse aggiornamenti che sembravano scritti dal detective Walker sembra di essere a Tijuana un amico avvocato che aveva invitato a cena a cocella metti giù il telefono ondata criminale a SD stasera comincio ad apprezzare l'idea del muro l'agente immobiliare che gli aveva venduto la casa a cocella per favore ci vuole una milizia di cittadini per portare in discarica questi merdi cani un consigliere municipale a cui Luis aveva dato il voto il riferimento era al fatto che il settore della raccolta rifiuti era dominato dai latini a cocella dammi retta subito Charlie si fermò sbandando Luis fu trattenuto dalla cintura di sicurezza con tale violenza che si sentì segare in due il telefono gli volò via dalle mani e il rumore di plastica gli fece venire in mente dei denti rotti cosa improvvisamente facile da immaginare con pochi tocchi sullo schermo era passato da potenziale salvatore a responsabile dell'invasione dei sarcofagi la risposta lo attendeva nella luce dei fari davanti alla Prius abbastanza vicini perché Luis potesse sentire gli oggetti che tenevano in mano sbattere contro il paraurti c'era un quartetto di individui quattro quattro vittime dell'epidemia pensò Luis poi vide il lampo di otto occhi nessuno dei quali bianco gli uomini puntarono le torce dei cellulari sulla macchina fecero un soghigno all'indirizzo di Charlie guidatrice incapace ma guardarono Luis con maggiore durezza gli oggetti che sbattevano contro il paraurti erano piedi di porco mazze da baseball chiavi inglesi e asce Luis si disse che andava tutto bene la sua macchina era ferma accanto a un Duncan Chambeles all'angolo di un Danny le cose brutte non succedevano davanti a simili icone americane ma quando uno degli uomini mormorò una parola e gli altri si disposero intorno all'abitacolo Luis perse la fiducia nella sicurezza promessa del suo paese di adozione e si chiese come aveva potuto credere che sarebbe durata per sempre la 38 che aveva in tasca pesava il doppio tutto bene signora potrebbe andare meglio se vi allontanaste dalla mia macchina dobbiamo proseguire recogliamo la spazzatura questa sera sogginò chiave inglese nuova allusione e latini addetti e rifiuti il tentativo di metterle paura infiammò la Diner guardati allo specchio allora stronzo dai gas Charlie piede di porco puntò la sua arma vogliamo che il messicano scenda dalla macchina signora e io voglio proprio vedere cosa sai fare pallone di birra bastardo xenofobo chiave inglese e ascia si avvicinarono alle portiere vuoi premere quell'acceleratore Charlie ubbidì tenendo un piede sul freno una mossa appresa probabilmente alla scuola media del Bronx lo stridore dei pneumatici e le nuvolette di fumo fecero scappare i quattro assalitori e a quel punto Charlie mollò il freno e la Prius scattò in avanti con la portiera di Luis che strisciava contro un parchimetro sollevando una fontana di scintille Charlie esultò manovrando il volante per mantenere il controllo mentre con l'altro braccio alzava al medio fuori dal finestrino tu Luis non riusciva a dire altro tu zitto lo so che ti piace non mi piace affatto gridò Luis anche se in quel momento la sua paura era annullata dal vento che si sentiva nei capelli dal motore che gli rombava sotto i piedi dalla perfida risata della bella donna seduta al volante da tempo sospettava che Charlie fosse innamorata di lui adesso si chiese se lo stesso sentimento non fosse rimasto nascosto in profondità sotto il proprio atteggiamento professionale almeno è staccato gli occhi da quel telefono le aveva staccati e come e cinque minuti dopo zigzagando fra i pedoni sulla circonvalazione di Highwood Park la zona dove vivevano lui e Rosa Luis ne fu felice mentre si avvicinavano al complesso residenziale per militare Lincoln che corrispondeva esattamente al suo nome Luis era attento e concentrato di fronte all'ingresso c'era una folla pulsante di varie umanità che bloccava la strada in un primo momento Luis pensò che fossero altri guerriglieri a caccia di merdi cani poi sperò che fossero soldati in libera uscita che garantivano autonomamente la sicurezza della zona mentre Charlie rallentava Luis si accorse che qualunque cosa fosse era finita molto male quello che Luis aveva scambiato per un falò era una casa in fiamme che illuminava la strada di fronte a loro l'ordine militare non regnava affatto non c'era alcun ordine una parte della folla si era buttata addosso all'altra e il primo gruppo si agitava e succhiava come larve sarcofage erano anche un po' incerti sulle gambe stavano imparando a camminare come bambini forse epidemia era la definizione più giusta dopo tutto è troppo tardi per fare inversione Luis rispose senza riflettere dov'è la tua casa indicamela Luis subì come un bravo bambino la scendi dalla macchina cocella scendi dalla macchina Luis prese il suo telefono e scese Charlie lo afferrò per il polso e corsero ma non furono abbastanza veloci Luis riuscì a vedere più che a sufficienza le persone venivano mangiate era la terribile conseguenza logica delle dita oncino e delle labbra schioccanti di John Do alla luce dell'incendio Luis vide bocche aperte che cancellavano facce intere dita che strappavano femori lingue che lambivano interiora quando Charlie esitò a sei o sette metri dall'incidente Luis vide tre persone cadere vittime dei sarcofagi non riuscì a capire se erano vicini che conosceva perché dispositivi li rendevano per lo più irriconoscibili era un'ironia che fossero i morti ad avere dei volti mentre i vivi si conoscevano solo attraverso i loro involucri qualcuno digitava disperatamente col pollice nel giro di pochi secondi entrambi i suoi pollici erano scomparsi stritolati fra le mandibole un altro controllava una notifica continuava ancora a leggere a faccia in giù sull'erba con dei denti affondati nella spina dorsale la dopamina compensava la perdita di sangue una tizia scattava foto a un sarcofago mentre gli rodeva le gambe preferiva guardarlo attraverso l'obiettivo come Luis quella scatoletta dava l'illusione che tutto fosse arginabile controllabile ed eliminabile con un semplice tocco Charlie lo trascinò giù da una scarpata attraverso un canale oltre una piscina da giardino prendendo una scorciatoia per raggiungere Rosa Luis avrebbe dovuto riconoscerlo Charlie stava correndo verso la moglie dell'uomo che desiderava ma andavano troppo veloci il mondo si confondeva come le immagini sullo schermo del suo cellulare se si passava accanto a cose terribili senza avere il tempo necessario si smetteva di vederle si smetteva di sentirle ed era allora comprese che si cominciava a morire ursh climb andando in bicicletta dal villaggio di case mobili Sunnybrook al centro di Bulk Missouri si impiegavano venti minuti ma questo se si andava da soli col sedere sul sellino le gambe ben distese il vento in fronte che ti dava l'illusione di andare a cento all'ora a bordo di una decca potabile talmente veloce che in primavera la pioggia ti si apriva davanti come un mare biblico e in autunno le foglie morte si allontanavano come ballerine quando entrava in scena la prima donna tu in sella la squina azzurra di Fadi Lolo Greer Morgan soffriva per la velocità miseramente dimezzata il loro peso combinato schiacciava le gomme della bicicletta e le faceva affondare nel fango fino ai raggi il percorso era già desolato nelle giornate normali ma oggi Greer vedeva abbastanza brutti segni da essere tentata di saltare giù dalla bici e mettersi a correre un cane sperduto che si trascinava dietro un guinzaglio insanguinato una station wagon crivellata di pallottole il tabellone dei punti nel campetto di baseball su cui appariva una sola parola run andare in bicicletta era comunque più veloce che camminare per cui si rassegnò dritto 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 di qui è più veloce anzi mofadi accennando a dei magazzini abbandonati non puoi passare di lì più veloce stavano succedendo molte cose che a Greer non piacevano sedere immobile mentre quel servizievole siriano faceva tutta la fatica aggrapparsi alla sua vita come una damigella non essere ubbidita quando dava indicazioni sulla strada da seguire anche se era lei quella che aveva passato a Bulk tutta la sua stupida vita se vogliamo chiamarla così quello che la faceva tacere era la sicurezza gentile di Fadi e il fatto che continuava ad avere ragione era logico era lui quello che riusciva a trovare belle le dolci colline del Missuri gli alberi scheletrici e i palli di tramonti lui aveva preso scorciatoie che lei non aveva mai avuto l'energia di percorrere Fadi centrò un'apertura di un metro circa fra delle baracche arrugginite come si era intrufolato in mezzo al traffico per uscire da Sunnybrook Greer si reggeva con forza e vide davanti a sé il buco nella recinzione che avrebbe abbreviato di un paio di minuti il loro viaggio era un buon segno ma lei era brividi comunque Fadi Lolo forse amava raccogliere rifiuti e salvare ragazze nere da roulotte assediate ma era anche un uomo e non ci si poteva affidare del tutto di punto in bianco poteva svoltare in uno di quegli edifici e tentare di sopraffarla non serve grosso coltello andiamo in città per nostro fratello Greer dovette abbassare lo sguardo per accorgersi che aveva ancora il macete puntato contro la schiena di lui si impose di calmarsi aveva una borsa piena di armi da caccia quel mattoide avrebbe dovuto essere del tutto fuori di testa per tentare qualche scherzo quando gli aveva detto che voleva andare in città per cercare suo fratello Conan aveva risposto nostro fratello abbiamo tutti lo stesso fratello adesso sì? si sarebbe fidata di quel tizio con Vienna Morgan persa nel sistema carcerario e Freddy Morgan idrofobo e senza faccia non le restava che seguire l'istinto papà le venne voglia di singhiozzare cosa avrebbe detto a Conan? se non si distraeva non avrebbe avuto neanche la forza per restare aggrappata la vita di Faddy mister cosa fai tu? faccio quello che faccio per divertirti e cosa fai per divertirti? devi misurare la pressione di gomme e lubrificare catene della bici ti prendi cura della tua bicicletta e poi guardo molto tv e cosa guardi? Damages Damages cos'è? Damages è un legal drama premio Emmy con Glenn Close che fa Patty Hughes Greer rise fece una pausa e rise di nuovo non aveva mai sentito Faddy dire tante parole in una volta sola e quella era probabilmente la cosa più buffa che aveva sentito in vita sua la risata era una magia che si alimentava da sé sentì che ne arrivarono altre e ne aveva molto bisogno e cos'altro? New Girl è una sitcom che ha avuto alcune nomination all'Emmy e Zui Descanel fa Jessica Day ci tieni proprio agli Emmy mister X-Files è una serie premiata con l'Emmy con David Ducevni che fa Fox Mulder e Gillian Anderson che fa Dana Skelly oh questa l'ho vista Flukman è lui la merda L'ospite in corpo secondo episodio della seconda stagione qual è il tuo episodio preferito? intelligenza artificiale è episodio dove parlano di Ursh Climb è quello che fuma Ursh Climb è fango primordiale è vita in mezzo fra vita delle piante è vita degli animali è vita mancante vuoi dire l'anello mancante? mio padre diceva che era sempre Conan quello non c'è solo vita e morte non così semplice ci sono molte sfumature la risata di Greer si spense sì credo che tu abbia ragione io ho visto ma questa parola ho imparato da Dana Skelly le famose scogliere del Missuri correvano lungo il Mississippi ma la metà occidentale dello stato non era priva di colline la cima che avevano di fronte coronata da alberi spogli sembrava un mento barbuto e capovolto arrivando sul crinale si vedeva tutto quello che la città di 4.000 abitanti aveva da offrire se il cuore reggeva l'emozione il bar di Jimmy il negozio di auto Shopko Canco gommista e autofficina la mutua del contadino Casey e i condomini della Reschi tutti raccolti intorno alla piazza della miserabile cittadina come per pisciare quando arrivò in cima Fadi era senza fiato scese dalla bici e fece qualche passo incerto per respirare Greer si allontanò in direzione opposta il macete in una mano la borsa nell'altra sicché si trovavano a distanza di qualche passo impossibilitati a sentire il conforto reciproco dei loro corpi quando videro cos'era diventata la piazza della città una delle pompe di benzina di Casey era in fiamme una fornace che rugiva e scavava un buco nella tettoia della stazione di servizio ancora più scioccante era il fatto che l'incendio veniva ignorato nessuno con un estintore né camion dei pompieri a sirene spiegate nessun vigile che faceva cambiare strada agli automobilisti per il rischio di nuove esplosioni Bulk era abitata da persone stupide e corrotte Greer l'aveva sempre saputo ma non credeva che fossero così cattive erano cattive invece e molto peggio di così a quanto pareva tutti quelli che vivevano nel giro di dieci isolati si erano ammassati nella piazza circa 300 abitanti formicolavano come una sola massa rabbiosa una linea netta divideva la folla in due gruppi diseguali il gruppo più numeroso raccomposto in prevalenza da bianchi con cappellini retine per capelli grembiuli da lavoro e soprattutto uniformi grigie della Hortiplastics come quella che indossava suo padre brandendo pistole scope e altre armi gli operai della Hortiplastic minacciavano uno di quei lingiaggi che Greer aveva visto solo nei film per quanto preferisse chattare al telefono anziché guardare video di storia la sua tensione si destava quando sullo schermo comparivano dei neri di solito in scene del genere dove venivano picchiati in Alabama in Arkansas o in Mississippi ma avevano l'aria orgogliosa e più tosta che mai si aspettava che il secondo gruppo più piccolo fosse quello dei nemici che aveva affrontato a Sunnybrook ma quello che distingueva quelle 40 o 50 persone della folla della Hortiplastics erano le barbe più scure qualche hijabe vestiti che anche a quella distanza avevano l'area di essere stati presi a caso dagli scaffali dell'esercito della salvezza erano i rifugiati siriani motivo di orgoglio dei legislatori di Jefferson City oggetto di disprezzo per i residenti di Bulk Greer ebbe l'impressione che la mancanza di armi dei siriani fosse dovuta non tanto alle loro posizioni pacifiste quanto al poco tempo che avevano avuto per organizzarsi erano usciti per difendersi nessuno all'ultima spiaggia avrebbe dato un centesimo per il villaggio ma per le loro cose avrebbero lottato rifugiato Greer era abbastanza sicuro che volesse dire una persona costretta a scappare i condomini della Ruski potevano essere infestati da pulci e topi ma per quei compatrioti di Fadi era davvero l'ultima spiaggia espressioni di odio tese come muscoli si levavano tra quelli della Orti Plastics Greer Greer conosceva molte di quelle persone negozianti insegnanti genitori di suoi compagni gente che guidava macchine con adesivi tipo ridurre la criminalità non limitare le armi e come si combatte il crimine sparando suo padre proprietario di due fucili parlava di quelle persone in tono troppo preoccupato per essere sprezzante gli piace immaginarsi come eroi diceva ma l'unica cosa che sanno fare è ammazzare la gente guardava Conan giovane e nero mentre lo diceva ma lui come sempre sembrava perso in un mondo tutto suo gli autoproclamati eroi potevano esistere solo in contrapposizione ai cattivi perché non dare la colpa dell'improvvisa violenza ai rifugiati locali molti dei siriani parlavano a malapena l'inglese mangiavano cibo puzzolente occupavano troppe panchine nella piazza della città troppo spazio per i picnic nel parco erano dei mantenuti e dovevano smettere di accaparrarsi tutti i posti di lavoro Quasim aveva detto cose del genere la sera prima e lei aveva semplicemente pensato che erano noiose era una persona diversa allora ormai anche Quasim avrebbe potuto essere diverso dove era non vedeva molti adolescenti tra la folla a scuola probabilmente forse gli insegnanti avevano scelto di barricare gli studenti contro la crisi in atto bene Greer avrebbe dato a Conan il macete e a Quasim il coltello e loro tre avrebbero fatto quello che bisognava fare Greer e Fadì arrivarono proprio mentre esplodeva la miccia tre uomini in prima fila tutti con le tute della Orti Plastic spinsero i rifugiati e un siriano si girò per proteggersi la faccia gli stigatori scattarono e iniziarono le spinte gli schiaffi e i pugni che Greer aveva visto nelle risse del posteggio gente che cadeva a terra sangue che sgorgava facce rosse e respiri trattenuti gomitate sulle labbra dita negli occhi se lavoravi per la Orti Plastics dovevi ingoiare l'orgoglio e qui avevi l'occasione per riconquistarlo i tuoi amici e colleghi da una parte e quegli arabi del cazzo dall'altra Greer rabbrividì da che parte sarebbe stato suo padre sentì di nuovo la sciarpa bagnata di Fadì Lolo sulla faccia e capì che era stata lei ad andare verso di lui e non il contrario a dispetto della sua borsa piena di armi lei voleva solo evitare quella lotta mister possiamo arrivare alla scuola da un'altra parte attraverso la discarica no lei guardò la sua faccia sporca di fango e i capelli incollati al viso dalla pioggia la placida amabilità del ciclista ossessionato dagli emmi era scomparsa la faccia di Fadì era rilassata ma non indifferente la sua fronte si aggrottava seguendo antiche linee di sofferenza e le sue guance cadevano con vecchie borse di dolore la faccia dell'unica persona felice che Grir avesse mai conosciuto all'ultima spiaggia diventò la faccia di un uomo che aveva visto cose peggiori di quella Fadì accennò alle persone che gridavano e si agitavano come cani in cerca di rifiuti al casalà non so cosa vuole dire vedi non riesce a distinguerli Grir non voleva avvicinarsi di più la gente avrebbe visto lei una ragazza nera e Fadì un siriano e una fazione o l'altra o tutti e due le avrebbero puniti per la loro alleanza ma Fadì non aveva chiesto nulla in cambio del suo aiuto e gli si avvicinò magari aveva gli stessi pregiudizi di quei bastardi con gli adesivi sulla macchina non aveva mai pensato che i siriani potessero inserirsi lì a Burke adesso l'avevano fatto e nel modo peggiore il luogo comune secondo cui il sangue aveva lo stesso colore per tutti non le era mai sembrato più vero e Grir non aveva mai visto tanto gusto per la violenza come in quei rabbiosi con gli occhi bianchi mister Fadì non andare lui si girò in mezzo alla polvere sollevata dal combattimento e la inchiodò con uno sguardo la battaglia aspetta a me aspetta sempre non sei costretto vieni con me possiamo fare quello che vogliamo dalla smorfia di Fadì Grir ebbe l'impressione di aver rivelato qualcosa di vergognoso non dovevo insistere per il villaggio di case mobili Sunnybrook dovevo restare con mia gente cosa dici Grir Morgan perché i morti fanno diventare morti altri e perché vogliono stare con quelli come loro che Fadì sapesse come si chiamava Grir non avrebbe dovuto sorprenderla forse aveva esitato a dire il suo nome per la stessa ragione per cui lei aveva esitato a dire il proprio cucire un rapporto oggi voleva dire vederlo subito disfarsi la bici la sua voce non era mai suonata così debole vai veloce il macete glielo offrì picchia veloce anche lei a noi stai attento Fadì Lolo il suo sorriso inatteso esplose come l'incendio alla pompa di benzina aprendole un buco nel cuore io non posso essere ferito da Naschelli io sono Ursch Klein Fadì partì di corsa e Grir distorse lo sguardo non voleva vedere il primo colpo che riceveva o peggio il primo che dava infilò il macete nella borsa se la fissò sulle spalle come uno zaino e afferrò il manubrio della Squin i pedali di metallo le ferirono i piedi come speroni era lei adesso ad avere la bicicletta tutto ciò che restava di Fadì non si guardò indietro scese la collina in diagonale verso la discarica e la scuola superiore all'arrivo avrebbe fatto la parte della soccorritrice che Fadì Lolo le aveva insegnato e avrebbe salvato Conan avrebbe salvato Quasim magari decine di altri tutti in equilibrio come in uno spettacolo di cheerleader su una bici azzurra con lei che pedalava e li portava al sicuro Persona per bene Nessuna massima giornalistica era più famigerata spregevole e vera di quella per cui il sangue tira ma cosa doveva fare un povero produttore esecutivo quando il sangue colava da tutte le notizie e con tanta abbondanza che la voce del televisivo suonava ingolfata come se il sangue gli gorgogliasse nella gola e la sua pelle appariva attaccaticcia come se gliene avessero appena tolto uno strato ormai pensò Nathan Baseman gli schermi tv dovevano essere coperti di gocce di sangue come di condensa una cosa era certa e gli dava la stessa soddisfazione di quando era a Chicago Kansas City Nashville e Houston aveva l'attenzione della gente beve un altro sorso del bourbon che teneva nel cassetto della scrivania da quando aveva mandato in onda il suicidio di Jansky tre anni prima si era convinto che un giorno ne avrebbe avuto bisogno se non altro per trovare il coraggio di mettersi nel traffico della Interstate 85 aveva superato questo brutto momento senza rompere il sigillo del bourbon adesso a poche ore dall'inizio di questa storia spaventosa la bottiglia era mezzo vuota una parte l'aveva usata come disinfettante versandola sul taglio fra le nocche e sul buco che Rochelle Glass gli aveva fatto nella guancia Dio che male gli faceva Baseman poteva sanguinare d'accordo ma era ancora capace di tirare tentò di concentrarsi sugli appunti che aveva scribacchiato nella sua forma più meccanica il lavoro di produttore consisteva nell'approvare o nel bocciare le notizie da mandare in onda e nell'organizzare i tempi i servizi in diretta e i testi da leggere per ottenere il massimo impatto come molti produttori Baseman di solito prediligeva lo schema emotivo picco valle alternando ansia e sollievo ma tutto questo era finito nel tritarifiuti ormai il nuovo metodo era picco 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 ogni notizia superava la precedente inatrocità Baseman batte la penna sul tavolo cosa meritava la prima posizione forse la palestra di Knoxville che era diventato macello con i testimoni che descrivevano mucchi di spettri fatti a pezzi nella sala di aerobica mentre altri venivano allegramente torturati sulle macchine dei pesi dagli istruttori o forse era meglio il minaccioso reportage su un cecchino in cima a un otto volante nella zona di Cleveland che approfittava dell'ingorgo sulla strada per eliminare indiscriminatamente spettri e persone al diavolo sarebbe passato tutto comunque le solite regole erano nullate comprese quelle volute da Unitas sulla salvaguardia dei minori in determinati orari sempre che i minori non avessero la mamma in bocca nessuno aveva più visto Nick Unitas dopo la riunione con Ross Quincy che andasse a fanculo pure lui Baseman numerò le notizie a caso e si alzò la giacca praticamente gli cadde di dosso appesantita da oggetto 1 e oggetto 2 li sistemò ed entrò nella sala regia incespicando come una troccola appena nato con tutti i legamenti doloranti per la rissa sulle scale bomba disse porgendo il programma Lee Sutton la nostra prossima ora Lee si tolse le cuffie sembri un morto che cammina neanche tu sei vestito a festa il sorriso di Lee lasciò intravedere che gli mancava un dente guardò il sangue secco che gli macchiava la camicia conseguenza del pugno di Baseman strappò di mano a Baseman il foglio e lanciò un'occhiata e diede istruzioni con rapidità sufficiente a sporcare la pagina di saliva rossa Fessler avremo bisogno del canale 2 e del 10 stai attento Octavia sulla linea 1 Zoe sta arrivando con quel rapporto del centro per la prevenzione delle malattie se arriva in tempo la infiliamo tra A2 e A3 se no la passiamo su B1 come va il pacchetto Telemundo? ci siamo quasi ma in spagnolo capisci? non importa lo facciamo andare todo il tempo agli ordini capo Baseman sentì l'autorità nella voce di Lee la determinazione in quella di Fessler si appoggiò allo stesso mobiletto d'archivio che aveva spinto contro la porta per mandare in onda senza censure il servizio dalla casa bianca diede la colpa del suo stato di confusione al bourbon che gli saliva la testa invece gli veniva dal cuore quelle persone con cui lavorava un tempo forse se le meritava ma ora non più Lee Sutton Yesman leccapiedi Baseman avrebbe scommesso lo stipendio di un anno che sarebbe stato il primo a uscire dal portone della WWN forse avrebbe dovuto metterlo K.O. anni prima Lee aveva recitato le sue servili battute con sangue e muco e adesso stava dimostrando che una rete poteva continuare a funzionare con pochissime persone Tim Fessler avrebbe potuto scappare aveva una moglie giovane dei bambini ma ci volevano almeno due persone come minimo per gestire una sala regia e aveva risposto alla chiamata Baseman aveva esplicitamente ordinato a Zoe Shillace la sua stagista di andarsene ruggendo dietro al sacchetto di mais surgelato che si teneva sulla guancia ma Lee non aveva ubbidito Baseman non riusciva a spiegarselo aveva davanti tutta la vita e avrebbe dovuto essere là fuori a combattere per questo ma forse lo stava facendo da lì poi c'era la faccia Baseman aveva ingollato un sacco di messaggi motivazionali a suo tempo ma nulla l'aveva indotto a riacquistare fiducia nell'umanità quanto la cosa che si era impadronita di Chuck Corso quando Lee Sutton si era liberato della paura come se gettasse degli oggetti da una barca in procinto di affondare la faccia non si era liberato di nulla la sua paura restava la sua ansia restava i suoi pasticci verbali restavano la sua mancanza di prospettiva globale restava ma a questo scadente repertorio aveva aggiunto una cosa che nessun giornalista prima di lui aveva osato mostrare un'assoluta onestà tutti gli schermi che Baseman guardava lo sconvolgevano la faccia che esprimeva opinioni questa è stata la cosa peggiore che ho visto in vita mia cazzo la faccia che ammetteva non so come si pronuncia questa parola la faccia che si metteva un dito nel naso la faccia che annunciava di dover andare al cesso e che sarebbe tornato subito era un uomo su un palco completamente aperto all'orrore al dolore e alla bellezza che reagiva con una purezza infantile quel maledetto manichino stava salvando delle vite come era già successo in occasione di disastri naturali la WWN aveva cominciato ad accettare le telefonate degli spettatori che ancora disponevano di un servizio telefonico la faccia aveva convinto in diretta un anziano isterico a rientrare in un condominio di 12 appartamenti pieno di spettri per salvare il figlio su una sedia a rotelle c'era riuscito con l'empatia non con i fatti la faccia era apertamente inorridito da quello che diceva l'uomo aveva anche convinto una pensionata a non entrare nella fabbrica in cui era intrappolata la figlia e con lo stesso metodo provando i suoi stessi sentimenti ed esprimendoli ad alta voce una volta distaccata dal proprio ego una persona poteva avere istinti assai raffinati a un certo punto Zoe aveva avvertito i colleghi in studio che un tweet stava avendo un enorme successo un messaggio di 110 caratteri postato da un medico legale di San Diego di nome Luis a Coachella le sue credenziali non erano confermate ma alla faccia non importava era corso di persona nella sala regia per chiedere a Tim Fessler di mettere il tweet in sovrimpressione la scritta era comparsa all'istante urgente sono un medico e l'unico modo per fermare i morti tornati in vita è un colpo alla testa per favore diffondete i telespettatori si precipitarono sulle pagine social della WWN per raccontare i loro successi uccidere il cervello voleva dire uccidere lo spettro la voce si diffondeva Zoe riportò che l'accento della faccia sua nonna aveva ispirato spettri hashtag in vetta le classifiche mondiali Unitas avrebbe preferito hashtag WWN e il giorno prima Baseman avrebbe provato la stessa dolorosa impressione di un'occasione perduta ma oggi l'unica cosa che contava era il messaggio gli avevano insegnato i suoi colleghi colleghi era troppo freddo compagni di lavoro andava meglio capì di amare quei quattro come nessuna banda dai tempi spensierati di Chicago era come l'amore che provavano i soldati in un battaglione quando pareva che nessuno di loro sarebbe uscito vivo dalla battaglia Baseman passò in cucina l'oggetto 1 tintinnò nella sua tasca destra l'oggetto 2 molto più pesante sbatté contro il fornello due giorni senza Galateo ed ecco i risultati ripiani pieni di briciole un pavimento incrostato di macchie aprì il frigo prese una bottiglia d'acqua e spalancò un paio di armadietti molte cose erano finite prese una confezione di cracker lì aveva alzato le luci dello studio per neutralizzare altre sorprese che potevano sbucare dall'oscurità la telecamera 2 era stata fissata al suo posto con i freni della base e sacchetti di sabbia la scrivania del conduttore era scintillante un palco degno di un re la faccia stava parlando basement pensò che non l'avrebbe mai digerita battute improvvisazioni affondi prese in giro chiacchiere di alleggerimento Chuck Corso non era mai riuscito ad azzeccarne una neanche adesso ovviamente le azzeccava nel senso che il termine avrebbe avuto il giorno prima basement rimase in piedi accanto alla telecamera 2 e alzò i cracker uno dei 10 miliardi di nuovi compiti che gli toccavano in qualità di produttore esecutivo era assicurarsi che il suo gioiello non soffrisse la fame la faccia lanciò a basement un'occhiata per fargli capire che l'aveva notato poi finì di raccontare una storia personale su un cane che aveva trovato morto in un campo quando era bambino cosa centrasse questa storia col prezzo del tè in cina basement non avrebbe saputo dirlo ma dava per scontato che un nesso ci fosse e comunque non aveva importanza la faccia era sintonizzato e basement aveva voglia di sedersi a gambe incrociate come un bambino dell'asilo all'ora della fiaba andò in onda al pacchetto di Telemundo la faccia si toccò l'auricolare ascoltò lì poi ammise con gli spettatori che non sapeva cosa stavano per vedere ma naturalmente era probabile che non sarebbe stato piacevole aveva solo dettagli tecnici sette minuti e trentadue secondi li avrebbe ritrovati alla fine e insieme ne avrebbero parlato la luce della diretta si spense basement salì sulla piattaforma aggirò la scrivania e si lasciò cadere sulla moquette con la schiena se la diretta fosse ripresa prima del previsto almeno sarebbe rimasto nascosto alzò il magro snack e la faccia appoggiato allo schienale della sua poltrona lo prese si mise in bocca cinque gallette e masticò ne vuoi? basement mostrò alla faccia il bourbon l'unico sostentamento di cui aveva bisogno per un minuto mangiarono e bevero con in sottofondo l'audio di telemundo che usciva dall'auricolare della faccia le urla non avevano bisogno di traduzione la NBC è ancora in onda basement si sciaccò la bocca con il whisky per anestetizzare la guancia una goccia uscì grottescamente dal buco inghiottì e si sentì scendere in gola il sangue coagulato no al dio anche la CBS la Fox va e viene dipende dall'elettricità New York è al buio Times Square è senza illuminazione non avrei mai pensato che trovarmi abbandonato in Georgia potesse rendermi felice e invece è così quanto pensi che reggerà la nostra rete dipende da quanto restano al loro posto le persone basement indicò lo studio deserto non promette bene eh la nostra rete sembra ok però non puoi usare il telefono giusto e come fanno ad arrivare le chiamate allora hai notato che quelli che ci chiamano sono per lo più molto vecchi linee fisse chi l'avrebbe detto eh l'ultima categoria con i mezzi per restare in contatto sono i vecchi quelli come me la faccia beve lentamente un sorso d'acqua inspirò a fatica continuo a pensare all'intervista che abbiamo mandato un'ora fa quel tizio tutto preoccupato per le mummie me la sono persa temo che le mummie non siano in cima le priorità credo che la corrente sia saltata anche al Matt lì tengono le mummie in contenitori di plexiglass che imitano le condizioni delle tombe egizie capisci quel tizio dice che adesso stanno andando tutte in putrefazione piangeva si inghiozzava proprio 5.000 anni diceva una testimonianza della cosa più importante di tutte come moriva la gente come moriva appunto sotto le luci dello studio Baseman si sentiva una mummia prosciugato il relitto che Glass l'aveva accusato di essere non so più dire cosa è importante non so più cosa stiamo facendo l'unica cosa che so è che tu stai andando alla grande Baseman alzò lo sguardo la faccia noto per la perfezione dei suoi vestiti del suo volto dei suoi capelli aveva perso terreno in tutti e tre i campi cravatta allentata camicia spiegazzata e sudata maniche rotolata guance che mostravano la barba che in una giornata normale un'armada di truccatori avrebbe eliminato nascosto faccia e collo erano arrossati continuava a grattarsi e il punto in cui la cosa Glass aveva piantato l'auricolare era graffiato ciò conferiva al bel ragazzo un fascino da pugile la faccia si strinse nelle spalle tu mi hai dato fiducia io non meritavo la tua fiducia e non merito la tua modestia hai fatto tutto da solo lo stai facendo sei importante e ti basta comportarti da persona per bene non credevo che l'avrei mai visto in un notiziario mi chiedo se è così che era Glass onesta a suo modo forse è per questo che piaceva a molti il bisogno di confessare bruciava come bourbon scadente nelle vene di basement ho ucciso io Rochelle Glass voleva dire l'ho azzannata la gola sulle scale non perché sono stato costretto ma perché lo desideravo la sua memoria dell'avvenimento era opaca era rimasto seduto sul pianerottolo inferiore per un po' con le braccia sulle ginocchia mentre tentava di vomitare il sangue gelatinoso della trachea di Glass una boccata dopo l'altra si sentiva quel sangue nello stomaco e nell'intestino un lungo verme serpeggiante doveva buttarlo fuori altrimenti sarebbe uscito da solo e l'avrebbe denunciato per quello che era un vigliacco dopo un po' rinunciò aveva altro da fare per esempio nascondere il cadavere di Glass in modo che la faccia non lo mostrasse in diretta nessuno conosceva il vero volto di basement era solo un nero sporco di sangue che trascinava via da Chuck Corso la più seguita presentatrice americana della tv via cavo internet era esplosa e tutti si sintonizzavano sulla WWN come chi arriva al fiume di video gif e inquadrature la Rochelle Glass degli occhi bianchi non era la Rochelle Glass che tutti conoscevano era il primo spettro famoso d'America e tutti nel paese potevano riconoscere il fondamentale cambiamento insieme all'apocalittica conferenza stampa di Tammish e Lemberger cancellava ogni dubbio che la sollevazione degli spettri qualunque cosa fosse era reale con l'aiuto di un cameraman della responsabile del piano che finirono entrambi morsi e lasciarono subito l'edificio Baseman era riuscito a trascinare la sibilante agitata Glass al muro del ciclo Rama prima che il tweet di Accocella sul colpo alla testa diventasse virale Baseman aveva colpito inutilmente il corpo di Glass con uno sgabello finché il muro bianco non era rimasto striato di sangue scarlatto temendo di procurarsi un attacco di cuore la trascinò per i capelli nell'ufficio della direttrice dei TG Pam Tripler chiuse a chiave la porta e usò un pennarello indelebile per scriverci sopra non aprire tentò di neutralizzare la propria vergogna con delle scuse Glass l'aveva chiamato scimmione non si dà dello scimmione a un nero poi tentò di neutralizzarla con la logica si poteva davvero definire un omicidio se la vittima si alzava e si rimetteva a camminare forse era l'onestà di Chuck Corso a rendere mordaci le bugie di Baseman che lo azzannavano come lui aveva zannato Glass nessuno sapeva quello che aveva fatto tranne Quaim della sicurezza che Glass aveva chiamato dalle scale ma Quaim non costituiva una minaccia almeno in quel senso era uno spettro vittima del disastro che si era impadronito della sede della Cable Corp Baseman non aveva idea di cosa succedesse nei cervelli degli spettri ma sembrava che ricordassero le routine come la cosa Glass che tornava alla scrivania la cosa Quaim era scesa in ascensore fino al livello dello studio dove aveva scatenato l'inferno era arrivata quando la corsa agli ascensori era al massimo della concentrazione Baseman vide Quaim mordere dieci o dodici persone prima di essere chiuso a chiave in un armadietto dalla responsabile del piano lasciando l'ufficio quest'ultimo aveva dato a Baseman le sue chiavi e lui le aveva usate per disattivare gli ascensori dei livelli inferiori barricate le scale lo studio era efficacemente isolato le chiavi erano finite nella tasca sinistra di Baseman oggetto 1 l'oggetto 2 era finito nella tasca destra la pistola di Quaim quando Baseman aveva sentito delle persone persone vive che supplicavano di poter entrare dalle scale non aveva ceduto perché sentiva anche i gemiti famelici degli spettri avrebbe potuto tentare di ficcargli una pallottola in testa ma non si fidava di se stesso con la pistola di Quaim quando si veniva al punto per un vigliacco come lui una manciata di morti spaventose davanti a una porta bloccata non valevano le miglia di persone che le trasmissioni della WWN stavano aiutando si portò alle labbra l'ultimo goccio di Bourbon ma non lo beve stava cercando di ubriacarsi prova che aver lasciato morire degli innocenti non era stato giusto se consentiva il dolore della guancia della mano e del cuore di ululare forse quel suono l'avrebbe portato alla sincerità abbassò la bottiglia lascia perdere la rete faccia tu come te la cavi la faccia si leccò delle briciole di cracker dalla mano mi sento diverso come se non potessi stancarmi più e come mai sei così forte faccia giuro che non lo capirò mai Chuck Corso si strinse nelle spalle Xander Xander? che cazzo è Xander? il mio personal trainer mi ha insegnato un sacco di buone abitudini Baseman ridacchiò senza curarsi del male e legamenti del volto ferito e la faccia benché confuso rise anche lui e quando Baseman gli porse il Bourbon beve l'ultimo sorso probabilmente lo fece solo in segno di amicizia ma se era così tanto meglio tutti miei Charin Rukowski aveva immaginato cento volte la casa di Luis e Rosa a cocella un bel edificio coloniale con tanto di frontone Luis con un cappello di paglia e la carriola piena di prodotti dell'orto Rosa che salutava dalla parte superiore di una porta divisa a metà oppure una villetta a schiera francese con Rosa che beveva limonata su un terrazzo di ferro battuto mentre Luis usciva dalla Port Cochère addirittura un incubo modernista di angoli acuti e finestre disposte a caso con Luis e Rosa vestiti di un nero sofisticato che si ignorano freddamente alle estremità opposte di una tavola monacale tutte case in cui lei Charlie da Parkchester non meritava di entrare quello che scoprì nella strada senza uscita fu una bifamiliare marrone e crema con i cespugli un po' rinsecchiti nel giardinetto di Terriccio Rosso la casa aveva dal lato nord una bella vista sulla valle e sulle colline lontane nella luce dell'alba Charlie avrebbe giurato che l'aria era più leggera lassù si appoggiò ai bidoni della spazzatura comunale strapieni in fondo al vialetto degli Acocella inalando la puzza se i latini addetti rifiuti venivano incolpati di tutto questo era difficile incolparli per aver interrotto la raccolta sentì Acocella che camminava a mezzo isolato di distanza avrebbe dovuto tenerselo vicino i sarcofagi non si limitavano ai baccanali intorno alle case incendiate d'altro canto la sua lontananza le offriva l'occasione per scaricarlo posso mollare questo sfigato per cominciare a mettersi male pensò l'unica ragione per cui sto qui è che non so dove sarebbe questo tipo se non ci fosse chi lo difende mormorava spesso si prendeva in giro da sola era innamorata di quell'uomo continuava a farsi trascinare in giro sapendo che non era affatto trascinata Luis le arrivò accanto ansimando pesantemente le luci sono spente era un brutto segno e Charlie lottò contro il desiderio di dire già è proprio così non c'è nessuno in casa scappiamo insieme ma il volto di Luis era coperto di sudore reso corallino dal sole che sorgeva e distorto da una paura ben superiore a quella che aveva mostrato di fronte ragiondo forse un trucco forse resta nascosta in silenzio no rosa non è tipo da restare in silenzio il sole sta sorgendo magari semplicemente addormentata mi ha lasciato un milione di messaggi non si addormenta finché non le rispondo che cazzo a cocella vogliamo parlarne tutta la notte o vogliamo entrare Luis le lanciò lo stesso sguardo disperato che Charlie aveva visto negli uomini che stavano per precipitare rapinavano il negozio all'angolo e venivano riconosciuti dovevano dei soldi a un tizio con dei picchiatori per amici Luis non era così ma Charlie provò l'aspra umiliazione di dover tornare al ruolo di spalla i suoi studi il suo lavoro bella roba ecco Charlie Rukowski nascosta dietro ai bidoni della spazzatura che aiuta l'amore della sua vita a ritrovare la moglie Luis tirò fuori di tasca la 38 della polizia di San Diego reggendola come se fosse uno scorpione addormentato il cuore di Charlie martellava al ricordo del cranio di John Do che esplodeva sul pavimento dell'obitorio Luis probabilmente stava pensando alle cose peggiori riguardo a Rosa Charlie si guardò intorno il garage dei vicini era aperto e all'interno vide una sacca da golf fece una corsa di 6 metri e ne sfilò una mazza non sapeva niente di golf ma la mazza aveva una bella testa pesante tornò da Luis con le due mani strette sull'impugnatura lasciami andare per prima ok Luis le porse la chiave della porta d'ingresso lei la prese boccò il vialetto e poi si fermò basta che non mi spare la schiena ok cosa? non sembri molto a tuo agio con quella pistola vuoi muoverti? Charlie prese fiato e diede un'occhiata attraverso il vetro della porta un salotto un tavolo con dei caricabatterie il tocco femminile di un divano color fenicottero e lampade e nappine una fila di foto incorniciate una delle quali molto storta questo dettaglio voleva forse dire che Rosa era stata fatta a pezzi da assassini immortali oppure voleva dire che il chiodo a cui era attaccata era disalineato di un centimetro la differenza fra il disastro sociale e un banale inconveniente era sottile come una ragnatela girare la maniglia fu come un frantumarsi di ossa Charlie dovette aprire la bocca per non mordersi le labbra con un risucchio la porta si aprì un invito in casa a cocella che Charlie non era sicura se avrebbe ricevuto altrimenti si mise le chiavi nella tasca dei jeans ed entrò uno scricchio lio merda pavimento di parquet la smorfia e l'occhiata che rivolse Luis furono ricompensate dalla vista di lui che reggeva l'arma con mani tremanti e la puntava più o meno sulla sua nuca perfetto semplicemente perfetto la foto storta non era un caso era un sintomo in cucina tutto era in disordine i libri di ricette sbattuti sul bancone e sui fornelli il barattolo del caffè in pezzi i chicchi sparsi dappertutto l'orologio a parete era adesso un orologio a pavimento l'espulsione delle batterie aveva fermato il tempo nell'istante preciso della battaglia una donna si aggrappava al lavandino con un braccio e trascinava i piedi in pozze di sangue schioccando le labbra in cerca di un cibo che non fossero chicchi di caffè non era rosa Charlie se ne accorse subito quella donna era vecchia con gli occhi nascosti da lembi di pelle sotto la fascia nera per i capelli si vedevano ciuffi grigi quando guardò Charlie i suoi occhi erano bianchi come Vinaville cosa che la Diner attribuì al fatto che prima di diventare uno spettro aveva la cataratta la donna ritrasse le labbra per mostrare i suoi pochi denti e una lingua rossa e appiccicosa Charlie allungò la mazza da golf per impedire l'accesso ad Accocella Luis no ma quella era casa sua dove viveva con sua moglie il grido di Charlie prometteva male Luis scostò la mazza e si precipitò nella stanza finendo in mezzo al sangue aveva sempre la pistola in mano ma se la mise dietro la schiena come se l'avessero colto con delle caramelle proibite mamma mamma cosa ci fai qui Charlie sentì scattare un allarme interno l'unica persona che aveva tentato di chiamare da quando aveva lasciato l'obitorio ottenendo solo l'eterno rumore bianco della linea interrotta era sua madre Mae Rukoski non aveva nemmeno una goccia dell'istinto di sopravvivenza di sua figlia d'altro canto trent'anni passati nello stesso appartamento avevano reso quel posto un bunker fortificato Charlie avrebbe voluto averla lì in quel momento avrebbe abbattuto qualsiasi spettro che si avvicinasse e Mae forse avrebbe finito con l'apprezzarla Luis corse verso il lavandino con la voce ridotta a un gemito acuto Tu dovevi stare alla paz ti avrei raggiunta questa mattina cosa pensavi? Quello che pensava mamà a Coachella non aveva più importanza ammesso che pensasse ancora la cosa importante era che Luis a Coachella dotato dell'intelligenza necessaria per pensare la succinilcolina e la pistola della polizia a quanto pareva aveva perso la testa ed era tornato un bambino che si preoccupava solo della mamma si chinò sul lavandino per capire come mai la mano di sua madre era imprigionata la bocca sdentata di mamà si spalancò mentre si chinava verso la gamba del figlio e della bile verde le scivolava sulla lingua Charlie provò l'impulso di vomitare per quell'orribile visione creme de menthe di May Rukowski dolce liquore alla menta dura carne pelosa gli sgustosi prodotti per vecchi repellenti a cui questo mondo non apparteneva più apparteneva a Charlie adesso se lo meritava per le battaglie combattute per essere sopravvissuta per le ferite che aveva ricevuto per i libri che aveva studiato per tutte le cose buone compreso Louise che si era rassegnata a non avere lo spostamento d'aria le disse che aveva usato la mazza la testa di legno colpì il polso di mamà con uno schianto marmoreo staccandole la mano dalla gamba di Louise che si girò con l'espressione di un bambino tradito Charlie sta cercando di morderti a cocella è un altro John Do ha la mano bloccata nel triterifiuti probabilmente è stata rosa nel tentativo di fermarla no vanno d'accordo sono amiche Louise sveglia questa non è tua ancora meglio del rumore di un polso polverizzato il dottore e la sua diner riconoscevano lo schianto di un osso che si rompeva sotto le cesoie che Charlie usava per aprire il torace secondo tutte le regole l'osso avrebbe dovuto essere l'ulna di mamà a cocella nel lavandino invece no Louise e Charlie abbassarono lo sguardo e scoprirono che mentre litigavano mamà si era alzata in piedi e aveva morso il pollice destro del figlio mamma mamma per chissà quale antico istinto gli occhi bianchi si girarono all'insù tutto parve tornare al suo posto per Louise a cocella Charlie vide il cambiamento che si impadroniva di lui con un singolo gesto arretrò e scalciò in avanti la bocca di mamà con la sua mezza dentatura si staccò dalla sua mano Louise si appoggiò al bancone aprì un cassetto e ne tirò un grosso coltello scintillante da macellaio che cadde a terra nessuna delle cose terribili che aveva visto era paragonabile a Louise a cocella che tendeva il coltello verso di lei tagliami il pollice Charlie lo guardò presto taglialo Louise se passa col sangue sono fottuto prendi il coltello è un ordine non siamo a lavoro non puoi costringermi fallo da solo se sei tanto non posso farlo con la sinistra Charlie ti prego ti prego fallo subito era una cosa che aveva fatto centinaia di volte sempre sui morti però ma era abituata a obbedire ai superiori medici soprattutto a Louise sentì la mazza da golf che cadeva a terra vide le proprie nocche sbiancare intorno all'impugnatura del coltello sentì le piastrelle dure sotto le ginocchia la mano di Louise era aperta su una piastrella grigia l'articolazione di stale tra le falangi sporca di sangue non avrebbe più potuto eseguire un'autopsia o battere a macchina un rapporto era sicuro di volere proprio questo non sapevano neanche se dai 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 Charlie tagliò la lama d'acciaio colpì la dura piastrella spietato tagliere e il coltello le sfuggì di mano come pochi fotogrammi tagliati da una pellicola il pollice di Louise si staccò non era un taglio perfetto ma lo strumento non era un PM40 anche un pezzetto del muscolo flessore grande come un boccone di sushi era stato segato via e il cervello di Charlie ripercorse il testo di anatomia ai suoi avvertimenti su quanto quel centimetro di carne in più sarebbe costato a Louise poiché la perdita creava una reazione a catena nella prima articolazione carpometacarpale nei muscoli lumbricali e nell'aponeurosi palmare la rete intertendinea altro che strumenti chirurgici non sarebbe riuscito a tenere in mano neanche una ciotola di cereali si sarebbe ritrovato con lo zoccolo l'addestramento le suggerì di mettere il pollice in un sacchetto e di inserire il sacchetto in una busta con del ghiaccio sperando di poterlo riattaccare ma Louise allontanò il dito con un calcio lo vide rotolare contro il piede di mamà a cocella poi distolse lo sguardo quando mamà lo raccolse e se lo portò alle labbra Louise era in piedi la faccia gialla e sudata ma abbastanza cosciente da tenere la mano gonfia più in alto del cuore strofinaccio strofinaccio gracchiò accennando a un cassetto Charlie si tirò su lo aprì e trovò una pila di strofinacci morbidi puliti ereditati da qualcuno che li aveva accuratamente ricamati i fiori gialli rosa e azzurri diventarono tutti rossi quando volse lo strofinaccio intorno alla mano di Louise Charlie aprì l'anta sinistra del frigorifero rosa dobbiamo mettere del ghiaccio su quella mano rosa insistette lui e si allontanò Charlie chiuse il frigo e lo seguì come una madre dietro a un bambino le macchie di sangue sul pavimento della cucina continuavano nel salottino luminoso lungo un corridoio abbastanza ampio per ospitare un tavolo con alcuni cactus in vaso e sotto una porta chiusa Louise si appoggiò alla parete troppo debole per aprirla aprila tu aspetta prendo la mazza da golf aprila Charlie imprecò assunse un atteggiamento coraggioso e afferrò la maniglia dentro c'era uno spettro inagguato o una donna spaventata che avrebbe urlato a quella virago inaspettata di andarsene male per peggio aprì la porta eccola la camera da letto degli a cocella il sesso non c'entrava la camera da letto era il cuore di ogni casa e batteva più forte notte dopo notte mentre le due persone che ospitava raggiungevano la massima vulnerabilità e si fidavano che l'altro non si comportasse come un animale Charlie sentì il complesso odore della pelle dei capelli e del respiro di una coppia due persone non potevano fondersi più completamente di così a meno che una non divorasse l'altra e Charlie sentiva un gorgoglio di appetito quell'intimità lei la desiderava non ci sarebbe stato nessun confronto con Rosa in quella camera le macchie rosse punteggiavano la moquette color per vinca e la toilette bianco panna proseguendo sul davanzare di una finestra aperta non è sangue arterioso non si è neanche asciugato Charlie si chinò per guardare meglio le macchie di sangue non erano la loro specialità e le superfici di tessuto non aiutavano all'analisi ma per quanto confuso Luisa Cocella era acuto quelle non erano le macchie tipo che c'era l'acca che colavano involontariamente né la pioggia di goccioline vaporizzate dai colpi di tosse avevano la forma sistema solare del sangue perso da un corpo in movimento Charlie guardò fuori dalla finestra ho ragione la successione dei fatti sembrava evidente Rosa Delgado a Cocella più inventiva di come il marito la dipingeva aveva bloccato la suocera con il trita rifiuti e poi probabilmente per una buona ragione era uscita dalla finestra della camera da letto non c'era alcuna prova che fosse rimasta ferita perlomeno all'interno della casa a sei o sette metri di distanza sullo sterile e ghiaietto arancione sembrava che una lotta avesse scavato un leggero avvallamento il terreno era imbevuto di rosso lì la pista moriva se morire era ancora la parola giusta ho ragione è in salvo credo di sì mentì Charlie è scomparsa a queste parole Lewis finalmente crollò solo venti minuti più tardi dopo che Charlie aveva sigillato tutte le finestre della casa barricato tutte le porte con mobili e rovinato un secondo strofinaccio ricamato per riavvolgergli la ferita Lewis si alzò per protestare debolmente quando lei raccolse la mazza da golf dal pavimento della cucina da dove si trovava rannicchiato al tavolo del salotto Lewis vedeva benissimo la cucina e benché avesse la faccia e le labbra pallide i suoi occhi erano del bel colore castano di sempre non è necessario sai benissimo che lo è cosa abbiamo detto all'obitorio onde radio emissioni di cellulari potremmo buttare via i telefonini tutti i caricatori magari cambierebbe tentiamo siamo noi che dobbiamo cambiare almeno non sarebbe non sarebbe più rapida con la pistola troppo rumore disse lei facendo un passo indietro con la mazza non guardare non guardare ci vollero molti colpi forse decine per uccidere la madre di Luisa Cocella il cranio della vecchia suonò duro poi umido in primo piano rimasero i suoni secchi dell'ansimare di Charlie e quelli umidi del pianto di Luis Charlie si concentrò sulla fatica muscolare torsione scatto colpo recupero e quando il suo spaventato esausto cervello si mise a vagare in luoghi oscuri tutti suoi lo lasciò fare questo non è più tuo figlio pensava continuando a picchiare è mio adesso tutto mio diploma il viaggio fino al portone d'ingresso della scuola superiore di Bulk fu uguale a tutti gli altri giorni a parte i colpi d'arma da fuoco l'esplosione più forte venne dal posteggio degli studenti ma poteva trattarsi del ritorno di fiamma di un furgone il posteggio era per due terzi vuoti e i veicoli stavano scappando scavandosi le loro vie di fuga attraverso il prato le scariche dal campo di football erano senza dubbio colpi di arma tille bianche sull'erba verde altri colpi dall'interno della scuola suonavano come fuochi d'artificio Greer nascose la schwinna azzurra fra le scale e i cespugli si buttò la borsa sulla schiena e scivolò nell'atrio scuro e freddo la scuola era un edificio a due piani a forma di parentesi quadra costruito probabilmente ai tempi di Giulio Cesare come il comune e l'ufficio postale era composto di giganteschi imponenti gelidi blocchi di pietra che facevano apparire minuscoli vecchi palazzi della città i coloratissimi villaggi di case mobili e le fabbriche abbandonate fra una lezione e l'altra i corridoi diventavano un inferno di echi tra cui solo gli strilli delle ragazzine riuscivano a emergere quella mattina la scuola era una catacomba Greer passò in punta di piedi davanti alla reception le metteva soggezioni avanzare in maniera così incerta lungo un corridoio che di solito percorreva decisa ma non riusciva a camminare dritta da lontano giunse lo scalpiccio da topi di un gruppo di persone che correvano a nascondersi ma lei non le vide ed ebbe timore di gridare inoltre se conosceva Conan si sarebbe nascosto da solo il rumore di un'arma da fuoco appesantito dal riverbero Greer si schiacciò contro il muro gelato il colpo era partito dal piano di sopra se qualcuno stava sparando c'era qualcosa a cui sparare e questa era la pista migliore da seguire corse su per le scale aveva appena scorto il riflesso bronzeo della vetrinetta con i trofei del secondo piano quando il distributore d'acqua accanto a lei esplose il metallo si lacerò come una pellicola di alluminio e l'acqua l'annaffiò talmente gelida da levarle la pelle di dosso Greer lasciò che l'acqua la gettasse a terra e rotolò con la corrente con la borsa e il suo contenuto a guzzo fino a rannicchiarsi dietro allo stipite di una porta le immagini frenetiche delle esercitazioni in caso di sparatoria le lampeggiarono nella mente gli armadietti ammucchiati davanti alle porte gli studenti proni dietro ai banchi messi di lato che ascoltavano il prof di ginnastica che faceva la parte dell'attentatore tutti a ridacchiare malgrado quella storia fosse una grande stronzata perché se non sei capace di ridere all'ipotesi di finire ammazzato nel posto che più odia al mondo sei destinato a una vita difficile il vetro della porta delle scale si ruppe sopra di lei smettila nella porta si creò un buco smettila urlò di nuovo i colpi riecheggiarono per un tempo interminabile rendendole impossibile capire quante volte era stato pronunciato il suo nome prima che lei lo sentisse grir grir scrutò dietro i capelli inzuppati attraverso le ciglia come schegge di legno sopra le guance coperte di cristalli di vetro a venti metri ma diretto verso di lei c'era Conan il suo istinto si ribellò Conan non si era mai mosso con tanta confidenza in quei corridoi ma avrebbe riconosciuto ovunque la sua forma bassa e massiccia nonostante si tenesse dritto più orgogliosamente del solito e nonostante il fucile Browning che gli spuntava dal fianco come un braccio in più si inginocchiò accanto a lei grir sentì le sue dita calde per lo sparo che le toglievano frammenti di vetro e di legno dalla faccia e dai capelli è l'arco di papà quello hai portato quello stupido arco fece una risata leggera una risata leggera Conan Morgan il ragazzo che non faceva un sorriso a scuola ad almeno un lustro che rabbrividiva passando accanto a certi armadietti che si alzava dopo essere finito al tappeto con la cupa rassegnazione di chi si apprestava una vita alla catena di montaggio della Horti Plastics adesso era vivace allegro Greer guardò con sospetto il sorriso sulla faccia del fratello sembrava un nastro rosso Conan l'aiutò ad alzarsi la prese per un braccio e se la portò dietro all'angolo del corridoio erano dieci anni che non avevano un contatto fisico simile si tolse il fucile dalla spalla e sbirciò nel corridoio come un poliziotto in un film d'azione dovevi portare il remington non ci sono riuscita non ci stava e i proiettori il papà li hanno scosti dietro la scatola del parchise dobbiamo ho una bici Conan allungò il collo nel corridoio col fucile spianato hai visto mamma show involontariamente Greer rivide la giamaicana senza gambe che aspirava le treccine di Miss Gemisha nella bocca sdentata a noi l'ho vista e lo sapevo lo sapevo ho lasciato papà al remington perché era il suo preferito dire al fratello che il padre era morto sarebbe già stato abbastanza difficile ma spiegargli cos'era diventato Freddy Morgan era impossibile non riusciva a capacitarsene nemmeno lei stessa Conan inclinò la testa per qualcosa che Greer non riuscì a sentire alzò il fucile aveva sempre avuto una mira abbastanza buona Greer si sporse dietro al fratello e vide quasi in fondo al corridoio una figura che usciva da un'aula prima che fosse uscita del tutto Conan sparò e il sangue schizzò in aria dalla testa della persona prima che cadesse e uscisse dalla loro visuale wow hai visto Greer appoggiò il fucile nell'incavo del gomito e aprì il caricatore le cartucce usate rotolarono a terra Conan infilò una mano in una tasca piena di cartucce sfuse ne inserì tre e le sistemò con una facilità mai eguagliata da nessun altro Morgan Greer aveva la sensazione che suo fratello lo stesse facendo fin dall'alba ce n'è un altro paio che devo beccare in quella stanza cosa ti prende andiamo via l'entusiasmo di lui svanì andiamo no Greer non capisci quando sono venuto qui voglio dire arrivo sempre prima del dovuto ma mi tengo tipo nascosto sai non avevo idea di quanta gente ci fosse a quell'ora gente che canta in coro che prova degli spettacoli che fa sport che pensa all'annuario si impegnano ragazzi sono rimasto tipo sconvolto si è diffusa velocemente all'ultima spiaggia Greer annui agitando le mani andiamo via andiamo via qui è stata come l'herpes come la mono questo era il ragazzo che Greer conosceva amareggiato se si perdeva anche le cose più spiacevoli che altri sperimentavano molti ragazzi non scappavano neanche li cercavano anche questa è una specie di impegno credo impegno nei confronti della loro scuola scosse il fucile è così che dimostro il mio impegno questa è l'occasione che ho sempre desiderato continuerò a sparare ad ammucchiarli la fuori fino alla fine accennò col mento al corridoio al di là delle vetrine coi trofei c'era l'aula di francese e spagnolo gli idilliaci poster europei sulla bacheca esterna sembravano una trappola la porta dell'aula era chiusa Greer riflettè che non aveva mai visto una classe con la porta chiusa prima di allora una paura più fredda delle pareti della scuola la sommerse come una marea ci siamo puntò il fucile contro l'aula lontana ma Greer non c'era più era stata tirata a sinistra come da una catena fugaci raggi di sole accarezzavano i trofei polverosi la porta dell'aula di francese spagnolo diventava più grande e il suo silenzio più insidioso conan borbottava con impazienza in attesa del colpo perfetto e non stava guardando quando Greer afferrò la maniglia bienvenido recitava un foglio attaccato alla porta con lo scotch entre diceva un altro entrambi i fogli tremarono quando lei aprì una porta pesante si accorse per questo non sentiva nulla dall'altra parte dentro c'erano una decina di studenti insegnanti erano stati ammucchiati come panni sporchi alcuni erano morti molli e contorti altri erano vivi si contorcevano piangendo altri ancora erano quell'altra cosa con gli occhi bianchi e scivolavano come serpenti le bocche spalancate in cerca di carne viva era un mucchio disgustoso i rabbiosi divoravano i vivi i vivi diventavano morti i morti risorgevano mentre vivi e morti si giravano a guardarla Greer identificò la caratteristica che li univa tutti una ferita da arma da fuoco si sono un grande Greer si girò lentamente sulla destra Conan teneva il fucile con una mano sola per poter stringere l'altra a pugno ehi meglio chiudere quella porta l'hai uccisi tu chiudila se no escono pensavo che tu fossi sono ragazzi Conan stai uccidendo dei ragazzi vivi tutto il corpo di Conan parve oscurarsi svanire in una massa priva di luce cosa pensavi stessi facendo aveva ragione quando le erano venute in mente le esercitazioni in caso di sparatoria suo fratello non stava facendo lo sceriffo che arrivava a cavallo per dimostrare il suo valore uno studente sprezzante stava facendo il vendicatore che approfittava del collasso della civiltà per punire chi l'aveva offeso Conan sorrise di nuovo quel sorriso meraviglioso e scosse la testa come se il malinteso fosse una sciocchezza fa tutto bene non interessa più niente a nessuno non finirà neanche sui giornali stai ammazzando le persone sbagliate non fare la stupida quando sono morti non riconoscono le facce e allora? e allora è come se noi non avessimo una faccia io non dovrò più essere il piccolo rifiuto che tutti tengono lontano tu non dovrai più essere una ragazzina dalla pelle scura ripetente e senza valore non dovremo ingoiare la merda degli altri alla Horti Plastics potremo essere chiunque fare qualunque cosa prendere tutto quello che vogliamo e cosa cazzo vorresti prendere in questa scuola di merda? Conan accennò al corridoio lungo il quale aveva sparato il gli cadde il braccio gonfiò il petto c'è la si interruppe di nuovo strinse il fucile deve esserci qualcosa Grir indicò in direzione della città la gente là fuori si sta ammazzando lo so lo so tu non sei diverso stai facendo la stessa cosa Conan scosse la testa con violenza no per niente sai quante sparatorie nelle scuole sono state fatte dai neri? Conan nessuna nessuna Grir brandì il fucile è così che i bianchi si ammazzano l'un l'altro e finiscono all'inferno per questo? fanno delle leggi per impedirli di uccidere ancora? per togliergli il diritto di voto? per eliminare i loro capi? no cazzo perché noi dovremmo comportarci diversamente? Grir agitò le mani verso l'aula di francese spagnolo non ci sono solo ragazzi bianchi là dentro la risata di Conan aveva il suono dei rametti spezzati beh sorella che cazzo se vuoi prendere il potere bisogna fare pulizia no? il suo sorriso svanì ascolta vuoi ascoltarmi? tu hai l'arco di papà ed è l'altra roba buona in quella borsa possiamo fare questa cosa insieme rifondare la famiglia scegliere una bella casa grande in città per viverci io e te cosa dici? il rumore umido la sua sinistra aumentava da qualche tempo ma solo adesso cogliendo un movimento con la coda dell'occhio Greer guardò una persona si era staccata dalla massa di carne scivolosa un giovane che si trascinava usando le braccia le gambe sembravano paralizzate dal foro che aveva nella schiena con i penetranti brillanti occhi castani diventati bianchi Greer quasi non lo riconobbe l'ultima volta che aveva visto Quasim il suo largo naso era sepolto nella camicia che Greer si era arrotolata sullo sterno una delle sue mani le afferrava il seno nudo l'altra scendeva sulla pancia sotto a jeans e sbottonati era senza camicia ma i ragazzi possono farlo alle feste Greer ricordava il calore rovente dei loro ventri premuti l'uno contro l'altro aveva passato metà della notte a percorrere gli addominali di lui con un'unghia davanti a lei c'era di nuovo quello stomaco che si scopriva la vista mentre la cosa Quasim le si avvicinava carne da sbottonare questa volta gli addominali di Quasim attiravano ancora l'attenzione ma per le viscere rosse che il colpo di Conan aveva lacerato Greer arretrò finché non si sentì contro la schiena la vetrinetta dei trofei era tutto finito suo padre suo fratello il suo quasi amante la sua casa il suo quartiere la sua scuola la sua città il suo futuro sentì una ventata di larità folle quale futuro non ne aveva mai pensato non ne aveva mai avuto uno Conan aveva ragione in questo quell'epidemia di rabbia aveva solo messo in primo piano la sua mancanza di speranza le aveva aperto davanti il precipizio per suicidarsi non le restava che buttarsi giù afferrò la borsa con la sinistra e porse la destra al fratello vieni con me cosa? no Grir vieni tu con me malgrado Quasim che continuava a strisciare i vivi che continuavano a morire e il mondo che continuava a mancarle sotto i piedi Grir chiuse gli occhi come una ragazzina che pensava di poter essere ancora cullata e distese il braccio da brava sorella maggiore sussurrando il suo desiderio come una preghiera come tutte le preghiere uno scambio fra razionalità e magia l'unica speranza che le rimaneva vieni con me buio e silenzio per alcuni secondi a parte lo slap slap di Quasim che avanzava Grir sentì un rapido tremante sospiro e il rumore del caricatore del fucile come un osso che si spezzasse aprì gli occhi sperando in un miracolo ma Conan rimase a chilometri dalla sua mano tesa le sue ciglia erano talmente imbevute di lacrime che in un primo momento non si accorse che lo erano anche quelle del fratello Conan non era tipo da farsi vedere a piangere qualunque cosa avessero fatto gli altri tirò su col naso e se lo asciugò con la manica non posso Grir è troppo tardi devo finire quello che ho cominciato non c'è niente per me da tanto tanto tempo sai sono sempre stato destinato a finire così io contro di loro finché non ci sarà più nessun io non è colpa tua stai attenta là fuori ok stanno venendo a prenderti Grir se ne andò così senza uno sguardo alla cosa che era stata Quasim o al ragazzo che era stato suo fratello tornò da dove era venuta le piante dei piedi nudi che sopportavano i frammenti di vetro prima di arrivare alle scale si costringeva a non pensare ad altro che la squindi fadì l'olo e a quanto poteva andare veloce quando sentì il rumore degli spari che riprendevano il suo labirintico cervello pensò alla melodia della marcia che suonavano al diploma che non avrebbe mai preso a meno che non fosse proprio questo il suo diploma la fine di una fase l'inizio di un'altra dei capricciosi mentre masticava la terza confezione di arachidi polverose a Karl Nishimura tornò in mente una battuta spesso ripetuta nella marina una porta aerei è una dittatura che difende una democrazia il dittatore era il capitano della nave anche se in realtà il capitano era sottoposto a una serie di superiori che arrivavano fino al comandante in capo a bordo della USS Olimpia tuttavia l'affermazione banale era diventata proverbio lì regnava un dittatore tutti i suoi editti venivano seguiti e lui non sentiva di dover rendere conto a nessuna autorità superiore a parte quella che chiamava Dio il colonnello William Coppenborg ancora conosciuto con l'immacolato soprannome di Padre Bill aveva assunto il controllo totale della parte più alta della nave i momenti di incredulità di Nishimura stavano diventando meno frequenti e la cosa lo preoccupava solo due giorni dopo il colpo di stato più strano della storia l'impossibile stava diventando la norma i pochi eletti chiusi in cima a una torre di acciaio erano isolati da chi stava sotto e li prendevano letteralmente affucilate quando salivano sul ponte di volo che fosse per cercare aiuto fuga o preda tutto lo spazio è occupato spiacenti non vogliamo quelli come voi quassù la posizione dei residenti migliorava man mano che si saliva la sala meteo la sala radar il ponte delle bandiere la plancia di comando la torre di controllo Nishimura immaginava che il cibo ai piani più alti fosse qualcosa di meglio delle arachidi laggiù si mangiava quello che c'era in spazi più piccoli delle cucette i confini dell'area personale erano stati segnati sul pavimento col gesso dal vice di padre Bill il secondo nostromo Tommy Enstrom il lavoro aveva richiesto parecchie ore il censimento finale nella torre di comando era di 42 anime diciamo 41 Nishimura voleva dimenticare rapidamente quanto accaduto al marinaio Jacopo Leatherdale ingoiò un arachide secca aveva molta sete ed era molto stanco e per quanto il suo pezzo di pavimento d'acciaio fosse scomodo era anche sotto un piano di lavoro il che voleva dire che era buio e garantiva la possibilità di dormire nessuno osava chiudere gli occhi prima della preghiera della notte ovviamente interrompere quella preghiera aveva condannato Jacopo Leatherdale no non pensarci se vuoi dormire lo spazio di Nishimura era stato il disegno più crudele di Enstrom un ovale non più grande del suo corpo ovviamente era nella sala meteo il livello più in basso gli strumenti erano massicci e avvitati al pavimento il che dava la sala un'aria da campo profughi dopo un uragano o peggio ma immaginava che ben presto il pavimento sporco sarebbe stato l'ultimo dei problemi il posto avrebbe cominciato a puzzare si sarebbero diffuse le malattie Nishimura poteva prevederlo con sicurezza la torre di comando aveva armi sufficienti per cinque uomini di guardia uno per piano che evitavano ogni possibile ribellione le scalette erano state rimesse al loro posto tranne quella che collegava il livello di Nishimura al ponte di volo l'idea era chiara se il livello meteorologia fosse stato preso lo si poteva separare dai livelli superiori ritirando le scalette non sarebbe stata una grande perdita dopo l'uscita di scena di Lauderdale solo Nishimura e altri sette le paria vivevano in quella squallida zona della cittadella resistere all'istinto di resistere era una forma di forza tentava di convincersene dopo la fine di Jacopo Latterdale Nishimura aveva tentato discretamente di unire gli altri reglietti del piano più basso è il destino di tutti noi Sibilo gli uomini lo guardarono furibondi e gli volsero le spalle Latterdale poteva essere morto ma un altro del loro gruppo di sfortunati un meccanico delle turbine di nome Lavar Pomeroy era stato fatto salire nella sala radar gli era bastato umiliarsi di fronte a Enstrom era l'unica cosa che volevano gli uomini della meteorologia prendere le distanze dall'inferno rovente del ponte di volo e avvicinarsi di un passo alla torre di controllo la sacra dimora di padre Bill Nishimura ingoiò l'ultima rachide con la gola dolorante per la secchezza sembrava fossero ore che nessuno passava con un secchio e un mestolo la preghiera della notte nel ritardo e il secchio forse non sarebbe passato fino alla mattina dopo il secchio il maledetto secchio era l'unica cosa che contava ormai con quanta rapidità San Carl l'uomo dalla schiena dritta orgoglioso dei suoi vestiti color khaki si era ridotto a cane curvo per la paura le orecchie tese a cogliere il tintinio del secchio ancora pochi giorni così e che bestia sarebbe diventato Nishimura attribuiva la sua sopravvivenza a due cose una che Enstrom godeva nel vederlo soffrire due che conosceva la big mama meglio di chiunque altro lassù e lo sapevano padre Bill non aveva pensato di scendere dalla torre di controllo dopo la lunga camminata ma Enstrom affaccendata ape operaia faceva frequenti visite al proletariato sempre accompagnato da una delle guardie per cercare aiuto nello stabilire il nuovo ordine mondiale era forse un'ironia certo una tragedia che nessuno l'avesse aiutato più di Nishimura il quale non vedeva alternative se sperava di tornare un giorno a Baffaro a rivedere Larry e i bambini padre Bill aveva mantenuto la promessa di gettare l'ancora fondando così una nazione e i suoi cittadini lo applaudivano certi che la segregazione dalla società fosse la chiave della futura grandezza ancorarsi era un'operazione impegnativa per una porta aerei ma grazie agli arcaici tubi portavoce una cosa superflua che Nishimura non avrebbe mai pensato che un giorno potesse servire i seguaci di padre Bill erano riusciti a contattare un gruppetto di marinai che ancora resisteva agli spettri con rapidità allarmante quei marinai lontani avevano ceduto al fascino della lunga camminata e Nishimura aveva sentito che il movimento della nave passava dalla deriva laterale all'oscillazione verticale delle onde si chiese se si sarebbero mai più mossi nelle ore seguenti Nishimura aveva sentito i meccanismi interni della Big Mama che si fermavano come il corpo di un'amata patriarca a cui venissero staccati i fili che la tenevano in vita gli schermi dei radar compresi l'SPS-48E l'SPS-49V-5 l'SPS-65V-9 e l'SPS-67 interruppero il loro concerto di BIP il tintinio del sistema di individuazione bersagli MK-23 si arrestò il ticchettio del ricevitore a banda larga WRL-1H svanì nel nulla peggio ancora il ronzio del sistema di controllo antincendio MK-91 divenne silenzioso malgrado la nave si fosse dimostrata soggetta a incendi nel frattempo rombi periodici facevano sospettare a Nishimura che le munizioni venissero buttate in mare l'Olimpia veniva privata della sua identità e si creava un vuoto che senza dubbio padre Bill si preparava col mare lo scatto dell'altoparlante arrivò talmente in ritardo che Nishimura lo confuse con il mestolo che batteva contro il secchio dell'acqua vide le ombre degli altri sette uomini che si rizzavano la luna riflessa nei loro occhi impazienti oh signore nel nome del tuo unico figlio Gesù benedici la guerra in Afghanistan signore la guerra in Iraq signore la guerra in Siria signore vi ricordate di tutto ciò quando veniva il mio turno di fare le preghiere quotidiane con i miei cosiddetti colleghi uomini di false fedi che sono caduti includevo sempre questa supplica a Dio affinché ci aiutasse a vincere le nostre guerre stasera stasera posso finalmente eliminare questa preghiera la guerra sta per finire compresa la guerra che abbiamo combattuto qui su questa nave e che tanto per cominciare non è mai stata una vera guerra i demoni noi li accogliamo li accogliamo a braccia aperte unendoci alla nostra metà demoniaca noi elimineremo il male sto chiedendo consiglio a Dio sul modo migliore per arrivarci ma per il momento i demoni esigono altro sangue e noi abbiamo la fortuna di poterglielo dare d'ora in poi non chiederò più a Dio di guidare le nostre pallottole perché non c'è più motivo per sparare l'altoparlante scricchiolò a meno che non si tratti di difendere il nostro tempio dai non illuminati i non illuminati erano coloro che si muovevano nel frapponte e dovevano ancora offrirsi come preti laici la chiesa di padre Bill potevano nascondersi ovunque sulla nave Jacopo Letterdale l'aveva dimostrato Nishimur era troppo stanco e assetato per tenere ancora bada la memoria quanto tempo c'era voluto perché l'attraversamento del Mar Rosso convincesse i detrattori israeliti che Mosè era un profeta la lunga camminata il miracoloso percorso di padre Bill attraverso il ponte di volo in fiamme infestato di spettri aveva ottenuto lo stesso effetto con la stessa velocità uno dei suoi primi atti era stato dividere il giorno in cinque sezioni introdotte ciascuna da una preghiera che trasmetteva in tutta la nave mattina metà mattina mezzogiorno sera e notte durante quei monologhi Nishimur aveva notato che Letterdale cominciava a cedere alla fine a metà della preghiera della sera Letterdale aveva guardato la sua terza manciata di arachidi della giornata ed era scattato il cibo è tutto là sotto se ci chiudiamo qui moriremo di fame cosa stiamo facendo cosa stiamo facendo tutti quanti ha ragione disse Nishimura no non l'aveva detto l'aveva solo pensato perché al contrario di Letterdale aveva il ritardo Nishimura cautela o viltà come preferite Letterdale aveva gridato per 15 o 20 secondi rivolto agli altri marinai affamati e immobili poi era uscito sulla passerella Jacopo Letterdale era un marinaio dalla testa ai piedi fisicamente ben allenato e Nishimura gli avrebbe dato più del 50% di probabilità di arrivare sul ponte di volo sano e salvo se avesse potuto prepararsi al salto ma Letterdale era crollato in presenza di Enstrom e della sua guardia del corpo che distribuivano col contagocce acqua e arachidi Enstrom aveva detto una sola parola fermatelo e parecchi molluschi del livello meteorologia avevano obbedito Nishimura aveva sentito il tonfo della carne sbattuta sull'acciaio il gorgoglio delle proteste di Letterdale prima di Letterdale San Carl sapeva che il rifiuto di padre Bill di contattare il mondo esterno gli esponeva ai rischi dell'esaurimento di cibo e acqua delle esplosioni di motori non accuditi e della completa mancanza di una struttura operativa per affrontare quei problemi dopo Letterdale Nishimura rivide questo elenco la reazione di padre Bill al traditore aveva effettivamente contribuito a creare una struttura operativa le operazioni si scoprì andavano bene quando chi stava sotto era terrorizzato da chi stava al vertice Jacopo Letterdale fu appeso alla passerella della torre di controllo con la balaustra fra i polpacci e le cosce legate con il nastro adesivo abituati a considerare la torre di controllo un luogo sacro gli altri 41 affollarono le passerelle per guardare padre Bill con accanto Enstrom e le guardie armate reggeva il crocifisso con il braccio rotto e parlava con una voce tremula che Nishimura non riusciva a sentire gli occhi del prete chiusi in estasi erano sufficienti padre Bill fece il segno della croce e alzò un coltello si chinò sulla balaustra e incise il petto di Letterdale creando una lunga ferita storta che provocò cinque o sei rivoli di sangue arrossandogli la faccia prima che cadesse sul ponte di volo cinque piani più in basso l'inferno sul ponte si era esaurito rivelando una visione apocalittica gli scintillanti agili falcon della marina erano ridotti a pezzi di metallo contorto tarantole morte con la pancia all'aria ancora più inquietanti erano gli scheletri spolpati dei marinai le tracce di ossa carbonizzate che ogni soffio di vento riduceva in cenere il sangue rosso di Letterdale fecondava carboni neri la nuova nascita era color lampone ciò nonostante i 400 metri del ponte formicolavano ancora di attività decine di marinai morti vagavano senza meta in mezzo alle rovine demoni insisteva a chiamarli padre Bill ma Nishimura preferiva ancora spettri avrebbe sempre scelto Chuck Corso come oracolo a fronte di padre Bill anche se millennialisti poteva essere il nome più corretto gli spettri sembravano ignorarsi a vicenda ma non si scontravano mai piuttosto orbitavano come corpi galattici in cerca di materia da assorbire il loro atteggiamento disinteressato cambiò con la pioggia rossa di Jacobo Letterdale Nishimura notò che venti facce di spettri si giravano quaranta occhi bianchi lampeggiavano come gabbiani spaventati mentre si radunavano allungandosi verso Letterdale sembravano neonati di fronte a un giochino quando tentarono di afferrare al volo il sangue che cadeva lo fecero come bambini con delle bolle di sapone quando si misero in ginocchio a leccare il sangue sul ponte fuliginoso parvero ragazzini a caccia di caramelle il ritratto di un desiderio innocente a testa in giù Letterdale non aveva ancora intenzione di andarsene in silenzio urlava e si contorceva pargendo sangue tutto intorno per la gioia della folla degli spettri padre Bill appoggiò la lama del coltello sul nastro adesivo Nishimura continuava a non sentirlo ma capì che stava pregando perché arrotondava le labbra oh signore di qua oh signore di là amen gridò Enstrom questo Nishimura lo sentì e come e anche le risposte amen e si e perfino alleluia Nishimura temette di non poterlo sopportare di dover prendere per il bavero quegli uomini a uno a uno e chiedergli cosa diavolo stavano facendo poi padre Bill tagliò il nastro e Lederdale cadde atterrando con lo schianto ghiaioso di una schiena spezzata Lederdale urlò tredici spettri si impadronirono di lui all'istante e Nishimura pensò che non avrebbe mai dimenticato i punti esatti in cui l'avevano afferrato piede destro piede sinistro ginocchio sinistro coscia destra inguine mano destra braccio sinistro pettorale sinistro ascella destra collo orecchio sinistro interno della bocca occhio destro Lederdale urlò di nuovo una supplica a coloro con cui aveva prestato servizio sparatemi sparatemi come in risposta a un segnale silenzioso gli spettri tirarono e Lederdale fu lacerato le braccia si spezzarono all'altezza dei gomiti le gambe si girarono e si staccarono come code di gambero le mani degli spettri si tuffarono nel suo addome afferrarono le ossa del bacino e tirarono via la parte superiore del corpo la pelle e le interiora si tesero come mozzarella all'improvviso Lederdale che da vivo era alto forse 1,70 si allungò per più di 9 metri sparso sul ponte in pezzi collegati da vene nervi intestini e carne Nishimura avrebbe voluto che il silenzio seguita questa scena fosse il preludo dell'azione gettare quel pazzo di padre Bill agli spettri invece era il silenzio che Nishimura spesso sentiva nelle chiese l'orgogliosa convinzione che il tuo dio sia il vero dio e che siccome avevi posato il culo sulla panca giusta non saresti mai stato costretto a pagare silenzio silenzio luci spente il segnale delle dieci del comandante Bryce Pitt breve meccanico ma professionale era stato sostituito dall'arroganza provocatoria di Enstrom Nishimura deglutì aveva la gola chiusa e dolorante il sollievo per essersi perduto la maggior parte della preghiera di padre Bill fu cancellato dalla certezza che l'acqua non sarebbe arrivata Nishimura posò la testa sul pavimento e tentò di riflettere un corso di sopravvivenza millenni fa suggerimenti per conservare l'acqua lavorare di notte evitare il sole fuggire il vento limitare il cibo quest'ultimo lo fece ridere ebbe l'impressione di vedere nell'oscurità il lampeggiare di occhi sospettosi Carl Nishimura sarebbe stato un ottimo secondo sacrificio ai demoni dicevano quegli occhi un sacrificio che poteva procurare una promozione ai piani superiori Nishimura non poteva farci niente in quel momento chiuse gli occhi e tossì per inumidirsi la gola con la saliva conservare l'acqua conservare le energie sentirsi grato perché riusciva a vedere le stelle attraverso una fessura della finestra pensò a quella povera recluta dei serpenti rossi che aveva avuto l'incidente all'atterraggio e all'importanza che tutti gli avevano dato se solo avessero saputo cosa li aspettava una situazione definitiva com'è? la domanda era diventata il ticchettio di un orologio Luis mostrò a Charlie sulla mappa della sua app i posti in cui poteva essere andata a Rosa i quartieri delle amiche ma Luis non era sicuro di poter indicare con precisione le case il che voleva dire bussare a porte pericolose tentò di pensare ad altri posti frequentati da Rosa e rimase sconvolto quando gli vennero in mente per lo più dei luoghi che poteva aver visitato in qualità di marito supermercati takeaway lavanderie automatiche se non si era mai curato di sapere cosa faceva sua moglie tutto il giorno come poteva sperare di trovarla l'app continuava a bloccarsi per le notifiche il suo post veniva rituitato all'infinito vuoi spegnere quell'affare mi fa sentire meglio la voce si sta diffondendo il tuo ego è quello che si sente meglio vuoi esaurire la batteria era un buon argomento l'elettricità c'era ancora ma le luci andavano e venivano eliminò tutte le notifiche del cellulare una pulizia dolorosissima per abitudine lo fece con la mano destra all'interno della quale tutti i nervi erano fili tesi verso il pollice mancante com'è? continuava a chiedere Charlie se parlava della sua mano poteva dirle esattamente com'era in pessime condizioni se parlava del pollice era un'altra storia il pollice era andato lui si aveva raccolto quanto era accaduto dalla bocca di mamà e l'aveva buttato nel tritari fiuti da cui Charlie aveva staccato la mano di sua madre quando aveva premuto l'interruttore frammenti di osso bianco e di muscolo rosso erano schizzati nello scarico come pezzi di ravanello adesso si sentiva svenire e aveva la nausea forse era il sangue perduto il trauma di aver perso un pezzo del proprio corpo e se invece fosse stato qualcosa di peggio sperava che la maggior parte della malattia di John Do fosse finita nel lavandino ma sapeva che l'infezione di cui mamà era portatrice forse si stava diffondendo nelle sue vene proprio in quel momento com'era la situazione piuttosto cupa aveva tentato di aiutare Charlie a disporre del corpo di mamà fin da bambino aveva immaginato l'espressione coraggiosa che avrebbe avuto un giorno portando la sua bara Charlie gli aveva detto di sedersi ma il peso morto di mamà rendeva difficile la sua Diner staccarle la mano dal dispositivo Luis aveva avvolto le braccia intorno al petto della madre l'ammasso rosso della sua faccia talmente vicino che avrebbe potuto darle un bacio ma non era stato di grande aiuto bastava che se ne andasse in un stupido pollice e tutta la mano finiva in vacca alla fine si era tirato indietro e aveva ascoltato lo schianto umido dell'estrazione e il duro raschio del cadavere trascinato in garage dove sarebbe rimasto con tutta la dignità di un sacco di cibo per cani Luis collegò il cellulare a una presa inorridendo di nuovo per le difficoltà dovute alla mancanza di un pollice non aveva la forza per difendersi il suo labbro inferiore era addirittura pendente si gentile con me pensò non mi sento bene finalmente Charlie lo disse non possiamo andarcene Rosa te lo dico il più gentilmente possibile dimentica Rosa se i telefoni riprenderanno a funzionare ti chiamerà lei quando le strade torneranno sicure rientrerà a casa ma non possiamo buttarci in una missione di recupero a caso nelle condizioni in cui sei Luis alzò la mano bendata la cauterizzeremo la cuciremo sappiamo come fare adesso te lo dico meno gentilmente sei inutile in questo momento credi di riuscire a superare una cancellata siamo in periferia tutte le case sono recintate come il carcere di San Quentin tu arrivi a malapena lavandino mi serve solo un po' di tempo è lo shock vedremo intanto dobbiamo rinforzare le difese ne ho sentito uno fuori dalla porta del garage quanto ci vorrà perché uno di loro sfondi una finestra con un pugno un'ora un minuto se ci chiudiamo qui dentro mamà cosa cosa c'entra lei a cocella parla se se resta lì distesa lei ho lavorato anch'io in un obitorio sai la seppeliremo te lo prometto ci inventeremo qualcosa ma dobbiamo pensarci più tardi quello che devi fare adesso è dirmi dove sono martello e chiodi in garage con lei hai delle assi no va bene abbiamo i ripieni della libreria e i tavoli faremo un po' di rumore ma il rumore non non li attirerà probabile ecco perché dobbiamo fare presto prima che se ne accorgano in troppi ho bisogno del tuo aiuto per questo va bene a cocella guardami ho bisogno che tieni le assi in posizione mentre io le inchiodo ok fai di sì con la testa non siamo nella sala 1 dell'obitorio non c'è una procedura precisa qui dobbiamo mettere del legno su quel vetro il prima possibile lo capisci a cocella lo capiva anche se attraverso la pesante nebbia che aveva nel cervello non riusciva a immaginare una barricata che tenesse fuori i sarcofagi quanto una che tenesse dentro lui e Charlie si chiese se la sua astuta Diner non volesse esattamente questo si ricordò del suo sguardo pieno di desiderio la sera prima nella sala autopsie nonché della propria gratificazione sentì il movimento del pene che si gonfiava cosa stava succedendo era completamente confuso Charlie Rukowski fece a pezzi casa a cocella con un entusiasmo che a lui sparve eccessivo mise i mobili sotto sopra con le gambe che sporgevano rigide come quelle degli animali morti e li fece a pezzi con efficienza da macellaio gli schianti e l'odore della segatura produssero Luisa adrenalina sufficiente per raccogliere le assi che Charlie ricavava da tavoli scaffali portativi armadietti comò cassetti testiere sedie e sportelli della cucina li amucchiò accanto alle finestre davanti attraverso le tende di pizza di rosa riusciva a vedere delle forme scure che si avvicinavano a grandi passi inchiodare era la parte rischiosa quando le pareti si misero a vibrare e le finestre a tremare i sarcofagi vennero a cercarli le braccia si infilarono tra i vetri del salotto braccia con magliette camice uniformi di fast food divise militari vicini che entravano nella casa di Louise senza chiedere permesso non si faceva così alla mesa Charlie martellava troppo forte e veloce per essere presa Louise picchiava i sarcofagi con il legno che aveva in mano le loro mani erano continuamente schiacciate e non mostravano alcun dolore forse era davvero un buon segno pensò Louise che la sua mano gli facesse un male d'inferno nessuno entrò naturalmente i sarcofagi deponevano le larve sui morti e non c'era nessun morto in casa a Coachella Louise si massaggiava la testa pulsante con entrambe le mani solo un pollice prendeva parte all'operazione ma in verità una persona morta c'era nel garage Louise si diede uno schiaffo con la mano sana e aiutò Charlie a inchiodare i pezzi più grossi il tavolo del salotto la testiera del letto Rosa sarebbe rimasta bocca aperta pensò Louise se mai fosse tornata a casa un'ora dopo aver cominciato avevano bloccato il 90% della luce al piano terra sudati e con la pelle arrossata crollarono ai piedi delle scale attirati dal sole caldo che entrava senza ostacoli dal piano di sopra Louise chiuse gli occhi forse adesso riposando la sua confusione si sarebbe attenuata tutta quell'attività era stata dannosa per la sua mano l'ultima volta che l'aveva guardata lo strofinaccio si era allentato ed era nero e gocciolante con la tipica arroganza dei medici non teneva in casa un kit di pronto soccorso com'è? Louise socchiuse un occhio incrostato e dolorante il sorriso di Charlie tese una ciocca di capelli biondi che il sudore le aveva incollato alla faccia Louise guardò il ghigno sanguinoso della sua mano destra poi il salotto che sembrava fosse stato visitato da una squadra di demolitori almeno quattro sarcofagi continuavano a battere sulle finestre barricate ma il rumore che facevano era diminuito forse avevano capito che altre finestre di altre case erano più abbordabili non sembra così male rispose Louise per un tornado dobbiamo sistemare quella mano prima la doccia per favore facciamo la guardia a turno e se mancasse l'acqua dobbiamo conservarla e se puzzassimo così per sempre non è questa la vita che voglio vivere ok sbrigati hai bisogno che ti sorregga ti piacerebbe sì niente mi eccita più di un vecchio che scivola nella doccia Louise aveva bisogno dell'umorismo aveva la vista confusa la gola in fiamme lavare la ferita era la cosa giusta da fare avrebbe dovuto farlo già da tempo e sperava che togliersi di dosso due giorni di sudiciume lo liberasse anche dai cattivi pensieri si alzò a fatica accettando l'aiuto di Charlie in cima alle scale c'era una finestra coi vetri colorati regalo della madre di Rosa dava l'ultima luce del giorno le sfumature del vino Louise si disse che ne era ubriacato ecco l'unica cosa che non andava rabbrividì c'era dell'aria che veniva da una delle finestre rotte del piano terra si fece la doccia nel bagno in cui Rosa aveva avuto l'aborto finito si vestì nella loro camera da letto guardando giù nella strada assegnata dai frutti incompiuti di un aborto più vasto poi si sedette sul divano del salotto mordendo uno straccio mentre Charlie gli cuciva la ferita disse a Charlie che avrebbe fatto la guardia mentre lei si faceva la doccia ma un attimo dopo essersi disteso sul divano si addormentò si svegliò con la luce arancione del mattino che filtrava dalle fessure tra le assi e Charlie addormentata fra le braccia aveva i suoi capelli sulla faccia morbidi come angora il suo profumo era incredibilmente dolce il sapone di Rosa lo shampoo di Rosa ma senza la pelle fruttata e fiorita di Rosa Charlie sapeva di sciroppo d'acero Louise si chiese se fosse un residuo del legno maneggiato da poco che l'era penetrato nei pori i vestiti di Rosa su Charlie erano larghi come camici Louise sentì una stretta di dolore per sua moglie Rosa aveva investito tempo e cura nella loro scelta i suoi vestiti la conoscevano per coccolare le sue curve la stoffa era tesa e i punti avevano ceduto intrisi delle sue preferenze e delle sue insicurezze i vestiti erano importanti nel momento in cui Charlie li aveva tirati fuori dal comò per usare il legno gli abiti di Rosa erano diventati stracci non più significativi dello strofinaccio che gli aveva avvolto intorno alla mano mentre gli uccelli cantavano tranquilli nel mattino Louise ammise che era improbabile che avrebbe mai rivisto Rosa delgado a cocella guardò attraverso i densi capelli di Charlie il suo volto addormentato senza il solito trucco pesante appariva vulnerabile le sue labbra sottili e senza rossetto erano contratte e un leggero russare le usciva dalle narici la terra si era spezzata precipitando interi continenti nelle fosse oceaniche e scambiando le qualità della vita e della morte quasi invisibile fra quelle meraviglie sua moglie era stata sostituita da Charlene Rukoski senza domande senza risposte Charlie indossava i vestiti di Rosa dormiva sul divano di Rosa aveva già risistemato la casa di Rosa Charlie era pronta per quel ruolo Louise non aveva dubbi e lui? ogni istante risvegliava brutte sensazioni il pulsare doloroso della mano le contrazioni dello stomaco ancora nauseato la confusione della testa febbricitante non sarebbe andato da nessuna parte per un po' era possibile che non sarebbe mai più andato da nessuna parte quella poteva essere una situazione definitiva Charlie si svegliò sbadigliando e stirandosi assonnatamente sexy come Louise si aspettava e gli rivolse un sorriso stanco prima di incastrare la fronte calda nell'incavo del suo collo per un lungo istante respirarono insieme nient'altro Louise che non aveva mai avuto un'avventura da una notte in vita sua si chiese se ci si sentiva così con l'energia della sera prima che evaporava lentamente alla luce del giorno colazione la cucina il lavandino sua madre gli venne da vomitare ah sì scusa troverò del caffè tu resta qui la maglietta oversize di Rosa oscillò sotto al sedere di Charlie mentre lei lasciava la stanza Louise si alzò a sedere era un dottore ma era ancora ostinatamente convinto che la sua salute dipendesse dalla sua volontà spinse il divano in modo da metterlo parallelo alla tv mossa i pezzi di legno fino a trovare il telecomando e lo accese lo schermo era nero nessun segnale cambiò canale niente finalmente dopo alcune decine di tentativi un segnale arrivò forte e chiaro un uomo di bell'aspetto chino su una scrivania con gli occhi accesi a dispetto della faccia gonfia di stanchezza Charlie entrò nel salotto con due tazze chissà come era riuscita a scegliere quella che Louise usava sempre e gliela porse mentre quella preferita da Rosa la tenne per sé si sedette accanto a lui sul divano e indicò la tv con la tazza cosa abbiamo qui Louise indicò il logo della WWN oh buon segno finto entusiasmo per incoraggiare l'amalato Charlie teneva la tazza per il manico mentre Rosa l'aveva sempre stretta fra le dita una piccola differenza ma molte piccole differenze finivano per creare un grande cambiamento affondato nel divano Louise fingeva di guardare la WWN sentendosi sempre peggio c'erano molti buoni motivi per stare zitti ma Charlie come era nella sua natura reagiva a tutto quello che diceva il presentatore Chuck Corso ma attraverso il suo diffuso mal di testa Louise sentiva solo metà delle cose che diceva Charlie perché diavolo mandano quelli della D-Mort che si occupano delle identificazioni delle vittime non ci sono cadaveri da raccogliere i cadaveri si rimettono in piedi cretini questa non è una psicosi di massa legata a un virus che vadano a fanculo quelli del centro per la prevenzione delle malattie senti testa di cazzo se non ci avessi propinato tragedia ripetizione magari avremmo riconosciuto prima l'esistenza di questo problema sai estasi è un'estasi certo come vuoi idioti questa è proprio una stronzata una bomba sporca una bomba sporca questo tizio non riconoscerebbe la verità neanche se gli mordesse la mano oh scusa cocella lui si sorrise ma non riuscì a emettere il mmm che lei avrebbe senza dubbio apprezzato stava diventando incoerente il suo termine sarcofagi era stato sopraffatto da quello del presentatore della WWN spettri era più o meno tutto ciò che poteva gestire al momento incominciava ad avere delle visioni uccellini che volavano lenti sul soffitto una luminosa erba verde che usciva dalla moquette benissimo avrebbe chiuso gli occhi caldi e doloranti e si sarebbe avvolto il corpo gelato in una coperta poteva fare queste cose perché capiva che in effetti avrebbe potuto amare Ciarlin Rukoski l'aveva sempre amata un po' per come inveiva con tutte le sue forze contro un mondo ostile com'è? la domanda aleggiava nell'aria vivere con Charlie era una cosa morire con lei un'altra la seconda guerra civile le prime ore dopo aver lasciato Conan e Quasim Greer era stata una brava ragazza civile che abbandonava la città in bicicletta con le buche nell'asfalto della strada a due corsie che le facevano sobbalzare la borsa sulle spalle ma il percorso civile era una merda le strade secondarie erano state bloccate da incidenti che Greer girava tagliando per i prati altrove un paro del telefono era caduto in mezzo alla strada e lei doveva sollevare la bicicletta per superarlo pedalava verso sud da due ore quando si imbattè in tre adolescenti già a 50 metri di distanza si vedeva che avevano gli occhi bianchi sembravano affamati tendevano le braccia con una decisione insolita e per non rischiare di essere afferrata Greer lasciò l'asfalto e passò nei campi bruciati dal sole pedalare sull'erba però era faticoso e riduceva la sua velocità tanto che uno dei tre perse un dito fra i raggi della ruota posteriore di Greer era il maledetto mondo che le diceva di tenere il suo stupido culo lontano dalle strade principali dove qualsiasi occhio bianco poteva vederla Greer prese le strade secondarie piccole strisce di asfalto o di terra battuta e anche se pedalare era più faticoso le andò bene finché un uomo in cima a un granaio non prese a spararle addosso lei saltò giù dalla bici e si mise a urlare che era viva il tipo continuò a sparare lei si girò e pedalò come non aveva mai pedalato prima gridando forte per ricordarsene che era anche altre cose una nera una ragazza una minaccia per quello che l'uomo custodiva dopo questo episodio al diavolo le strade Greer portava la bicicletta a mano la rallentava ma la costringeva anche a osservare con più attenzione e dintorni aveva bisogno di mangiare e un cauto esame di una fattoria le permise di verificare che era abbandonata aveva portato la bicicletta direttamente in cucina e l'aveva caricata con tutti i sacchetti di cibo secco e tutti i contenitori d'acqua che aveva potuto la Shrine era diventata una bestia da Soma mentre faceva rifornimento aveva acceso la tv ed era rimasta affascinata per un'ora intera dall'unico canale funzionante la WWN a giudicare dai video amatoriali la situazione era una merda ovunque la gente si tirava fuori dalle rovine di un ciclone a Shamrock Oklahoma con l'aria di sopravvissuti miracolati finché loro non li aggredivano video di youtube con l'hashtag drone to dead mostravano dilettanti che pilotavano droni in mezzo a una folla di occhi bianchi con scene madri delle loro facce affettate dalle eliche dei droni divertente vero? assurdità tragicomiche da Disney World come il gruppo costituito da Ariel Belle Jasmine Mulan che aggrediva i bambini ogni morso un fiore all'occhiello Greer prese un sacco a pelo lasciò la casa e dormì nei boschi dormì nei boschi anche la sera dopo e quella dopo ancora notti dure in ogni ramoscello che si spezzava c'era Quasim le viscere pendenti dalla pancia che la desiderava più che mai il quarto giorno si svegliò con la faccia mezzo congelata per le lacrime appesantita dalla rugiada mattutina con addosso l'odore della corteccia e convinta che le orecchie la ingannassero sembrava pioggia che cadesse da un tetto su un rivestimento di alluminio ma non c'era nessun tetto nelle vicinanze nessun rivestimento e gli ultimi tre giorni e tre notti erano stati sereni e freddi Greer spinse la bicicletta su un campo incolto di erbacce con le calze e i jeans bagnati soppesando varie ipotesi era il plink delle recinzioni per tenere quelli come lei al di fuori di una zona di sicurezza era il plink di qualcuno che tendeva a una balestra capace di ucciderla a un miglio di distanza era il plink degli occhi bianchi che strappavano la carne dalle ossa poco prima che Greer vedesse l'origine del suono al plink si aggiunse un lungo gemito basso che lei prese per un cancello arrugginito si scoprì che era una voce poco più avanti c'era l'incrocio più piccolo che Greer avesse mai visto tra due stradine serpeggianti di terra battuta adatte solo per il trattore del contadino le profonde pozze di fango e le alte erbe indicavano che non veniva usato da molto tempo se non dall'uomo seduto all'angolo che suonava una melodia malinconica con una chitarra color avorio indossava una giacca di pelle nera su una maglietta nera con una sciarpa scolorita con la bandiera americana intorno al collo sotto ai jeans neri un polveroso stivale nero batteva al ritmo nella polvere le sue lunghe dita pizzicavano le corde della chitarra con seducente lentezza e ogni plink riusciva malapena a seguire il ritmo un cappello nero nascondeva la faccia del suonatore oscillando al ritmo con la canzone in quella terra spoglia non c'era niente che gli facesse eco e il terreno umido assorbiva ogni riverbero dando alla sua voce la delicatezza di un cinguettio la musica era coinvolgente quell'uomo doveva essere un miraggio Greer non ebbe paura l'uomo non aveva nulla con cui attaccarla tranne la vecchia custodia della chitarra che usava come seggiolino e la chitarra cui evidentemente teneva troppo per rischiare di danneggiarla Greer si fermò a cinque passi di distanza il movimento avanti e indietro del cappello dell'uomo gli consentì di scrutare fuori da sotto la tesa Greer capì che l'aveva sentita avvicinarsi ma aveva preferito rivelarsi a poco a poco nella speranza di non spaventarla ci voleva del coraggio pensò era lui che avrebbe dovuto avere paura di lei si aspettava che fosse un nero gli vedeva le agili dita marroni ma non si aspettava che avesse meno di 25 anni e che fosse il ragazzo più bello che aveva mai visto inarcò le sopracciglia sui due piccoli occhi arrossati e tese le labbra in un sorriso timido in mezzo a una barbetta incolta aveva smesso di cantare ma continuava a muovere la testa suonando con forza e facendo scattare le corde come elastici il suo pomodadamo si muoveva su un collo magro mentre improvvisava tre giorni da sola avevano familiarizzato Green con il cuore che martellava e con le ondate di adrenalina e si era già dimenticata che quegli stessi fattori potevano farla arrossire si ricordò che era in possesso di un mezzo di trasporto su due ruote carico di cibo e di acqua hai sete? chiese la sua voce era decisamente poco musicale il ragazzo smise di canticchiare ma continuò a suonare dovrei pisciare figo pensò Green ironicamente e mangiare? hai fame? il ragazzo le fece l'occhiolino hai del tacchino in uno di quei sacchetti Green guardò nel sacchetto che aveva sotto mano Arachidi Planters lui si passò le dita sul collo e cantò era tanto che Green non sorrideva si sentì spezzare l'incrostazione di sudiciume sulle guance chiunque fosse quel tipo aveva un fascino che non si trovava nel Missuri nord occidentale tirò fuori il barattolo di arachidi e glielo tirò era un po' tagliato come diceva suo padre ma la mano sinistra del ragazzo scattò dal manico della chitarra e lo bloccò contro la giacca mentre la destra continuava a pizzicare le corde le sorrise al di sopra del coperchio di plastica del barattolo e continuando a suonare con la destra lo svito col mento si versò in bocca un milione di arachidi mangi come un maiale rispose lui masticando questo posto Grir si guardò in giro è tuo lui deglutì fece una smorfia presa una confezione di minestra in scatola dietro la chitarra e beve il liquido probabilmente acqua piovana a giudicare dal colore gli colò sulla gola e gli scuri la maglietta il ragazzo sospirò tossì e si asciugò le labbra la mano destra dotata di vita propria continuava a suonare la guardò con un mezzo sorriso ironico vuoi dire se questa è la mia cuccia Grir strinse il manubro della Schwin non sono tenuta a contividere la mia roba lui fece scorrere un dito sulle corde ed emise una nota profonda e nostalgica no non è casa mia sto facendo un giro e mi sento come dire Faustiano sono pronto a fare un patto alla Robert Johnson non so chi sia lui alzò un sopracciglio e passò la mano sul manico della chitarra una progressione ascendente che lei evidentemente avrebbe dovuto riconoscere Grir si strinse nelle spalle lui si leccò le labbra suscitandole in ondata di desiderio e le chiese cosa ci fai tu qui Grir si strinse di nuovo nelle spalle sono scappata da Kansan City lei scosse la testa dall'altra parte e da cosa scappi dal cranio pelato di Freddy Morgan dal dolore disperato di Conan Morgan da una città che si chiama Bulk circa 60 chilometri più a nord e ci incontriamo all'incrocio del diavolo come le due macchine che si scontrano nel deserto hai un nome e tu lui si toccò il cappello con la punta di un dito Mr. Peanut Grir sbuffò lui rise e le porse il barattolo di Planters lei fece i calcoli di qualsiasi ragazza prima di avvicinarsi a un uomo e decise di rischiare avanzò di un passo e prese il barattolo ma non prima di aver sentito il suo odore arricciò il naso prima di potersi trattenere il ragazzo puzzava di birra il liquido in quel barattolo non era acqua adesso che ci pensava anche la custodia della chitarra su cui era seduto non si muoveva come se fosse vuota sei ubriaco oh beh ci ho lavorato su parecchio sai che è molto stupido con quelle cose in giro e anche berciare canzoni berciare accidenti era un po' che non ricevevo una recensione negativa sì ho capito suoni la chitarra immagino sia per questo che devi ubriacarti ed essere allegro quando tutti gli altri sopravvivono a malapena è per questo che ho scelto di venire qui il ragazzo allargò le braccia verso i campi circostanti e adesso che la musica si era fermata le parve che quel mondo solitario sussultasse il posto migliore per nascondersi pensavo e stare all'aperto come hai detto che ti chiami? Greer e tu chi sei? ciao Greer io sono KK KK? come il Ku Klux Klan? esatto io sono due terzi del KKK adesso che sai la triste verità ti dirò che ho un'ottima ragione per essere ubriaco quando la saprai ti dirai signorina Greer KK si è meritato la sua birra ed ora in poi sarò molto più amichevole nei suoi confronti ne dubito lui pizzicò una corda e creò l'atmosfera con un giro di flamenco deve essere stato un giorno un giorno e mezzo dopo l'inizio di tutto questo casino e dove sono finito? alla Birreria Waterfall di West Bottoms ora potresti essere tentata di pensare che io sia andato là con lo scopo dichiarato di farmi un bicchiere per questo pensiero io ti perdono signorina Greer ma non è esatto avevo appena perso Tool cavoli pizzicò con forza la chitarra il doloroso twop del blues Greer avrebbe riso se gli occhi del ragazzo non si fossero appannati per l'angoscia non sapevo neanche che fosse una birreria giuro c'era questa porta sul vicolo immagino che sia dove scaricano i barili e di punto in bianco Mr. Muse King è circondato da questi giganteschi boccare di birra Muse King è il tuo vero nome? Muse era perduto nel racconto della storia con i su e giù di una canzone la birra non è mai stata roba per me sai il bourbon piuttosto e non sono neanche schizzinoso passi la sera a cantare per mangiare la voce a pezzi un po' di whisky e un tocca sana così spingo qualche scatola contro la porta e mi metto a cercare una bottiglia non puoi accusarmi per questo e a poco a poco noto un suono un brutto suono i suoni sono la vocazione di King Kong King Kong? ma quanti nomi hai? hai mai dato un calcio a una macchina lasciandoci il segno? sai quel rumore metallico? era quello il suono un piccolo bong poi due piccoli bong poi tre piccoli bong ora Tool era un tipo da birra abbiamo fatto milioni di chilometri in macchina insieme e giuro metà del tempo lo passava a parlare di estratto di malto e di palato e io tipo ragazzi dobbiamo procurarci una di quelle limusine insonorizzate così non ti sento più comunque una cosa che ho imparato è la fermentazione sai cos'è la fermentazione signorina Greer? no ma almeno io ho un nome solo Tool parlava della produzione di birra come se fosse TNT quando si fa fermentare la birra bisogna stare attenti al calore si riscaldano le spighe si mettono sotto pressione c'era qualche centinaio di tini in quella birreria e nessuno li teneva d'occhio da giorni io mi ero appena procurato il mio bourbon proprio come pensavo e tutto un tratto chiede un colpo sulla cassa della chitarra boom Greer tirò fuori una bottiglia di plastica da due litri che aveva riempito d'acqua e beve una lunga sorsata era un atteggiamento informale con cui voleva far capire che si sentiva a suo agio si immaginava quell'uomo su un palcoscenico che raccontava aneddoti fra una canzone e l'altra sollevando la sua mente da tutte le preoccupazioni che l'affliggevano era triste pensare che forse non avrebbe mai vissuto una situazione del genere locali drink le cose da adulti che sembravano così divertenti alla tv si sentiva tanto più felice perché ne provava un assaggio in quel momento meglio dell'acqua è uscita dal tetto mi stai ascoltando la birra ha fatto un buco nel tetto adesso sembra da ridere ma ti dico al momento non è stato affatto divertente sembrava che fosse esplosa una bomba prima che potessi cercare un riparo è scoppiato un secondotino stessa cosa attraverso il tetto e tutto comincia a crollare capisci? legno, tegole, metallo, vetro e poi le pareti di mattoni cominciano a incurvarsi sai che Kansas City è detta la città delle fontane? è vero solo che quelle erano fontane di birra ragazzi un idrante che spruzzava dappertutto un'apocalisse di birra ti dico sono inzuppato di birra fino alle ossa ecco perché ho addosso questo profumo sei anche ubriaco sì ma perché ho messo qualche altra bottiglia di bourbon nella custodia della chitarra prima di scappare dovrebbero bastarmi almeno per un po' se continui così no vero vero magari io spingo la bici e tu porti la custodia merda è la volta che comincio a bere anch'io sorrise prima controllata poi lasciandosi andare e lui sorrise di rimando una smorfia da coccodrillo e lei si sentì scossa di nuovo non per il desiderio ma perché aveva l'impressione di essere incappata in una grande fortuna se lei avesse portato la custodia come suggeriva lui e lui avesse spinto la bicicletta come diceva sarebbero stati una squadra due persone insieme diceva sempre freddy morgan prima che vienna finisse in carcere non erano forti il doppio di una ma duecento volte tanto Muse King o King Kong o KK comunque si chiamasse poteva essere ubriaco ma i peli sulla nuca e sulle braccia di Greer non si rizzavano in segno di pericolo provare gratitudine rendeva vulnerabili distolse lo sguardo lo rivolse alla bici dopo attenta deliberazione staccò la borsa si sedette e la aprì Muse scosse la chitarra per far vibrare l'ultima nota hai l'età per bere signorina Greer lei estrasse il macete Muse alzò le mani prego bevi quello che vuoi Greer alzò gli occhi al cielo e posò il macete sull'erba rilassati mi sto solo premunendo lui la guardò con occhi limpidi poi posò a terra la chitarra come aveva fatto lei tenendo le braccia basse si stropicciò le mani fredde e ci soffiò dentro la verità è che nessuno dei due dovrebbe bere neanche una goccia quando i tempi si fanno tristi la bevanda giusta è più preziosa dell'oro te l'ha detto Tool il sorriso di Muse parve di cortesia la musica di Tool era un miscuglio e nient'altro la mia è storia americana avrei potuto scriverci un paio di dischi caffè e alcol ragazzi la gente è disposta a vendere l'anima per questo qualcuno dice che è stato il caffè a vincere la guerra civile i ribelli bevevano una ciofeca marrone fatta di foglie di gran turco e corteccia mentre il nord ingollava grandi tazze di good morning America se ci giochiamo bene le carte con questo bourbon io e te possiamo diventare lord e lady Obama chi si siede al grande tavolo però? Greer stava flertando non ci poteva credere aveva perso la sua famiglia per una vendetta autodistruttiva una pandemia mortale e la prigione e non aveva piani per sopravvivere nell'inverno incombente ma dalla sua gola usciva la stessa voce dura e scherzosa che aveva usato a scuola nelle feste intorno al falò con Quasim che quello spirito vivesse ancora dentro di lei le sembrava un miracolo lo studio vale tutto tuo Muse si passò le mani sulla faccia si guardò in giro e sospirò Missuri il mondo doveva finire quando ho avuto un ingaggio nel maledetto Missuri altro che guerra civile potrebbe andare peggio il Missuri era nordista no? così ti hanno insegnato non dare la colpa a me se ho fatto una scuola di merda il tuo caro Missuri ha dato soldati all'unione certo ma aveva anche un sacco di guerriglieri confederati era uno stato schiavista ok? il Missuri era la sintesi dell'incubo americano lo è ancora a Kansan City ragazzi ho visto i neri uccidere i neri i bianchi uccidere i bianchi il fratello il fratello la sorella la sorella se non è la seconda guerra civile non so cos'è tu cos'hai visto Sack? Sack? la tua città? Bulk? stessa merda nessuno affrontava gli occhi bianchi erano troppo occupati a darsi la colpa all'un l'altro occhi bianchi? è così che li chiamano Bulk c'è un nome migliore? quelli dei notiziari li chiamano Spettri era la cosa più rassicurante che avesse sentito finora da qualche parte andavano ancora in onda dei notiziari da qualche parte delle persone intelligenti davano ancora un nome ai disastri Greer allungò le braccia sopra la testa godendosi il movimento dei muscoli induriti dalla notte passata nel bosco quando il top le scoprì la pancia sapeva che Muse l'avrebbe vista e si godette anche questo poi riabbassò le braccia si distese sull'erba e quando posò la mano destra su una delle borse di viveri della bicicletta si accorse di aver fame Muse andò da lei proprio come lei sperava che facesse la luce ormai giallo chiaro tornò grigia sotto la sua ombra sembrava suo agio disteso a terra con una ragazza come quando suonava la sua chitarra color avorio era sdraiato accanto a lei con l'incavo del gomito sotto la sua nuca poi aggrottò la fronte sto tornando sobrio la svelta ma in realtà probabilmente sono ancora ubriaco voglio ubriacarmi anch'io disse Greer afferrandogli la lampo della giacca tirandoselo sopra pelle nera, stivali neri, jeans neri, barba nera ed escludendo il resto oh alleluia cinque giorni dopo che i morti avevano cominciato a banchettare Karl Nishimura pensava che tutti nella torre di comando condividessero i loro appetiti il cibo rimasto era deplorevole le rachidi continuavano ad arrivare sempre meno a ogni cosiddetto pasto manciate di polvere che Nishimura si leccava dalle mani solo per vederla cadere dalla lingua che non produceva più saliva le razioni di acqua erano state ridotte a poche gocce da un mestolo incrostato di sale lui e gli uomini del livello meteorologia sarebbero morti per primi ma quelli più in alto li avrebbero seguiti Nishimura non fu quindi sorpreso quando Tommy Enstrom e una guardia lo prelevarono dal suo letto indicato col gesso e lo trascinarono sulla passerella e sulla scaletta il sole era la punta di un coltello grande come una galassia ma il suo corpo anelava la vitamina D come all'acqua per cui rivolse al sole gli occhi e i palmi delle mani ravvivati i palmi ebbero la forza sufficiente per afferrare i pioli della scaletta e con Enstrom che gesticolava da sopra e la canna di una pistola che spingeva da sotto Nishimura salì gli altri quattro livelli era come remare in nuvole di bambagia la torre di controllo era stata ripulita dal sangue di Clay e Sulceschi Willis Clyde Martell e Jacobo Latterdale Nishimura fu condotto nella cabina e messo sull'attenti padre Bill era seduto sulla sedia imbottita di Sulceschi era notevolmente ingobbito ma si muoveva con la scioltezza di chi aveva acqua a sufficienza la ferita all'orecchio era strettamente bendata e il dolce vita con la scritta C.V.N. 68X Capellano era stato sostituito da una fresca camicia waiana con pappagalli e foglie di palma anche Enstrom ne indossava una con fenicottili su una spiaggia le camicie probabilmente erano appartenute a Sulceschi e a Clyde Martell banali souvenir divenuti simboli della nuova classe dirigente padre Bill accennò a Nishimura di sedersi al posto di Clyde Martell anche se appariva stupito come se si chiedesse cosa ci faceva quel sudicio nippo americano di fronte a lui questo è il timoniere Nishimura disse Enstrom come se parlasse a un anziano duro d'orecchi ci aiuterà per le missioni padre Bill sorrise meraviglioso lavoro missionario nella miglior tradizione cattolica io non la gola di Nishimura era una cruna d'ago acqua per favore l'acqua è uno dei problemi io tendo a rispettare la volontà di Dio se siamo destinati a bere ho detto i cieli si apriranno ma Tommy prende le parti degli uomini come te è un vero apostolo prima o poi gli vorrai lavare i piedi Enstrom mostrò i denti a uno a uno mentre un sorriso gli tagliava la faccia Nishimura avrebbe voluto strappargli le labbra e placare la propria sete con il suo sangue Tommy mi ha ricordato che una chiesa crolla se è fondata sulla sola fede come hai detto Tommy qualcosa a proposito della ruggine la corrosione padre dovuta all'acqua salata non dimentichiamoci della corrosione dell'anima se resta troppo ferma a lungo anche essa è soggetta alle leggi di decadenza della natura per questo le missioni sono importanti e dovere di coloro che vengono scelti da dio come noi in questa torre siamo stati scelti di lasciare i loro posti sicuri e recare la buona novella oltre tutti i confini incuranti del pericolo e le nostre missioni saranno particolarmente pericolose sai perché timoniere acqua per favore Enstrom aggrottò la fronte come se fosse esasperato da un vecchio barcollante o da un marmocchio capriccioso afferrò un termos che emise un suono dentro c'era un liquido che si muoveva gocce di condensa colavano sul metallo come Gesù che moltiplicava i pani e i pesci quell'acqua richiamava altra acqua Nishimura ansimava forse la torre di controllo era davvero il paradiso già che quello era un oggetto celestiale era pronto a leccarlo se solo la sua lingua l'avesse raggiunto nella storia umana siamo sempre stati noi cristiani a portare avanti la fede nella resurrezione e nella vita eterna i demoni stanno raccontando la stessa storia ma dall'altra parte sono in missione presso di noi e nell'unico modo che conoscono con le mani e con i denti Nishimura guardava le singole gocce d'acqua grosse come sciroppo dolce che scivolavano giù dal termos e cadevano per terra emise un singhiozzo immaginando piccole fessure bianche che si aprivano nella sua gola arrossata rivolse uno sguardo supplichevole a padre Bill perso nei suoi sogni a occhi aperti la difficoltà del compito è irrilevante i missionari muoiono come sempre è la gloria Tommy mi dice che tu timoniere sei la persona giusta per guidare i miei missionari lascerai la sicurezza della nostra torre e darai notizie della nostra fratellanza e del nostro amore in cambio del cibo e dell'acqua di cui abbiamo bisogno sei come mi viene detto un volenteroso messaggero di Cristo Nishimura riportò gli occhi aridi sul termos l'espressione di Enstrom era concentrata quanto quella di padre Bill era confusa Enstrom non credeva nelle idiozie del prete credeva nel potere e ce l'aveva lì fresco e sudato nelle sue mani il prezzo per accettare la folle proposta di padre Bill non era la benedizione del prete era l'acqua pura e semplice sì 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 Enstrom gli porse il termos Nishimura lo prese con dita ormai prive di ogni destrezza la sua stupida mano sinistra lo urtò facendolo sfuggire alla presa di Enstrom e per un attimo rimase in aria con uno spruzzo d'acqua che usciva dall'imboccatura e rischiava di perdersi ma la sua mano destra lo afferrò e subito dopo Nishimura stava bevendo non una leccata da un mestolo tiepido ma un'intera sorsata poi un'altra che gli bagnava la lingua gli riempiva la gola era dolce ed effervescente come una bibita ghiacciata e Nishimura sentiva ogni sorso che i sintomi peggiori svanivano il mal di testa che martellava come le onde dell'oceano le unghie viola l'impossibilità di urinare la stanchezza la confusione la vita tornava padre Bill applaudì piano con quella camicia con i pappagalli sembrava che stesse applaudendo le capriole dei nipotini oh alleluia un favore personale se posso non ci sono donne nella nostra torre come sai è una grande disgrazia dovrebbero condividere la nostra scesa se trovi delle donne da basso me lo dirai vero le porterai quassù anche se dovessi usare un po' di forza c'è una donna in particolare che amerei rivedere Nishimura annui una volta padre Bill si illuminò alleluia alleluia ora Tommy hai tirato giù il mio letto temo che il mio orecchio mi infastidisca Enstrom strinse i denti e aiutò padre Bill a passare dalla sedia del direttore di volo alla stanza sul retro dove probabilmente era stata sistemata una branda la guardia rimase lì ma Nishimura non importava aveva il termos sulla bocca e non contava ad allontanarlo finché non avesse consumata l'ultima goccia Enstrom ritornò fece un cenno alla guardia perché li lasciasse soli e si appoggiò alla finestra con le braccia incrociate sulla camicia rosa e viola Nishimura riprese fiato lo stomaco gonfio d'acqua e lo guardò a sua volta è pazzo non dica così mai un prete pazzo non è un problema siete voi altri che lo lasciate fare Coppenborg passa indenne sul ponte per pura fortuna per pura fortuna e tanto basta per farvi uscire di senno siete uomini della marina la lunga camminata è stato un evento sacro mi spiace per lei se non lo capisce lei si fa scudo di lui perché altrimenti nessuno l'ascolterebbe nessuno l'ha mai ascoltata lei non mi ha mai ascoltato io ascolto i marinai che se lo meritano beh chi se lo merita adesso eh chi ha fatto le scelte giuste questa volta è questo che conta dobbiamo riattivare la produzione di acqua fresca lo so dobbiamo assicurarci che i motori vengano raffreddati quindi lo ammette queste missioni non hanno nulla a che fare con dio o con demoni sono riparazioni servono per cibo e acqua quello che ho detto sulla corrosione è vero e lei lo sa non mi ha mai dato retta Enstrom lei parla di ruggine gli uomini stanno morendo e ce ne stiamo occupando per questo lei va in missione non abbiamo bisogno di una missione l'unica cosa che deve fare quello stupido padre è tornare a tutta velocità in California era lei quello che non voleva andare a San Diego pensavo che fosse solo la nostra nave a essere preda dell'infezione pensavo che l'avremmo diffusa stiamo meglio qui lei sta meglio qui o si illude Enstrom incrociò di nuovo le braccia lei conosce la nave meglio di chiunque altro avrà cibo extra acqua extra lei e pochi altri per due giorni finché sarete più forti poi scenderete padre Mila dei seguaci in molte zone del frapponte dobbiamo assicurarci che abbiano cibo dobbiamo mettere un paio di uomini alla centrale energetica il responsabile dei reattori non risponde non so cosa succederebbe se i demoni si impadronissero dei reattori non succederà perché i demoni non esistono non lo dica si dà il caso che io sappia cosa succederà se i reattori saranno invasi smetteremo di impoverire l'uranio la prima cosa che perderemo saranno i generatori a turbina la nave non potrà muoversi neanche se lo vorremo la seconda cosa sarà l'elettricità perderemo la rete tutte le reti la terza sarà la cara vecchia acqua calda qui comincia il divertimento si preannunciano lo scorbuto e la morte per fame naturalmente non arriveremo così avanti se i noccioli non vengono raffreddati abbiamo due reattori nucleari Westinghouse A4W là sotto cosa pensa succederà come la ninna nanna delle onde contro lo scafo padre Bill cantava per addormentarsi peccatori sono coloro che il mio grazioso signore riceve prostitute pubblicani ladri lei sa il fatto suo Sankar per questo guiderà la missione si io e pochi altri mi servirebbero altri 50 uomini se ci fossero ancora dei marines avremmo una possibilità se no i marines se ne sono andati a bordo delle scialuppe anfibie non sono stato l'unico a vederli pubriaconi e truppe infernali tutte ho messaggio per voi perché i suoi uomini gli hanno sparato addosso secondo nostromo credo che dovrebbe chiamarmi signore venite partecipate al banchetto del vangelo siete salvi dal peccato riposate in Gesù gliel'ho detto secondo nostromo avrà il mio rispetto Enstrom scattò in avanti con la faccia rossa ai pugni stretti sono signore adesso signore assaggiate la bontà del nostro dio e mangiate la sua carne e bevete il suo sangue quando se lo meriterà secondo nostro ovo non un momento la voce di Nishimura sforzata dopo giorni di silenzio e secchezza si spezzò nella sua gola sfrigolavano pile e sangue mentre tossiva l'immacolato pavimento della torre di controllo di padre Bill si macchiò di rosso e gli ritornò in mente tutto il corpo di sulceschi lacerato a morsi la faccia di Clyde Martell ridotta un buco fumante così sarebbero andate le cose a bordo dell'Olimpia per quanto lui lottasse sangue dai buoni dai cattivi e da quelli di natura indeterminata una marea di sangue finché la nave non fosse diventata un relitto cremisi su un oceano rosso scuro operazione matrimonio frettoloso Luis non si sentiva meglio un mal di testa che non riusciva a superare la gola dolorante una febbre che andava e veniva freddo aveva sempre freddo da quando Charlie lo conosceva Luis si era sempre lamentato adesso no soffriva e basta quando si sentiva abbastanza bene si rannicchiava con lei sul divano e faceva cupe battute a commento degli aggiornamenti di Chuck Corso ma passava ogni giorno più tempo nella camera da letto di sopra a sudare sotto le coperte senza lamentarsi affatto avere l'uomo di cui si è innamorata a terra per un raffreddore non è la cosa peggiore del mondo tutte le ragazze possono confermarlo basta rimpinzarlo di cibo e bevande e vedere i propri semplici sforzi arrecargli grande gioia accudire l'amalato era accudire l'amore anche se suonava un po' banale e Charlie vedeva il proprio amore riflesso negli occhi di Luis più debole ma in fondo l'amore di lui era sempre stato più debole di quello di lei bisogna accettare certe verità non era raffreddore ovviamente il sarcofago lo spettro comunque lo si volesse chiamare gli era parzialmente entrato nel sangue e ogni giorno se non ogni cinque minuti Charlie pensava ai momenti decisivi in cui aveva esitato ad amputargli il pollice a volte si accusava con tale violenza che doveva infilarsi nella dispensa per non farsi sentire da Luis stupida stronza lumaca e coniglia del cazzo centinaia di volte si era fidata del suo capo che le diceva dove e quando tagliare e l'unica volta davvero importante aveva esitato avrebbe dato qualunque cosa per avere il vecchio Luisa Cocella spiritoso scattante come una cavalletta inconsapevole di quanto fosse sexy quando guardava un cadavere e in pochi secondi ne indovinava tutti i segreti un Luisa Cocella a bassa tensione non era comunque male e Charlie provava un desiderio invincibile lo desiderava da tanto di quel tempo e non solo in una sala autopsie dopo il lavoro ma in una casa come quella a Halloween otto giorni dopo John Do la corrente elettrica si interruppe Chuck Corso unico maitre del paese per quel banchetto era ancora in onda le chiuse non controllate del fiume Chicago inondavano la città bassa la vita marina negava nel petrolio che usciva dalle autobotti senza conducente gli animali perivano milioni man mano che gli elevatori morivano fuggivano Corso stava leggendo un rapporto su case abbandonate che esplodevano per le fughe di gas quando la WWN la lampada che Charlie e Louise osavano accendere di notte e il ronzio del frigorifero si spensero tutti insieme nei primi istanti di buio silenzioso l'antico incubo di Charlie tornò strisciando e il cadaverico Fred Astaire tese la sua mano raggrinzita voglio danzare con te Charlie voglio danzare la voce di Louise aveva una decina di inflessioni nuove salti di ottava a causa del mal di gola bassi intensi per i polmoni cattarrosi Chet Musgrave lui è un generatore diesel Charlie si riprese prima di rispondere non voleva sentire la propria paura quant'è lontana la casa di questo Musgrave al di là della strada e non lo difenderà è via la sua figlia Oakland l'unica altra volta che avevano tolto le assi ed erano usciti era stato per seppellire mamma a cocella in una tomba talmente poco profonda che tutti e due fin troppo esperti di cadaveri temevano venisse profanata avevano usato la porta sul retro e l'avevano fatto in piena notte e Charlie era stata per tutto il tempo in preda al terrore adesso tentò di raccogliere un po' di coraggio ma bastò un respiro per disperderlo merda cocella non riconoscerei un generatore neanche se tentasse di mordermi uscire al buio e frugare in giro in cerca di un macchinario misterioso non so se ce la faccio lo farò io ah perfetto fammi sentire in colpa quasi non riesce ad arrivare al bagno Louise scattò in piedi nel tentativo di dimostrare a Charlie che si sbagliava e perse l'equilibrio ma la fermezza della mano con cui si sostenne la parete mostrava la sua risolutezza batte le palpebre finché parve più sicuro andremo insieme se la corrente elettrica manca da noi manca anche nelle altre case vuoi aspettare che Felix Mekirdi in fondo all'isolato si ricordi del generatore di chat noi avremo anche la calibro 38 ma Felix ha dei fucili automatici a noi quel generatore serve subito il mio eroe del cazzo Charlie accentuò il sarcasmo ma si alzò era notte si precipitarono fuori Louise mise il generatore di Musgrave e tutto il combustibile su un carretto rosso da bambini mentre Charlie riempiva sacchetti di cibo e bottiglie d'acqua rimasero il più possibile in silenzio eppure in 15 minuti si raccolsero 5 spettri nella casa di Musgrave Charlie ruppe dei piatti nel lavandino per attirarli dal garage vicino attraverso il quale fuggì con Louise i dettagli dell'avventura non avevano importanza la cosa importante erano i momenti di passaggio il modo in cui riuscivano a scherzare nelle situazioni più spaventose il modo in cui lavoravano insieme senza bisogno di scambiarsi neanche una parola il modo in cui si rimproveravano a vicenda gli errori il modo in cui litigavano su come distrarre gli spettri il loro primo litigio che dimenticarono nell'istante in cui si trovarono al sicuro e se questo non voleva dire che erano di fatto marito e moglie cosa voleva dire ma Erukowski non ci avrebbe creduto la sua bambina selvaggia che finalmente si sistemava Charlie e Louise inchiodarono di nuovo la porta d'ingresso e poi si abbracciarono sul divano guardando le assi alle finestre che vibravano sotto gli assalti di sei o sette spettri ogni volta che sussultavano ridevano come se stessero guardando un film dell'orrore Charlie sapeva cosa amavano fare i ragazzi mentre guardavano gli horror si infilò la mano di Louise sotto la camicia e stimolata dalla paura sconfitta cominciò a togliersi i vestiti sudati gli spettri battevano e gemevano Charlie e Louise scopavano e gemevano era come fare sesso durante un temporale o su una spiaggia a poca distanza da dove si rompevano le onde una quasi morte erotica quando Charlie venne pensò all'espressione francese per indicare l'orgasmo le petit mort la piccola morte perché era così che si sentiva come se fosse morta e tornata da spettro avida della carne di Louise rimpiangeva solo la posizione da dietro avrebbe voluto vederlo in faccia in quell'occasione decisiva la prima notte di sesso da marito e moglie il giorno dopo la luna di miele era finita l'ansimare di Louise la svegliò finché aveva gli occhi chiusi poteva convincersi che fosse dovuto alla spossatezza per il lavoro di recupero e il sesso che ne era conseguito ma alla fine dovette aprirli la pelle di Louise si era fatta di un grigio gessoso e i segni sul suo viso erano più profondi e più scuri la sua bocca forse solo per contrasto era rosso sangue e quando Charlie gli toccò la fronte ritrasse la mano sussultando la pelle era fredda il sudore caldo mi sento di merda ti porto un po' d'acqua disse lei alzandosi in bagno con la porta chiusa Charlie si chiuse la faccia tra le braccia per soffocare il rumore e pianse 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 finché i suoi occhi furono gonfi e la sua maglietta insuppata di lacrime finalmente era con l'uomo che amava e lui stava morendo non poteva più fingere durante la notte era invecchiato di cinque anni un'altra notte sarebbero stati dieci una settimana poteva voler dire trentacinque avrebbe avuto settant'anni sarebbe stato quasi incapace di tirare avanti e avevano appena cominciato intanto Lindoff e tutti gli stronzi potenti come lui erano nascosti al sicuro grassi e felici Charlie lo sapeva non era giusto non era giusto un cazzo tornò a letto con un bicchiere pieno lo resse perché lui potesse bere ma la maggior parte dell'acqua gli cadde sulla gola lui la guardò con gli occhi gialli e striati di rosso scusa non è colpa tua scemo si asciugò le lacrime con la mano te la caverai non dire stronzate da innamorato non c'è tempo per questo di quello che devi davvero Louise sorrise debolmente sei la donna peggiore che io conosca Charlie scivolò sul letto intrecciò le gambe con quelle di Louise e cullò la sua testa fredda stringendosela al collo caldo e umido non lasciarmi a cocella non ho ancora finito con te neanche un po' solo corpi lo sai ci siamo conosciuti troppo tardi c'è una probabilità sul miliardo che due si incontrino noi l'abbiamo fatto Charlie si tirò indietro per guardarlo negli occhi pallidi dovremo andare più veloci mettere 40 anni in quello che ci resta invece di un matrimonio affrettato faremo una convivenza affrettata faremo tutto ma a velocità doppia d'accordo suona bene un po' faticoso ma ok cos'è che faceva una coppia Mae e Maury Rukowski l'unico modello di Charlie erano rimasti sposati fino alla morte di Maury quando Charlie aveva 22 anni Charlie ricordava soprattutto i silenzi rancorosi dei suoi il loro sgomitare la decisione condivisa di guardare oltre i detriti l'uno dell'altro c'erano stati lampi di tenerezza Charlie prese il taccuino e scrisse quello che ricordava vacanze fare la ruota a Gettysburg con le sue sorelle e guardare indietro per vedere i suoi che si tenevano a braccetto nel tramonto spettacolare anniversari confezioni di cioccolatini e mazzi di rose banalità che però rendevano felice mai perché la casella era stata segnata bene era un inizio l'operazione matrimonio frettoloso cominciava Charlie trovò in cantina un albero di Natale lo mise in salotto e frugò tutta la casa in cerca di stupidaggini da avvolgere in carta regalo il corpo di Louise continuava a sussultare mentre lei gli faceva scendere le scale ma quando vide le lucine il dvd di la vita è una cosa meravigliosa e sentì Bing Crosby che cantava da un vecchio cd al di sopra dei tonfi del generatore Charlie si accorse che il suo corpo si rilassava ecco un ricordo di Natale e il giorno dopo festeggiarono San Valentino e quello dopo ancora Capodanno le vacanze erano al mattino le cene erano riservate agli universari che celebravano tutti i giorni i matrimoni frittolosi decise Charlie dovevano saltare le stupidaggini dei primi anni come carta cotone e cuoio e arrivare subito al dunque quinto anno legno dodicesimo anno seta venticinquesimo argento trovava sempre qualcosa un cranio di legno da dia dello smuertos una buffa camicia di seta da nightclub anni 90 un giocattolo argentato dei transformers probabilmente di quando Louise era giovane le cene in sé non andavano bene Louise non aveva appetito e faceva fatica a deglutire sembrava che la guardasse mangiare però per cui fingeva di assaporare un vecchio biscottone ripieno con cinque candele o la coppa di budino che aveva decorato con un 12 di scaglie di cioccolato era un segno d'amore si diceva il fatto che Louise si rimettesse in piedi per questi festeggiamenti ma poi quando lei lo aiutava a ritornare a letto riduceva le lenzuola a corde inzuppate di sudore mentre si contorceva per una sofferenza indescrivibile oh il sangue è denso era il massimo che riusciva a dire Charlie immaginava degli insetti che gli bloccavano le vene doveva fare più alla svelta per il suo benessere adesso non per quello di Louise i figli erano una pietra miliare nella vita di molte coppie ma non poteva fare granché in questo campo neanche in quello degli animali domestici i cani che vedeva sembravano troppo voraci i gatti troppo selvatici un altro pensiero la colpì musica e film lei e Louise erano frettolosamente sposati ormai da 20 o 30 anni e non avevano ancora la loro canzone o il loro film mise tutti i cd i dischi gli mp3 i blu-ray e dvd in un cesto della biancheria e li portò accanto al letto di Louise per passarle in rassegna e scegliere quelli che avrebbero avuto l'onore la mia vita a Garden State chiese mostrando il dvd piuttosto mi faccio mordere da cento spettri mille prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConey oh Louise non ci siamo mai sposati davvero potremmo imparare qualcosa triste ecco cos'è ehi è la tua collezione e che ne dici di Hitch lui sì che capisce le donne Louise socchiuse gli occhi con Ferrell Will Smith Hitch il più grande mediatore di New York l'amore e il suo mestiere in soli tre appuntamenti vi garantisce la ragazza dei vostri sogni adesso sono ammalato e umiliato oh ecco qua senti cosa c'è scritto Adam Sandler è un padre affettuoso con una nuova domestica mozzafiato in Spanglish quando in famiglia sono in troppi a parlare uccidimi dico davvero con dodici scene tagliate a cocella dodici era molto divertente e spaventosamente triste Louise fece una risata che si trasformò in tosse e riuscì a superarla con aria di niente anche se il sangue gli macchiava il mento e sotto le coperte le gambe gli tremavano per gli spasmi di dolore non voleva che lei se ne accorgesse e quindi Charlie finse di non vederlo e rise fino alle lacrime e poi si coprì la faccia con un fazzoletto di carta e pianse davvero scoprendo che con un po' di esercizio poteva farlo passare per una risata walk away se si dovevano rievocare i momenti di duro lavoro e i colpi di fortuna che avevano proiettato la WWN nella sfera dei grandi network via cavo gli avvenimenti del 15 luglio 2015 al Jojo's Hog un tenebroso nightclub di New Orleans sarebbero stati nella top 5 quella sera una delle prime star della tv Octavia Glucester un'aggressiva giornalista ingaggiata da una affiliata NBC di Charlotte era nel quartiere francese per realizzare un servizio speciale sul ritorno delle serate musicali 15 anni dopo l'uragano Katrina Muse King alias King Kong o KK per gli amici aveva eseguito la versione Jojo's Hog in un soundcheck quando Glucester che lavorava senza un produttore sul campo in quei tempi di ristrettezze si avvicinò al giovanissimo leader della band per fargli sapere che voleva registrare il suo primo brano la band doveva fare qualcosa di originale non si sa mai disse Octavia Glucester una rete nazionale qualcuno potrebbe scoprirvi Muser è rimasto incantato dalla bella e decisa giornalista aveva solo 17 anni era abbastanza giovane da credere che un po' di rumore di fondo in un video di 30 secondi trasmesso da una rete di secondo piano potesse catapultarlo verso la fama da tre anni suonava blues in Misery Club sempre come ultimo arrivato era un bel pezzo della sua vita era impaziente di sfondare fece il duro disse una cosa tipo si dovrei avere qualcosa quando venne il momento di suonare lasciò che la band prendesse posto poi salì sul palco il divieto di fumare era appena stato imposto in città e in posti del genere veniva ignorato inclinò la testa sotto la luce rossa e fumosa di un riflettore avvicinò la bocca al microfono e ruggì le prime note senza accompagnamento di If the blues was a woman che non era la sua canzone migliore ma se la giornalista voleva un blues quello era un riff blues con la B maiuscola in La maggiore quinta posizione dodici battute che si doveva imporre qualsiasi cosa dicesse la giornalista aveva superato il ritornello e stava per tornare a grattare la chitarra quando un uomo che in seguito sarebbe stato identificato come il 29enne Preston Gurley si fece strada verso la prima fila della sala piena di fumo con le luci del palcoscenico che gli illuminavano il volto sudato e alzò un lungo braccio che reggevano a 375 il suo obiettivo era Juniper Colbeck una ragazza che a suo dire l'aveva scaricato ma secondo la quale lui era solo uno che viveva nel suo stesso palazzo Colbeck riuscì a chiarire questo punto perché non fu colpita e non fu colpita perché King Kong coerentemente con il suo soprannome anche se in origine gli era stato dato perché era un ragazzino molto magro portò indietro la chitarra fino ad assumere la posizione di un battitore di baseball si sporse dal palcoscenico e schiantò la sua migliore amica la grece electromatic blu lucida hollow body che suo zio Marlon gli aveva regalato quando aveva 5 anni sul cranio di Preston aveva tutte le caratteristiche di una nuova leggenda di New Orleans a parte che era stato ripreso dietro la spalla sinistra di Octavia Glucester Muse guardò 100 volte il video su YouTube come il resto del mondo incantato da quelle immagini virali 244.323.881 visualizzazioni nelle prime due settimane era incredulo di fronte alla rapidità della sua reazione istintiva quasi avesse allenato le braccia a reagire come aveva allenato le dita per una 6 corde il video originale era lungo quasi 3 minuti di conseguenza If the Blues Was a Woman era stata ascoltata 244 milioni di volte nel giro di 5 giorni Muse aveva seguito la canzone al Daily Show with John Stewart e al Jimmy Kim Live ed era coccolato dai conduttori di The View e di Live with Kelly and Michael oltre ad aver ricevuto offerte da 3 case discografiche tutte accompagnate da anticipi non rimborsabili all'inizio della settimana successiva quando la copertina di Time mostrava i resti insanguinati della sua Gretsch accompagnati dalle parole la musica conta ancora il suo nuovo agente aveva organizzato un tour in Giappone e Muse era un eroe giovane e ricco ottenne altra buona stampa donando 73 chitarre alle comunità del centro cittadino perché 73? perché nel mese successivo all'annientamento della sua Gretsch la gente gli aveva inviato 74 chitarre per sostituirla 14 usate e le altre nuove le aveva tolte tutte dalle custodie con reverenza dopo giorni di riflessione ne aveva scelta una da tenere una Gibson Les Paul Custom del 1978 colore Alpin White con il manico di acero la cassa di mogano e la vernice abbastanza consumata da farla apparire onesta soltanto allora si appollaiò su uno sgabello da cucina uno dei pochi mezzi d'arredo della sua nuova casa al Garden District e osò sfiorarne le corde quanto bastava per accordarla nei minuti successivi le aveva sistemate il suono era promettente ma come diceva lo zio Paul non si sa mai cosa ha in serbo una signora finché non si mette a gridare quella domenica mattina quindi solo per la prima volta da settimane in una cucina vuota piena di echi e coperta di segatura Muse King fece gridare quella vecchia Gibson dopo 20 minuti di duro amore la chitarra si era dimostrata così valida che le lacrime di Muse cadendo avevano reso più scura la segatura ai suoi piedi la corte di manager che gli era fiorita intorno poteva avere a cuore i suoi interessi o meno ma non era importante lui aveva trovato una nuova amica del cuore nascosta nella vecchia custodia rigida della Gibson rivestita di velluto rosso c'era una lettera dei donatori a dispetto della grammatica zoppicante era scritta cronografia bella e sicura siccome ti piace il blues e siccome ti abbiamo visto che in televisione fermavi un tizio che era pronto a sparare vogliamo che tu abbia questa chitarra che era di nostro figlio Ewitt che amava la musica blues Ewitt ha suonato questa chitarra per nove anni aveva diciotto anni gli hanno sparato e è morto noi preghiamo che tutte le volte che lo suoni Ewitt sorride su in cielo dove adesso i tuoi amici Will e Darlene Lucas il padre di Muse se l'era affilata prima che lui nascesse e sua madre aveva fatto lo stesso più o meno quando aveva cominciato a camminare nessuna delle zie e degli zie e delle nonne che l'avevano lasciato crescere nei loro salotti e nelle loro cantine aveva un compagno leggere un biglietto da parte di una coppia sposata che si firmava come una persona sola fece risuonare qualcosa di profondo in lui così scrisse la prima lettera in vita sua confermando alla famiglia Lucas di Cranston Rhode Island che non solo avrebbe suonato la chitarra del loro ragazzo ma che l'aveva già battezzata Ewitt dieci giorni dopo giunse la risposta siamo felici che tu abbia la chitarra siamo felici che la usi i tuoi amici Will e Darlene Lucas nei cinque anni seguenti fino al giorno in cui il mondo intero se la fece addosso Muse scrisse decine di lettere a Will e Darlene Lucas e ricevette decine di risposte ciascuna delle quali costituiva una boccata d'ossigeno in una vita sempre più di merda l'improvvisa fama aveva fatto a pezzi la sua famiglia allargata come una torta in cui ogni fetta pretendeva di godere del suo favore nessuno si era mai occupato molto del suo benessere prima i Lucas che volevano solo che il loro ragazzino continuasse a vivere nella musica di Muse erano gli unici affidabili e Muse si aggrappò a loro conosceva un sacco di persone poco istruite ma i Lucas erano un passo più in là di un'ignoranza che lui credeva esistesse solo nelle rappresentazioni più stereotipate al contrario dei suonatori di banjo dei film Will e Darlene erano persone straordinariamente tranquille come se vivere isolati rispetto al progresso tecnologico li avesse in qualche modo preservati la loro vita dal poco che ne raccontavano era stata brutale la maggior parte della famiglia Lucas era al cimitero e pochi anni prima Will e Darlene avevano rimesso in sesto la loro Plymouth del 1962 ed erano andati dal Mississippi a una casetta ereditata su un lontano pianeta chiamato Rhode Island le cose non si possono cambiare scriveva spesso Will Mews pensò che questa idea non nasceva da un sentimento di sconfitta quanto dalla consapevolezza di come piccola l'umanità se ne ricordava quando urlava nel microfono e maltrattava la Gibson davanti alle folle da tutto esaurito anche lui era piccolo piccolissimo le possibilità che un bluesman diventi una superstar nell'America moderna sono limitate Mews King raggiunse l'apice un paio di anni dopo ma grazie all'influenza stabilizzatrice dei Lucas non ne rimase deluso aveva un nome riconoscibile e i diritti d'autore di If the Blues Was a Woman continuavano ad arrivare e questo voleva dire che era il momento di dedicarsi a essere quello che aveva stabilito non un modello da copertina ma un semplice bluesman come desiderava Hewitt Lucas era anche il momento di conoscere Will e Darlene Mews gli fece avere i biglietti aerei per vederlo suonare a New Orleans li mise in un bel albergo e li lasciò un paio di giorni per esplorare la città da soli alla fine li incontrò nella zona sicura di Audubon Park due bianchi confusi e sudati coi vestiti della domenica troppo pesanti entrambi gli strinsero cordialmente la mano ma Will stava tremando e Darlene tratteneva stento le lacrime e come riuscì a dire Darlene e come sei Hewitt lo so che tu sei quello che vuole dire Darlene disse Will e che sei Hewitt era un bianco come noi ah sì sorrise Mews cercando di seguire sì è logico ma è come Will si asciugò quello che forse era sudore forse erano lacrime è come se Hewitt fosse sceso dal cielo come è vero che vivo e respiro Mews li invitò a pranzare in un locale con le tovaglie bianche che li mise a disagio e istintivamente passò allo street food pollo fritto e waffle che ingollarono come maiali al trogolo fra un boccone e l'altro spiegarono che quello era stato il primo volo della loro vita e l'albergo il secondo in cui erano mai entrati l'altro quando erano andati giù a Tupelo per deporre Hewitt nella tomba di famiglia la prima notte nell'albergo di New Orleans non avevano chiuso occhio ma si erano rifatti la seconda rannicchiandosi nella macchina a noleggio Muse chiese loro di stare da lui per l'ultima notte le ore che mancavano al concerto confermarono che i Lucas erano stati proprio un'ottima scelta preferivano sinceramente il silenzio alle chiacchiere il campo di Muse era il suono il silenzio gli faceva paura ma che diamine la giornata era già strana e lui accettò quell'esperimento sonoro una sorta di meditazione dopo due ore che condivideva la quiete dei Lucas Muse stava ripensando ai parenti morti e agli amici dimenticati riuscì a provare dolore per quanto aveva perduto e per quello che non aveva mai avuto e a perdonarsi per quello che sapeva essere il suo cattivo comportamento troppo alcol troppe donne fu probabilmente con quello stato d'animo che Will e Darlene gli avevano mandato la Gibson il modo in cui vivevano i Lucas era molto meno eroico di un colpo di Gretsch ben assestato se la situazione del Jojo's Hog si fosse ripetuta Muse sapeva che in nessun caso avrebbe menato quella chitarra voleva somigliare di più a Will e Darlene voleva prendere posizione per la pace l'unica maniera per farlo quella più radicale soprattutto per un americano era imparare ad allontanarsi da una rissa walk away cantò fra se e se si avrebbe scritto una canzone su questo la sua canzone più bella di tutte e magari la gente non l'avrebbe amata subito ma se ne sarebbe ricordata dopo che era finita walk away my sisters and brothers cantò walk away l'ultima volta che Muse King vede Will e Darlene Lucas fu otto giorni prima dell'avvento degli spettri allo Sky Harbor airport di Phoenix dopo la data di inizio di un tour che doveva portarlo ad Austin Little Rock Memphis St. Louis e Kansas City Muse era preoccupato aveva solo cominciato walk away ma ce l'aveva tutta in testa aveva paura che a metterla sulla carta si rivelasse indegna rimase quindi sorpreso quando Will mentre Darlene era in bagno gli afferrò con forza una spalla lo stridio della pelle nera della sua giacca diede voce al suo stupore Will dava spesso la mano a Muse ai portieri ai camerieri ma niente di più Darlene le rughe intorno agli occhi di Will si infittirono è preoccupata no non è esatto io sono preoccupato saperti laggiù tutto solo su aerei veloci macchine veloci a fare chissà cosa con delle donne veloci Muse arrossì chi dice donne veloci era una battuta ma suonò fuori luogo lasciò svanire il suo sorriso sciocco e assunse un'espressione seria ho superato tutte queste cose papà davvero lo sento sto cambiando ho questa nuova canzone a questo lavorando che Muse si interruppe Will sporse le labbra tremanti e anche la sua voce tremava è molto bello sentirmi sentirmi chiamare ancora papà ah sai Muse si strinse nelle spalle per far finta di niente ma non ci riuscì il nuovo Muse King buttava via la spazzatura senza importanza i genitori che l'avevano abbandonato i parenti avvoltoi e riconosceva le cose che contavano davvero è è quello che intendo è è così che ti considero io credo che Dio ci abbia dato l'idea di mandarti quello strumento gli occhi di Will scintillavano e adesso ci ricompensa sono cose materiali insistette Muse alberghi ristoranti biglietti non è questa la ricompensa poterci occupare di te questa è la ricompensa le persone che si trascinavano nel corridoio divennero spettri il fruscio delle loro maniche e dei loro bagagli attraversava Muse come fumo vedeva solo la faccia tremante di Will sentiva solo le dita del vecchio che gli affondavano nella spalla avrebbe voluto afferrare Will nello stesso modo perché non lo faceva cosa stava aspettando non mi capiterà niente papà sono io che dovrei preoccuparmi per te se volete vedere un altro spettacolo basta che lo diciate non costringetemi a cercarvi ok Darlene tornò forse ignara delle emozioni che erano passate fra loro forse no e diede a Muse un abbraccio seguito dalla formale stretta di mano di Will e si allontanarono verso i controlli di sicurezza lasciando Muse in piedi convinto che se non si fosse mosso le lacrime non sarebbero cadute e non sarebbe comparso in rete un video dal titolo Muse King piagnone all'aeroporto alla fine dovete muoversi ma lo fece a testa bassa nel cervello una bufera di gioia e tristezza la faccia arrossata con striature umide più fredde non costringetemi a cercarvi ok le parole cheggiavano nei suoi sogni la mattina del 24 ottobre il concerto a Kansas City era andato bene ma lui aveva voglia di tornare a casa doveva cambiare qualcosa separarsi dalla band per un po' lavorare a qualcosa da solista solo lui e Ewitt finire walk away programmare concerti che contassero scuole centri sociali case di riposo quartieri popolari aveva dormito male la sua testa formicolava di possibilità accese il cellulare e aprì Instagram pronto a postare le sue riflessioni per costringersi a seguirle un colpo alla porta della sua camera Muse controllò allora le otto e mezzo sono ancora a letto un altro colpo un altro un altro buttò i piedi oltre l'orlo del letto e traversò lentamente la stanza di solito se la sarebbe presa con chi l'avesse disturbato a quell'ora ma era già sveglio e stava voltando pagina sganciò la catenella di sicurezza aprì la porta e si trovò di fronte Letizia Lutz che aveva firmato un biglietto la sera prima mi sono occupata della sua camera una mancia sarebbe molto apprezzata Muse l'aveva vista un paio di volte il suo atteggiamento deferente l'aveva messo a disagio come la maggior parte del personale il sorriso di Letizia Lutz si era rallargato in un enorme ascesso i suoi occhi timidi lo fissavano direttamente come fari bianchi e vuoti era nuda dalla vita in giù i suoi denti erano coperti di saliva rossa e il sangue macchiava la pettorina della sua uniforme da cameriera la prima cosa a cui pensò Muse fu una cosa che aveva letto su Instagram Ben Hines che si esibiva davanti alle cameriere degli alberghi e capì l'impressione che avrebbe avuto qualcuno vedendo la cameriera mezza nuda e insanguinata e Muse in biancheria i Lucas pensò in seguito non avrebbero esitato ad aiutarla Letizia andò subito verso di lui con la bocca aperta Muse avrebbe potuto tentare di trattenerla ma ne è stato raggiunto da tanti di quei cani Bayou che sapeva quanto fanno male i denti arretrò allontanando le sue mani oscillanti lei inciampò e cadde su un carrello buttando in giro cottolette sale pepe ketchup involtini riccioli di burro in pochi secondi Letizia si rimise in piedi ma Muse le sbatté il carrello sulla pancia inchiodandola la parete non fu lei che agitava le braccia al di sopra del carrello ma lui a soffrirne non aveva più lo stomaco per combattere walk away walk away si sente bene ha bisogno di aiuto Letizia ruggì spandendo bava sanguinosa Muse ricordava il resto anche se avrebbe preferito altrimenti decisa a non fare del male la cameriera lasciò il carrello lei lo inseguì con raddoppiato furore la punizione della non violenza per dieci orribili minuti Muse usò i cuscini del divano per tenerla a bada e finalmente riuscì a spingerla nell'armadio che chiuse con una sedia chiamò un aiuto che non venne pensando che sarebbe stato molto più facile spaccare la testa Letizia con il telefono il tavolino il secchiello del ghiaccio qualsiasi cosa la violenza era sempre più facile con la schiena contro l'armadio si infilò a fatica vestiti cappello scarpe il solito abbigliamento tutto nero afferrò rapidamente la custodia di Ewitt non insanguinata non violenta e si diresse alle scale sempre il luogo più sicuro in caso di crisi 5 rampe più in basso aveva incontrato un secondo dipendente dell'albergo senza testa o così sembrava a prima vista era stato colpito da quella che doveva essere un'arma da fuoco metà del collo era sparito e la sua testa penzolava sul davanti rimbalzando sul petto a ogni passo un colpo con la custodia della chitarra gliel'avrebbe staccata del tutto ma Muse resistette walk away walk away Muse intendeva fare tutte le cose giuste nell'atrio raccontare alla reception quello che aveva visto promettere di fornire spiegazioni alla polizia ma l'atrio era un manicomio con l'arredamento a gambe all'aria il pavimento coperto di dépliant per turisti una grossa striscia di sangue che andava dall'ascensore all'ingresso Tull Bledsoe suo autista e amico lo prese per le spalle e lo pilotò attraverso il sangue fuori dalla porta in un mattino coperto Muse cercava di fermarsi ma Tull continuava a spingere ripetendo che il resto della band non si poteva raggiungere niente di più preciso si lasciarono cadere sui sedili davanti alla Cadillac e Scalade mentre Tull usciva dal posteggio dell'albergo Muse fece due cose accese la radio e afferrò una bottiglia di BIM dalla mini dispensa dove si va a capo? una domanda quasi abbastanza normale da mascherare il terrore di Tull Muse ingollò il bourbon ansimò e disse Rhode Island Rhode Island? Tull perse la calma intendo dove andiamo adesso strunzo usciamo dalla città Tull il più in fretta possibile non ce l'avevano fatta poche persone avevano una guida più aggressiva di Tull eppure erano rimasti imbottigliati allo svincolo 35-6-70 e avevano dovuto mettersi a scarpinare erano scappati per un giorno intero dagli spettri verso altri che avevano bisogno Ewitt rendeva la fuga un'impresa Tull lo malediceva perché si rifiutava di usare la Gibson come un'arma quella sera avevano trovato rifugio in un negozio di parrucchiere aperto aperto ma non vuoto Tull si era sdraiato su una delle poltrone per il lavaggio dei capelli quando uno spettro col grembiule era entrato da una porta vicina e aveva incollato la propria faccia alla sua gli specchi che riflettevano la luce lunare erano abbastanza numerosi perché Muse vedesse i denti dello spettro perforare le labbra di Tull la lingua allungarsi nella sua gola lo spettro morse scivolò all'insù e risucchiò l'occhio sinistro di Tull Muse immaginò l'ultima cosa che aveva visto il suo amico il proprio occhio che scoppiava come un pomodorino nella bocca dello spettro se fosse stato disposto a usare la Gibson come aveva fatto con la Grets avrebbe potuto impedirlo si disse di no e passò il resto della notte in fuga tentando di crederci aveva scelto un momento di merda per diventare pacifista a meno che si disse non avesse scelto invece il momento migliore di tutti l'unica sensazione di cui si fidava adesso era la tristezza c'era quella di cui parlava la musica blues e poi c'era quella che ci si teneva premuta dentro finì alla birreria Waterfall dove la birra in fermentazione aveva tentato di ucciderlo rubò una vespa se si poteva ancora parlare di furto andò a nord finché non si accese la spia del carburante e il motore si mise a sputtacchiare poi procedette a piedi pensava al Rhode Island si sedeva agli incroci delle strade sterrate suonava beveva incontrò una ragazza di nome Greer Morgan distese il proprio corpo esausto su quello di lei non fu per niente simile alle avventure da una notte che aveva da cinque anni se c'era una cosa che trasmetteva pace era quella la baciò fino a convincersi che non tutte le strade per lasciare quel posto erano bloccate legione gli spettri venivano uccisi in abbondanza anche se la cosa era tenuta segreta a padre Bill il quale non voleva che fosse fatto loro del male ma lui non era laggiù c'erano uccisioni morbide e dure come si diceva in termini militari morbide significava distruzione delle facoltà di uno spettro per esempio la volta in cui Nishimura aveva usato l'ascia che aveva fatto a pezzi clae sul ceschi per mozzare le mani a uno di loro dure significava morte definitiva per esempio quando Nishimura aveva usato una sparachiodi per ficcare cinque lunghi chiodi a bruciapelo nella fronte di uno spettro la testa era la chiave le ferite alla testa li abbattevano Nishimura e la sua squadra di missionari l'avevano capito abbastanza rapidamente squadra era un termine buffo in quel contesto lui era nello stesso tempo il capo e un ostaggio organizzava la spedizione stabiliva il percorso e apriva il cammino ma con un paio di pistole puntate alla schiena ogni volta che scendevano sotto coperta aveva una nuova serie di obiettivi penetrare nel deposito del cibo in scatola e nel magazzino della nave prendere quello che volevano nell'infermeria controllare quali armi erano rimaste nel deposito aumentare la produzione di acqua fresca a una frazione della potenzialità massima 200.000 galloni al giorno sollevare lo spirito dei veri credenti asserragliati negli avamposti della sala macchina portando cibo acqua e buone notizie da parte di padre Bill era un lavoro spossante una tensione insopportabile ogni volta che si svoltava un angolo questo angolo niente questo angolo niente questo angolo otto spettri con la carne pendente le interiore esposte le mascelle scattanti sei missioni in quattro giorni sei uomini perduti uno aveva subito solo un graffio ma i missionari non vollero correre rischi e gli sfondarono la faccia a calci gli anfibi erano più silenziosi delle pallottole la rabbia accumulata doveva trovare uno sfogo Nishimura tentava di comprendere la guerra era guerra quando gli altri missionari volevano fermarsi e torturare uno spettro li richiamava pragmaticamente non avevano tempo per queste cose gli uomini lo guardavano male come sarebbe stato facile raccontare a Einstrom che Nishimura era stato preso da uno spettro Larry Azuko Ciglio Daiki Neola e Bea doveva restare un capo utile quando passò accanto alla cassetta dei suggerimenti del tenente Bertrand Wevers si fermò dentro un solo foglio accartocciato tenne il suggerimento buono per sé uccideteci fate saltare tutto mettete fine a questa storia nelle profondità dello scafo c'era la stanza usata per smaltire i rifiuti legno metallo plastica imballaggi adesso anche spettri morti del tutto o che si contorcevano ancora venivano buttati in mare attraverso gli scarichi ma gli spettri sapevano nuotare e se fossero arrivate a nuoto alle valvole di aspirazione nucleare l'elicottero Sea Hawk avrebbe potuto calare in acqua un rilevatore sonar per controllare ma non c'era più era finito oltre le murate della nave ordine diretto di padre Bill tutti i velivoli sul ponte dovevano essere eliminati entro la fine del mese era un lavoro duro e rischioso gli uomini morivano nel compierlo perché nessuno osava uccidere gli spettri per paura che padre Bill lo vedesse per Nishimura ogni aereo che finiva in acqua era una bomba orologeria poi le cose peggiorarono ulteriormente nessuno l'aveva previsto come avrebbero potuto l'ultima volta che si era sentito parlare di lui era da dieci giorni in un'infermeria da cui si diffondevano in tutta la nave strane voci nove giorni dopo che gli spettri si erano impadroniti della USS Olimpia nel bel mezzo della preghiera del mattino di padre Bill un grido dalla passerella del livello a meteorologia diede origine numerose e altre grida la popolazione della torre di comando era ridotta a 35 persone ma non tutte erano state promosse ai piani superiori Nishimura per esempio che scattò subito a sedere sbattendo la testa sul ripiano soprastante il comandante Page gridava qualcuno il comandante Page anche gli uomini più indeboliti trovarono l'energia necessaria per precipitarsi sulla passerella Nishimura rimase intontito dalla speranza se c'era una cosa che poteva liberare i marinai dall'incantesimo di un pazzo visionario era il ritorno dell'uomo che rappresentava la civiltà la legge e l'ordine sociale Nishimura fu l'ultimo ad arrivare sulla passerella ma adesso era meglio nutrito aveva i muscoli agili per l'impegno quotidiano a restare vivo nel frapponte superò gli altri per guardare giù dalla balaustra se Page era là sotto con gli spettri era in pericolo mortale Nishimura era pronto a saltare nella mischia per salvare il suo comandante il problema era che il comandante Page era già morto era sempre stato un tipo asciutto ossuto con la faccia magra e il mento aguzzo arrossato da vigorose rasature la sua divisa non gli calzava mai a pennello segno che era per natura un lavoratore non un burocrata nulla di tutto questo era cambiato era ancora il comandante Page solo un po' più verde Nishimura cercò in vano qualche segno di ferita forse il capitano era morto di malattia dopo tutto il suo corpo si aggrappava l'acciaio con forza tale da graffiarne via la vernice grigia sul ponte di comando era in attesa la sedia del comandante e Nishimura si convinse che Page se ne ricordava la voce di Enstrom risuonò dall'altoparlante sta arrivando padre Bill sta arrivando padre Bill una gran confusione si accompagnava ogni discesa del loro leader e gli altri marinai si aprirono a rivelare Enstrom in prima posizione con il crocifisso e due guardie al seguito arrivato sul pianerottolo più basso il prete in camicia hawaiana si fermò e Enstrom porse al vecchio il simbolo dell'autorità con l'aria incerta padre Bill si avvicinò alla balaustra guardò giù poi fece un sospiro lungo e basso il comandante è ritornato l'unico indizio che fece capire a Nishimura come bisognava reagire furono gli occhi inorriditi e sgranati di Enstrom nel momento in cui padre Bill avesse ceduto la sua autorità per quella nullità sarebbe stata la fine Nishimura avrebbe voluto gridare prendete il prete prendetelo ma il ritardo Nishimura gli fu utile il colonnello William Coppenborg si volse a guardare il suo gregge alzò le braccia e gridò al di sopra delle onde dell'oceano il comandante è tornato padre Bill si portò una mano al petto rivolto alle ultime file degli spettatori la sua bocca si distese in un ampio sorriso il sole gli fece brillare gli occhi ponte superiore ponte 02 ponte 01 ponte Anger principale secondo ponte terzo ponte quarto ponte quanti livelli ci sono nella stiva vi chiedo e quanti livelli ha il famigerato inferno di Dante gioia gioia e rivelazione il comandante Page riemerso da tutti e sette ha completato la sua lunga cabinata sono giorni che vi parlo della fusione tra uomini e demoni per dare vita a un essere più grande di entrambi ora guardate cos'è accaduto il capo dei demoni sale a incontrare il capo degli uomini grazie signore l'ora dell'unificazione è vicina cosa dobbiamo fare padre chiese qualcuno padre Bill si guardò intorno in preda a una confusione che sottintendeva che era sopraffatto da un'esperienza spirituale si avvicinò alla balaustra rivolta verso il pacifico proprio accanto a Nishimura il quale seguì lo sguardo del prete lungo la fiancata di tribordo della nave onde argentate si frangevano contro la poppa dove il sole sembrava facesse sciogliere lo scafo frangersi sciogliersi così Nishimura immaginava che facesse la mente del comandante bottiglia mormorò padre Bill padre una bottiglia di cosa una bottiglia una bottiglia un solo uomo armato di scorta molto vulnerabile se qualcun altro a parte Nishimura avesse voluto aggredirlo quattro minuti di tensione più tardi la guardia tornò con una bottiglia dal collo lungo di acqua gassata San Pellegrino padre Bill afferrò con la mano libera come un secondo crocifisso quando si chinò sulla balaustra Nishimura vide molte facce scioccate tra i presenti l'acqua era preziosa i spruzzi salati frustavano il volto sorridente di padre Bill fu nel paese dei geraseni che Gesù scese dalla sua barca e si imbatté in un uomo posseduto da uno spirito immondo un uomo che non si riusciva a tenere legato che urlava sulle tombe notte e giorno Gesù gli chiese come ti chiami e l'uomo rispose il mio nome è Legione perché siamo molti padre Bill puntò il crocifisso verso il comandante Page guardate ecco Legione è la nave su cui siamo e la barca che Gesù portò presso i geraseni questo vascello perciò non deve più essere chiamato con un nome falso oggi in onore del demone Legione io ribattezzo questa nave comandante Page il braccio del capellano scattò in giù la bottiglia si infranse l'acqua gassata mescolata alle gocce di sale illuminata dal sangue che usciva da un palmo tagliato da un pezzo di vetro luccicante padre Bill si allontanò reggendosi la mano sanguinante e fu aiutato a risalire nella torre di controllo senza più guida gli altri uomini non fecero niente nelle ore seguenti il grattare delle ossa di Page sull'acciaio del ponte di volo divenne il rumore dell'attesa tutti guardavano tutti e in particolare i missionari guardavano Nishimura lui capì la missione del giorno doveva portarli proprio in mezzo a quegli spettri agitati diretti dal comandante Page pessima idea sotto ogni aspetto e toccava Nishimura proporla al capo allora prestabilita Nishimura salì nella torre di controllo per il suo rapporto quotidiano invece del solito sguardo disgustato l'uomo di guardia a livello superiore gli diede un'occhiata implorante come quella dei missionari padre Bill era accasciato al posto del capitano con gli occhi stupefatti fissi sulla propria mano sanguinante al posto dell'assistente Enstrom faceva saltellare le ginocchia un rotolo di Garza apparentemente rifiutato dal prete era caduto ai suoi piedi e si era srotolato nel passaggio come carta igienica Nishimura lo seguì lei ha fatto quello che doveva quello che doveva per guidarci Gesù non ha guidato uccidendo ha guidato morendo il sentiero di Garza terminava in un punto sorprendente il crocifisso appoggiato al braccio rotto all'ingresso della camera interna della torre di controllo Nishimura tentò di dare un senso alla cosa non l'aveva mai visto trattato se non come l'oggetto più sacro del mondo tanto meno lasciato senza sorveglianza era più vicino a lui che a padre Bill poteva allungarsi e prenderlo lei non può semplicemente Enstrom non concluse la sua frase lamentosa padre tutto dipende da lei questa non è una cosa cui io possa rimediare dando un nuovo nome alla nave il collo di Nishimura scricchiolò mentre spostava la sua attenzione dal crocifisso a Enstrom aveva già visto quell'espressione sulla faccia del sotto ufficiale quel broncio ansioso che gli fosse portato via quello che era riuscito a raggranellare per sé cosa prova la sensazione di dovere è qualcosa ai demoni due nel ripostiglio della cappella due demoni che volevano rendermi parte di loro e io li ho distrutti senza pensarci senza cuore allora gli daremo gli daremo due di noi quanti uomini abbiamo adesso 33 34 due non sono niente fra i pensieri neri di Nishimura come corpi mumificati tra paludi putrescenti emersero le immagini dei suoi cari ancora vivi ancora in attesa non crollare San Carl tieni duro non posso fare una cosa del genere senza un un battesimo sì è così il battesimo accoglie i bambini nella nuova fede questa è una nuova fede no? io credo di sì la sua voce prese slancio una cerimonia del genere richiederebbe nuovi sacramenti è ovvio richiederebbe nuovi riti ci vorrebbe del tempo per prepararli e avrei il coraggio di essere così sfrontato non sarebbe un'insolenza ma chi altro sì chi altro devo mettermi al lavoro quindi ci resta poco tempo il comandante Page aspetta ed è sempre stato un uomo impaziente meraviglioso gloria a Dio Enstrom sembrava sollevato come posso essere d'aiuto padre Bill girò la mano esaminando ogni dito magro e sanguinolento un'offerta credo che i nostri uomini sarebbero felici di offrire qualche pezzo no? nella mente di Nishimura le immagini della sua famiglia cambiarono adesso fuggivano da lui marito e padre a cui mancavano dita interi arti il naso le orecchie le labbra la lingua no non gli avrebbe fatto una cosa del genere si mosse con un singolo gesto la sua mano si strinse intorno al bastone del crocifisso l'oggetto sacro era molto più leggero di quanto si aspettasse e lui si girò e attraversò la passarella con gli stivali che risuonavano sul metallo passò velocemente davanti alla guardia salì la scaletta con due salti e raggiunse il livello della plancia di comando prima di sentire il grido di Enstrom Nishimura Nishimura torni qui in considerazione dello spazio ristretto della torre di comando e della cautela che era necessario osservare sotto coperta c'erano poche occasioni di correre sulla Big Mama o Olimpia o Comandante Page o come diavolo si voleva chiamare quella tomba galleggiante Nishimura distese le membra correndo lungo le pensiline e scendendo le scalette tenendosi al corrimano gli pareva che le fibre dei muscoli si separassero le une dalle altre e che i tendini si lacerassero ma si sentiva anche libero meravigliosamente libero atterrò fra un gruppo di missionari in attesa a livello meteorologia quattro lo afferrarono per i vestiti per non cadere fra gli spettri sottostanti e fu in quell'istante con gli uomini tutti intorno a sé che la voce di Enstrom gridò dall'altoparlante missionari portate Nishimura e la padre Bill le loro mani allentarono la presa per lo stupore di ricevere un ordine così semplice Nishimura attese il secondo necessario perché i loro occhi si incubissero per l'animalesca brutalità che aveva visto così spesso nel frapponte ma un altro secondo passò e in quel momento vide nei loro occhi l'affermazione di un orrore condiviso il fatto che si erano salvati la vita vicenda là sotto anche se non l'avevano fatto volentieri alla vigilia di qualcosa che anche i devoti capivano che sarebbe stata brutta si rendevano conto di aver ucciso decine degli spettri che padre Bill venerava portare Nishimura davanti al prete rischiava di svelare tutto questo possibile che le otto mani l'avessero lasciato andare nello stesso momento altri marinai tentarono di afferrarlo ma Nishimura agitò il crocifisso e il valore simbolico dell'oggetto bastò a farli arretrare corse all'orlo della piattaforma tre metri sopra il ponte e calcolando il momento buono saltò lanciandosi dalla piattaforma col piede destro proprio sotto di lui il comandante Page allungava le mani verdi seguendo l'arco di Nishimura con gli occhi spalancati quando i missionari scesero per prima cosa dovettero attirare gli spettri altrove ce n'erano dieci che li aspettavano senza contare il comandante Page quando Nishimura atterrò addosso a uno di loro le gambe dello spettro cedettero nella direzione sbagliata all'altezza delle ginocchia ripiegandosi e attutendo la sua caduta Nishimura si ritrovò supino sulla schiena dello spettro con le braccia di quest'ultimo che uscivano dalle articolazioni per tendersi all'indietro e le ossa del collo che scricchiolavano per la tensione all'improvviso il cielo si annerì altri nove spettri si erano uniti le facce collegate al ponte da fili di bava Nishimura si tirò in piedi agitò il crocifisso colpì qualcosa di molle uno spettro fu sbattuto addosso a uno che strisciava e le sue gambe si misero a scalciare ed entrambi i piedi colpirono Nishimura sul volto lui colpì alla cieca e si trovò in possesso dell'anfibio sinistro dello spettro il crocifisso l'anfibio un'arma celeste una terrena Nishimura colpì con entrambe e raggiunse il portello della camerata che missionari avevano munito di una serratura troppo complicata per gli spettri dentro la luce del giorno si attenuò come le altre volte in cui una missione l'aveva portato sotto coperta anche se quel buio aveva una definitività da tomba senza aspettare che i suoi occhi si abituassero alla lucina rossa di emergenza Nishimura riprese a correre tenendo davanti a sé il crocifisso e l'anfibio dove andava non lo sapeva solo giù 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 per quelli che padre Bill chiamava i sette livelli dell'inferno ma Nishimura aveva l'impressione che il mondo fosse sotto sopra e l'inferno fosse in alto torre di controllo centrale informativa cabina di comando stazione di rifornimento spaccio di materiale per l'aviazione laboratorio pulizia filtri sala argani sala ventilatori in tutte risuonava dall'altoparlante il portatemi Carl Nishimura di Enstrom a volta gli spettri sbucavano a decine da un angolo buio ma i corridoi di una porta aerei sono stretti per cui Nishimura non doveva mai affrontarne più di due alla volta e il crocifisso e l'anfibio bastavano ad abbatterli avrebbe provato soddisfazione se fossero stati i demoni che diceva padre Bill ma non lo erano erano le masse affamate che non volevano altro che le briciole di cui la chiesa troppo a lungo le aveva private se padre Bill li avesse incitati a dargli la caccia i missionari si sarebbero trovati davanti molti spettri resi rabbiosi dai continui berci di Enstrom Nishimura non sentì né vide traccia di marinai vivi che pure dovevano ancora esserci sotto coperta a centinaia in qualche caso armati negli ultimi giorni i missionari avevano percorso la nave come poliziotti in quartieri a basso reddito benché spesso trovassero delle tracce resti di cibo spettri fatti a pezzi aree barricate e poi abbandonate i vivi preferivano scappare che rischiare di essere scambiati per spettri cucine alloggi dei marines controllo centrale sala sbrinamento Nishimura andava giù 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 muoversi da clandestini era molto più facile quando si era soli ben presto si trovò più in basso di quanto fosse mai stato da quando era una recluta curiosa si gelava dal freddo ed era buio come in una tomba l'aria sapeva di metallo e vibrava per il ronzio dei reattori nucleari anche i nuovi pianeti avevano i bagni e a dispetto del pericolo legato all'unica via di fuga Nishimura ne trovò uno si infilò in un cesso lo chiuse mese giù il crocefisso e l'anfibio e nella celida oscurità si rannicchiò su se stesso quell'infelicità gli era ben nota ricordava di essersi nascosto nei bagni maschili da ragazzo quando lo perseguitavano si era sentito così solo allora si sentiva altrettanto solo adesso l'unica reazione del piccolo Carl era stata piangere fino ad addormentarsi e il nostro uomo capo Nishimura non vide alternativa migliore l'ufficiale ritenuto il più freddo della marina appoggiò la fronte al lavandino e pianse con i grandi sussultanti ma silenziosi singhiozzi che aveva perfezionato da bambino i suoi polmoni si fecero umidi a rischio di annegare lacrime rovente gli bruciavano le guance le sue narici erano gonfie forza esplodete vi prego finalmente come il piccolo Carl dal pianto passò al sonno e si svegliò con una lama sulla gola sussultò la lama premette sentì la pelle che si lacerava il sangue che colava ma prima che potesse trovare il crocefisso e l'anfibio fu costretto a terra con un ginocchio sulla schiena e un coltello sulla giugolare alzò lo sguardo verso i vestiti scuri una testa circondata da capelli incolti retroilluminata dalla lucina rossa per un secondo desiderò che procedesse e gli tagliasse la gola ma non era più il piccolo Carl no? aveva i suoi bambini che soffrivano le loro pene sei vivo? la voce della persona era un tremito sommesso chi sei? la risposta fu una pressione del coltello chi sei tu? Carl Nishimura ero di sopra sono scappato sentì il sapore del sangue ti prego chi sei? la lama fu ritirata le ginocchia ussute lasciarono le sue spalle e una mano si allungò per aiutarlo a rimettersi in piedi era un gesto amichevole e questa volta dopo tanti anni che ignorava simili aperture l'accettò afferrò la mano carne viva contro carne viva e venne rialzato il cambio di pressione lo lasciò confuso dovette sbattere le palpebre e stringere gli occhi per assicurarsi che la persona che l'aveva aiutato era più bassa di lui di tutta la testa mi chiamo Jennifer Angelis Pagan sei tu lo sceriffo JJ Jelopy era un barilotto di birra che si credeva un'automobile era nato una sera quando a una festa di studenti Foxy Fiona Fry gli aveva succhiato il rubinetto Santa Studebaker esclamò la ragazza dopo la prima boccata da quel momento JJ si credette una Studebaker Silver Oak da due tonnellate con le pinne da squalo suggerì alla signorina di allontanarsi fino a un garage che sapeva lui dove potevano conoscersi meglio senza le occhiate invidiose degli altri studenti e Foxy Fiona accettò di seguirlo fece rotolare JJ con una spinta ma poiché lui era un barilotto e non una Silver Oak l'unico modo in cui poteva continuare a muoversi era sfruttando la gravità Foxy Fiona riuscì a rimanere in piedi nella prima discesa correndo sul cilindro metallico come in una gara di equilibrio sui tronchi ma purtroppo essendo alticcia cadde JJ non aveva idea che Fiona lo stava inseguendo disperatamente per la maggior parte della strada fino a Jalopy Hollow dove una dozzina di vecchie auto erano state abbandonate Fiona si fermò di colpo rompendosi la testa sul parafango di una Cadillac rottamata quando riprese i sensi si trovò con un danno cerebrale ma naturalmente avendo un danno cerebrale non sapeva di avere un danno cerebrale sapeva solo di essere innamorata del barilotto a che si credeva una macchina questo era l'episodio 1 quando andò in onda il terzo episodio la festa di JJ era già un successo senza precedenti il film di animazione artigianale veniva trasmesso dalla rete pubblica di New York a luna del mattino ma i frammenti diventarono virali man mano che milioni di spettatori gioiosamente sbalorditi inoltrarono apparenti amici e nemici gli allegri frenetici teneri e scandalosi video prima che fosse finita la prima stagione sugli scaffali dei negozi c'erano i pupazzi e non solo quelli di JJ e di Foxy Fiona ma anche del resto della banda di Jellopi Hollow Num Num la Nova che credeva di essere un sole alieno Eddie Edzel che credeva di essere una cena del XVI secolo forse era con i pupazzi che erano cominciati i problemi benché fossero indirizzati agli adulti come tutta la serie i bambini li adoravano e adoravano anche la trasmissione molti adulti disapprovarono si scoprì che dire merda non era giustificato dal fatto che JJ lo dice sempre la festa di JJ diventò un capro espiatorio attirando gli attacchi dei media conservatori e finì per essere citata in senato per la sua promozione di parolacce uso di droghe illegali e sesso libero la popolarità della trasmissione esplose lanciando il creatore Scotty Rolf al centro dell'attenzione Rolf secondo tutti i parametri del buonsenso non era pronto per la prima serata non era necessario essere un consumatore di erba per capire che quel tipo era sempre fatto 40 anni con la forma di una patata si vestiva come uno studente con magliette a maniche corte e calzoncini da basket che gli arrivavano sotto al ginocchio giocava con tutti gli stereotipi liberal ma sembrava uscire vincitore da tutte le interviste con giornalisti in destra gli intervistatori non riuscivano a incastrarlo ridacchiava alzava gli occhi al cielo faceva incoerenti monologhi sull'arte diceva seriamente che Num Num simboleggiava i prigionieri della guerra di Corea prima di mettersi e gridare sto scherzando scemo Ramsey Dillon vice direttore dei programmi della Cable Corp acquistò la festa di JJ per una cifra che si diceva a 6-0 e la seconda stagione esordì su Hoopla la rete più importante della Cable Corp dopo la WWN Dillon stesso era un iconoclasta televisivo secondo numerose descrizioni sperava di cambiare il mondo da quando era stato abusato dal tizio della AA che aiutava il padre alcolizzato e aveva trovato il mezzo per farlo alla Cable Corp lanciando una serie di programmi che combattevano quelli che lui considerava i difetti della tv usando lo slogan ti chiediamo solo di chiedere la missione di Dillon consisteva nello spingere le persone a mettere in dubbio la verità di quello che sentivano nella provocatoria tra le novela medici ingannatori i medici sbagliavano una diagnosi per episodio gli spettatori erano incollati gli schermi per capire qual era una volta alla settimana le previsioni del tempo di Flip Voss includevano una previsione completamente sbagliata per insegnare gli spettatori a verificarle su una seconda fonte molte persone che per vivere dipendevano da messaggi ingannevoli disprezzavano Dillon una gli sparò davanti a un cinema al Sunday's Film Festival annientando il tessuto fra le vertebre C4 e C5 e inchiodandola a una sedia che si muoveva mediante un meccanismo emozionato dal respiro un anno dopo Dillon era di nuovo a lavoro pilotava la sedia con rapida efficienza ed era più determinato che mai Ramsey Dillon e Scotty Rolfe erano una strana coppia ma sembrava chiaro che secondo il coraggioso produttore sotto la superficie della festa di JJ c'era qualcosa di profondo con la sua approvazione tutti gli altri e la Cable Corp si allinearono i dipendenti più giovani avevano già i più pazzi di JJ sugli scaffali dei loro uffici quelli più anziani per non rischiare di apparire antiquati annuivano con entusiasmo Nathan Baseman rappresentava perfettamente quest'ultima categoria aveva guardato 45 secondi esatti della trasmissione e la considerava la cosa più stupida che gli fosse mai passata davanti agli occhi se la Cable Corp voleva buttare soldi in macchine parlanti ossessionate dal sesso prego bastava che non attingessero al budget dei notiziari Dylan lui lo rispettava ma sperava di non dover mai incontrare Rolf le probabilità sembravano scarse finché mentre condivideva delle vecchie patatine Aoi con Zoe Schillace non sentì la faccia che diceva in diretta una cosa strana c'è un problema agli ascensori Baseman e Zoe controllarono c'era un problema certo i colpi degli spettri al piano di sopra si erano fatti più rapidi come un ritmo di palestra scarpe che correvano e scivolavano corpi che cadevano oggetti che risuonavano c'era qualcuno che lottava per impadronirsi dell'ascensore che Baseman aveva bloccato la chiave era nella sua tasca a guzza contro la coscia sentirono qualcosa di pesante che si spostava su ruote seguito da un rumore di plastica forse stavano tentando di aprire le porte dell'ascensore cosa ne dici sussurrò Baseman sembra che siano buoni combattenti disse Zoe credi che dovremmo farli scendere certo Zoe era stupefatta abbiamo bisogno di gente e se non riescono a entrare vuoi lasciarli morire lassù voglio dire che la nostra cosa qui va avanti saremo solo in cinque ma ce la facciamo sblocca l'ascensore vuoi portarti dietro per sempre una cosa del genere sì avrebbe voluto rispondere aveva mandato in onda il famigerato servizio Jansky aveva morso sua moglie mentre il loro matrimonio stava fallendo aveva ucciso Rochelle Glass quando non era del tutto necessario ma si stava riscattando di ora in ora aggiungere nuovi personaggi al cast metteva a rischio tutto il servizio Zoe Schillace tuttavia non doveva niente a nessuno aveva perso tutto amici famiglia una persona importante Baseman non lo sapeva perché lei aveva tenuto per sé il proprio dolore lui non avrebbe difeso il proprio riscatto a spese della più grande stagista della storia americana imprecò aprì l'ascensore prese senza difficoltà la chiave della tasca era dimagrito e lo sbloccò dal piano più basso mentre scivolava fuori vide chiudersi le porte il ronzio dell'ascensore che saliva era familiare e quindi spaventoso per terra c'era il braccio di sostegno tra i filtri delle luci Baseman lo raccolse e lo diede a Zoe poi prese la pistola di Quaim e la puntò verso l'ascensore se qui si mette male prendi la faccia e vai in sala regia se qui si mette male vuol dire che si mette male del tutto nel caso non l'avessi notato la luce dell'ascensore si illuminò indifferente come sempre e la porta si aprì persone grossi oggetti e un'arma guzza caddero fuori tutti insieme Baseman fece un passo indietro gridando parole incoerenti agitando il revolver di Quaim come un pugno in quegli istanti poteva accadere qualunque cosa avrebbe potuto perfino sparare le tre persone che uscivano invece di fare come del servizio di Jansky Baseman si controllò e in seguito quando le cose si misero male davvero tentò di convincersi che aveva fatto la cosa giusta non sparare sceriffo il tizio che aveva gridato queste parole seguite da un folle scoppio di risa indossava un casco da muratore grandi occhiali da sole di plastica uno zaino rigonfio e quelli che sembravano quattro strati di camice di flanella spingeva una sedia a rotelle motorizzata in cui era adagiato un uomo fragile e magro svenuto o morto dietro ai due c'era un grande gigante alto 1,90 panciuto con un poncio col cappuccio e un tagliabordi della Black & Decker fra le mani anziché di erba la sua lama era coperta di carne di spettri tutti e tre erano schizzati di sangue e i due in piedi sembrava che lo trovassero divertente il tipo in flanella spinse la sedia a rotelle nell'atrio meglio bloccare di nuovo l'ascensore sceriffo ci sono 30 o 40 di quei cose che non siamo riusciti a fare a pezzi Baseman guardò Zoe che alzò le spalle lui mise la pistola in tasca superò i tre e bloccò l'ascensore quando tornò nell'atrio urtò l'uomo col poncio Baseman era grosso ma quel tipo era un'altra cosa non sembrava che avesse mai fatto sport in vita sua ma aveva una struttura ossea da cavernicolo Baseman si affrettò a riprendere la sua posizione come tutti i capi non si rendeva conto di quanto bisogno avesse della sua stagista finché non l'aveva più accanto il tipo in flanella si guardò intorno attraverso gli occhiali da sole quanta gente avete qui? Baseman non vide motivo per mentire siamo io Nathan Baseman questo è Zos Shillace e altri tre mi avete fatto funzionare questa struttura in cinque caspita Paddy cosa ti avevo detto? il gigante ridacchiò il sangue gli scorreva sulle guance paffute Paddy pensava che foste in cinquanta qui sotto impossibile gli ho detto quando la merda finisce nel ventilatore i giornalisti famosi non sono meglio dei cattivi delle commedie siamo tutti qui per prendere lo stipendio giusto? eh? sceriffo? vicezoe? dico bene? è vero che qualche mano in più ci sarebbe utile siamo lieti di vedervi c'era qualcosa che non andava in quel trio non andava proprio un indizio emerse quando il tipo in flanella si tirò gli occhiali sulla fronte le sue iridi erano praticamente sparite per la dilatazione delle pupille e la sclera era rossa per i capillari gonfi il sangue il sangue di spettro che aveva sulla faccia non impediva di vedere il sangue che gli usciva dal naso era rimasto ferito in battaglia? più probabilmente pensò Baseman quel tipo aveva tirato qualcosa anche il gigante Paddy questo avrebbe spiegato la loro energia per non dire il coraggio nell'affrontare un corridoio pieno di spettri armati di un tagliaerba il tipo con gli occhi rossi era Scotty Rolf ovviamente quando lo scoprì Zoe rimase incantata cosa che spezzò il cuore a Baseman la ragazza aveva diritto a un mondo che desse ancora qualche piacere lui rimase molto più stupito nello scoprire che l'uomo sulla sedia a rotelle era Ramsey Dilan perché un vice direttore della Cable Corp si unisse a dei miserabili creativi era un mistero e Dilan non era in grado di spiegarlo i suoi occhi erano sigillati e le sue spalle tremavano Scotty disse che non era stato morso ma il suo aspetto era tremendo lì Sutton lasciò Fessler e la faccia a condurre la trasmissione e si unì al nuovo gruppo al tavolo della cucina Baseman notò con crescente inquietudine che Scotty e Paddy trattavano Dilan come un cocker poco intelligente Paddy che non aveva ancora detto una parola metteva del cibo davanti agli occhi di Dilan mentre Scotty gli asciugava il sangue sulla faccia con un tovagliolo gli tamponava il naso cosa che chiaramente lo infastidiva e poi gli girava il tovagliolo nelle orecchie con un ridicolo squick squick Scotty ridacchiava continuamente e gli occhi di Paddy lacrimavano per le sue risate silenziose come Paddy Ramsey Dilan non parlava Scotty lo attribuiva al trauma e Baseman finse di accettare la spiegazione ma sentiva che mancava qualcosa Dilan dava l'impressione di voler parlare anzi di volerlo fare a tutti i costi ma per qualche ragione non ci riusciva allora Scotty batte le mani qual è il punto della situazione? il punto è che abbiamo le scale piene di spettri da sorvegliare non è possibile inchiodare la porta perché è di metallo quindi l'abbiamo barricata con le cose più pesanti che abbiamo trovato quanti spettri ci sono nell'atrio? quanto basta per mettere su i miserabili se si potesse farli cantare a tempo Paddy sputacchiò una risata non dimentichiamo Glass ma giunse lì Baseman lo guardò male poi se ne pentì si pentì di tutto il debole ritmico battere dei pugni dello spettro di Glass sulla porta chiusa dell'ufficio di Pam Tripler ricordava il cuore rivelatore di Poe non avrebbe dovuto uccidere Rochelle Glass la prima volta ma avrebbe dovuto ucciderla e come la seconda su 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 Scotti fece per alzarsi lo spettro di Rochelle Glass è ancora in azione dov'è? voglio vederlo aspetta oh ragazzi sei stato tu a portarla via da corso è stato il momento di miglior televisione che abbia mai visto Scotti schioccò le dita di entrambi le mani brainstorming ecco quello che facciamo prendiamo Glass la leghiamo una sedia e la mettiamo davanti alla telecamera tanto per vedere quello che fa spero che tu stia scherzando disse Lee Scotti gesticolò esageratamente le diamo una barretta dolce e vediamo se la mangia le diamo un ipad e vediamo quali app apre sperimentiamo ragazzi per il bene del mondo e il fatto che sia quella bastarda di Rochelle Glass siamo seri la gente organizzava la propria vita per guardare la sua trasmissione come li chiamava aveva quel bellissimo termine del cazzo indicanti Scotti fischiò sì tutti gli indicanti là fuori si metteranno davanti alla tv come ai vecchi tempi per vedere di nuovo la loro guru dai lunghi capelli se la maggior parte delle tv non fossero inservibili faremmo il culo al Super Bowl avremmo in mano lo sbarco sulla luna cazzo Ramsey è per questo che mi paghi tanto no? diede a Dylan una pacca su una spalla le palpebre chiuse di Dylan tremarono e Baseman sentì un brivido corrergli lungo la schiena Dylan aveva pressa poco la sua età era facile immaginarsi su quella sedia sottoposto agli abusi di una generazione decisa a trasformare ogni cosa in un reality quello che irritava più di tutto Baseman era che Scott Rolfe aveva ragione rimandare in onda Rochelle Glass sarebbe stato oro in termini di audience l'audience era stata la base del servizio di Jansky l'audience aveva distrutto il suo matrimonio affanculo l'audience ascoltami e ascoltami bene siamo contenti che siate qui davvero abbiamo bisogno di energie fresche abbiamo bisogno anche di idee nuove ma il fatto che il mondo stia bruciando non vuol dire che io non sia più il produttore di questa trasmissione indicò il soffitto con un gesto risoluto se volete comandare lassù liberissimi qui il capo sono io e non facciamo buffonate finché c'è una televisione in funzione noi saremo il notiziario di cui la gente si fida d'accordo Paddy sorrisa Scotti come a dire adesso sei nei guai Scotti espresse la propria ostilità per un secondo soltanto ma Baseman sapeva che una rabbia così rovente non si poteva estinguere in poco tempo si poteva solo nascondere Scotti tornò a sedersi e si tolse il casco da muratore da cui emerse un cespuglio di capelli candidi poi prese la tazza di tè che Baseman aveva versato e la tenne delicatamente fra le mani con una docilità che appariva eccessiva sei tu lo sceriffo dicci come aiutare e noi aiutiamo Baseman non si fidava della sua espressione ma sorrisi a sua volta erano otto giorni che non fingevano emozione un record vedo che avete degli zaini pieni ditemi che avete spaghetti OS Kraft Mac e Cheese qualcosa vi prego vi prego vi prego Scotti guardò Paddy che finse di chiudersi la bocca per non ridere Scotti mise il suo zaino sul tavolo lo aprì e tirò fuori parecchi sacchetti Paddy fece lo stesso Baseman dove tecchinarsi per verificare che ci vedeva bene da decenni vedeva carichi del genere nei servizi sulle operazioni antidroga ma sempre accompagnati da molti poliziotti 16 gonfi pacchetti di marijuana 3 colossali buste di cocaina e decine di confezioni con pillole assortite era la droga la ragione della disabilità di Dylan Ramsey spaghetti OS più o meno il pilota sbagliato è qui che vive in questa sala ventilatori sì signore è quel buco nel condizionatore col tubo di gomma e dove prende l'acqua sì signore bene ottimo geniale e vedo che ha delle riserve di cibo immagino che venga dalla mensa che c'è su questo livello quello che non capisco è perché non sia rimasta qui deve essere il posto più sicuro di tutta la nave o gli spettri l'hanno invaso spettri signore quelli che padre Bill chiama demoni no signore sono stati altre persone lottavano per il cibo non era sicuro signore ci scommetto per una giusto per una donna mi scusi pilota sono già sceso qui con un gruppo di uomini abbiamo sentito gente che scappava passi di persone che andavano di fretta ma non abbiamo mai trovato nessuno che volesse farsi trovare abbiamo paura signore non dica così io conosco le donne dell'olimpia non si limiterebbero a nascondersi nessuno lotta con più decisione signore ragazze trans ci sono eroi qua giù di cui nessuno saprà mai nulla signore la smette di chiamarmi signore non ha senso mentre mi punta addosso a un coltello mi dispiace signore ma non abbasserò il coltello va bene ma allontanarlo un po qualche centimetro ecco grazie ora vorrei cercare di capire la gente qua giù sono divisi in gruppi dice quanti non lo so 4 o 5 divisi in base al rango al lavoro come fa a distinguerli dai colori signore hanno cominciato a vestirsi di colori diversi e io che speravo che le cose andassero meglio qua giù sono dieci volte più numerosi sa più persone più armi se il 54esimo è riuscito a prendere fort wagner durante la guerra civile americana voi potete prendere la torre di comando perché non vi unite e non salite con tutto il rispetto signore lei non sa lei non sa pensa che sia dura solo qui pilota è questo che pensa voi avete gli altoparlanti signore altoparlanti così padre Bill può sbarillare in pubblico cinque volte al giorno e allora sono comunque parole signore e come la tv o la radio o internet le parole sono ancora importanti ci dicono come sentirci di cosa avere paura è difficile non ascoltarli siamo deboli stiamo morendo di fame siamo stipati nelle zone sicure tutti lottano per un po' di spazio nessuno riesce a dormire gran parte del cibo è andato a male molti di noi sono ammalati ci sono topi a causa della spazzatura e la gente mangia i topi signore affermativo non riuscirà a pensare a qualcosa che non abbiamo già pensato noi giusto mi scusi in parte colpa nostra di noi di sopra ci siamo impadroniti dei cibi in scatola abbiamo preso anche la sala macchine la prossima cosa a cui puntiamo sono i reattori a poco a poco ci stiamo espandendo voi vi troverete con spazi sempre più ridotti naturalmente lei adesso si preoccupa adesso che è uno di noi non fingerò che non sia così soprattutto visto che lei non mette giù quel coltello immagino che sia accecata dai suoi problemi senta l'importante adesso è che sono qui sono pronto ad aiutare ma non posso farlo se sono suo prigioniero non le farò del male le mie grosse preziose armi sono dietro di lei e la migliore è un crocefisso rotto conosco quel crocefisso signore era una credente la lunga camminata e quella roba lì come vede facciamo tutti degli errori no lo vede questo cos'è una benda va cambiata pilota me l'ha fatto padre bill mi ha piantato il crocefisso nella schiena quando prima eravamo in un fusto di accesso magari l'avesse fatto fuori in quell'occasione come se l'è cavata sono caduta nove piani e le reti di sicurezza le aveva tagliate la mia tuta si è impigliata alla maniglia di un portello e ha fermato la caduta è un miracolo che non si è rotta tutte le ossa c'erano dei demoni non usiamo questa parola c'erano degli spettri molti anche loro erano caduti erano a pezzi ma alcuni sono riusciti ad afferrarmi e mi hanno strappato i vestiti mi hanno tenuta ferma e mi hanno spogliato uno dei demoni o degli spettri mi teneva per le spalle e io io l'ho riconosciuto era il capo della mia squadra probabilmente mi cercava a causa del mio errore di atterraggio mi meritavo una restrizione di volo avrei dovuto accettare la punizione così l'ho lasciato strisciare sulle mie braccia stavo per cedere poi ho ripensato alle cose fondamentali prima di essere una recluta una novellina quando ero solo una NQ una non qualificata e gli uomini avevano tutto il potere anche se non erano miei superiori mi prendevano in giro mi toccavano io al massimo osavo fare la lotta con i polsi i polsi? qualcosa si è rotto tutte le donne qua giù cedono e diventano diverse peggiori in un certo senso ma migliori in un altro io ho deciso che ne avevo abbastanza ho ficcato i pollici negli occhi del mio capo c'era questa cosa detta il muro dell'amore lui chiudeva un occhio gli ho ficcato i pollici dentro il muro dell'amore ho continuato a pensarci finché non gli ho raggiunto il cervello gli altri spettri erano eccitati hanno fatto a pezzi il mio capo ma io avevo i pollici bloccati e ben presto mi sono trovata con solo la sua testa avevo in mano la sua testa e la sua bocca tentava ancora di mordermi così l'ho buttata via ho immaginato di lanciarla proprio contro il muro dell'amore ho immaginato di lanciarla contro la fiancata di un aereo lo sapeva che io sono l'unica red serpent a non avere il nome su un aereo non ho neanche un soprannome non ho neanche un soprannome l'ha salvata qualcuno direi di sì se vogliamo metterla così la mia cinghia si è rotta sono caduta avrei dovuto morire ma sono entrati degli uomini avevano dei caschi con le lampade degli attrezzi mi hanno staccato di dosso gli spettri erano quelli del nucleare gente che lavorava in reattori mi hanno presa mi hanno bendata mi hanno dato da bere da mangiare sono stati molto gentili con me oh no non so se lo sa non so chi è lei ma l'ultimo corso che un pilota segue prima di andare per mare si chiama surf sopravvivenza evasione resistenza e fuga ti insegnano cosa fare se si viene fatti prigionieri è segreto ma posso dirle questo so come uccidermi non ho bisogno di altro che delle mie mani per farlo la marina è migliorata dai tempi dello scandalo Tylook più reclute donne più sensibilizzazione mi scusi signore la cultura è tribale e signore la prego non tenti di scusarli io non mi sono uccisa ho usato le altre cose che ci insegnano al surf ho ucciso loro li ho uccisi come se fossi uno spettro non sono sicura di non essere uno di loro signore se sono dei golem e sono qui per fare pulizia perché noi dovremmo opporci ho ucciso quegli uomini signore non so neanche chi è lei e le sto raccontando tutto immagino perché me l'ha chiesto perché si è preoccupato di chiedermelo non mi dia troppo credito se lei non avesse quel coltello probabilmente staremo facendo una conversazione molto diversa non sarò cattiva come loro ha ragione lei non sa chi sono non deve mettere giù quel coltello mi rifiuto di essere cattiva come loro e non dimentichi signore che ho sempre le mie mani so come usarle non ne dubito così è in fuga da allora da un gruppo all'altro non vedo alternative nessuno uscirà mai di qui beh io me lo sto chiedendo cioè lei è un pilota giusto pagan ma gli aerei li ho sentiti cadere sembrava che crollassero dalle torri affermativo padre Bill ci ha ordinato di spingere gli aerei in mare ma con gli spettri là fuori ci vorrà del tempo lei cosa guida gli F-18 signore abbiamo un super Hornet sulla pista appena fuori dall'ascensore 04 modello D due posti ma signore senza le catapulte se avessimo un Ariad 2 io passo molto tempo a livello meteorologia è una delle cose che so perché l'ho letto su uno schermo proprio sopra dove dormo è che fra 24 ore avremo 20 a 50 nodi signore ha scelto il pilota sbagliato non credo proprio non so se riesco a salire di nuovo su un aereo certo che ci riesce deve lei mi sta usando signore per fuggire dalla nave ma è una fuga che non riuscirà e allora ho delle cose importanti che mi aspettano a casa è rimasto ben poco in cui credere a questo mondo ben poco ma quello che è rimasto per me si trova a Buffalo e casa sua dov'è? a Detroit signore Buffalo Detroit i Bills i Lions siamo praticamente vicini magari torniamo a casa insieme operazione Bills Lions perché non crederci preferisce restare per sempre qua giù come i topi? è che ho passato l'ultima settimana a tentare di vivere a raggiungere tutti i morti che vedo a tastarli in cerca di cibo di una scarpa ho perso la scarpa sinistra mentre precipitavo era una scarpa importante signore i piloti di caccia hanno scarpe marroni vuol dire qualcosa forse non avevo il nome su un aereo non avevo un soprannome ma avevo le scarpe marroni signore perché ride signore? pilota sì? guardi alle sue spalle accanto al crocifisso perché? perché l'altra arma che mi ha portato via è una scarpa marrone da pilota agente Pagan credo che fossimo destinati a incontrarci io la ringrazio signore non so dirle quanto credo che mi vada bene io la ringrazio signore la smetta di chiamarmi signore pilota sono jennifer mi chiami jennie solo jennie casa è la grande G gracchiò Louise al telefono strizzando un occhio viola e gonfio in direzione di Charlie lei rispose con un sorriso ma sentì male la determinazione con cui Louise conservava il suo senso dell'umorismo era un regalo per lei in cambio di tutti gli eventi del matrimonio frettoloso e lei non poteva rifiutarlo il suo ultimo sforzo era divertente davvero il razionamento del generatore diesel costringeva Louise a caricare di rado il suo prezioso e inutile telefono ma aveva ancora un po' di batteria e stava scorrendo i suoi contatti per fare buffe telefonate di addio era il gesto di uno che moriva di cancro la grande C Charlie aveva già visto quel film lo apprezzo molto JT è vero la grande G è una cosa di famiglia per me Charlie sbuffò a questo morboso riferimento a mamà a cocella e Louise raccolse energie sufficienti per apparire scandalizzato a Charlie non piaceva quell'espressione Louise aveva la faccia grigia e cerea e contrarla in quel modo lo faceva somigliare a uno dei cadaveri che vedevano ogni tanto all'obitorio con il volto stravolto dalla morte ma alzò gli occhi al cielo fingendo di divertirsi come desiderava Louise basta parlare di me JT tutti dobbiamo andarcene prima o poi tu come stai vecchio mi sembri un po' giù alzò un sopracciglio speracchiato in direzione di Charlie le ci volle un secondo per capire il loro vecchio capo Jefferson Talbot come aveva raccontato Lindof si era buttato dal 64esimo piano del Trump International Hotel era troppo triste ma in quel momento troppo triste era ciò di cui Charlie aveva bisogno sbuffò con un grugnito che le parve comico e la fece ridere se c'era un dio là fuori ed era un po' più potente del Gesù di plastica sulla parete di Maerukowski avrebbe fatto meglio a benedire Luisa Cocella JT amico mio devo sì sai sono in ritardo per il lavoro sì d'accordo sono in ritardo di dieci giorni ma ho avuto beh se mi lasci finire il traffico era un vero incubo e poi ho dovuto risistemare un po' la ca senti adesso devo proprio andare ci vediamo presto JT ciao ciao Luis terminò la chiamata con un gesto esagerato del dito Charlie sorrise ma le sue parole le echeggiavano nella testa adesso devo proprio andare era così lo sapevano entrambi la grande G l'aveva afferrato e lo teneva stretto la sua vista confusa era diventata una quasi cecità adesso la chiamava la più bella bionda che non avesse mai visto quando la febbre e il dolore lo abbattevano i suoi gemiti diventavano insensati sembrava preoccupato solo per lei gli dispiaceva che lei dovesse affrontare questo mondo da sola si ricordava come caricare la pistola passava in rassegna i posti dove era più probabile che si trovassero delle munizioni nel caso in cui la civiltà fosse sorprendentemente ritornata scrisse un illegibile testamento lasciando tutto a lei ma se fosse tornata anche Rosa avrebbero dovuto dividere si ricordava come caricare la pistola gliel'aveva già chiesto Luis toccò lo schermo nero una cosa che a Charlie mancava da quando razionavano il diesel era la presenza rassicurante di Chuck Corso con Luis lo avevano preso in giro finché come il resto del paese pensava Charlie erano arrivati a considerarlo un eroe l'uomo che teneva insieme l'America con attacca tutto e nodi da marinaio in mancanza della WWN l'amarezza si era infiltrata nei pensieri di Charlie dall'istante in cui Luis era stato morso il loro era stato un matrimonio a tutta velocità e alla fine erano arrivati alla parte in cui Charlie doveva smettere di essere una moglie e diventare un'infermiera cercava di capire come farlo stare meglio e otteneva risposte contraddittorie e confuse si assumeva l'ingrato compito di farlo mangiare e poi doveva pulire il suo vomito si sentì una merda inutile quando lo lasciò cadere mentre lo portava in bagno perché se l'era fatta addosso un'altra volta niente orari era di nuovo la sua dinner e lo assisteva non per le autopsie di altri ma per la sua stessa morte pronto? c'è Manolo? oh sei Manolo? Manu vecchio è tuo hermano che parla come vanno le cose nel main siete sopraffatti dai morti non mi dire oh grazie per averlo chiesto ma temo che le notizie qui non siano molto buone ho beccato la grande G l'ospedale non mi serve un ospedale un po' del posole di maiale della mamma risolverà ogni cosa Louise sorrise a Charlie lei non rispose capì che aveva appena sentito una fitta di dolore e il sudore gli colava sulla faccia come una glassa e la luminosità dello schermo lo rendeva ancora più pallido capì anche la sua determinazione dopo aver portato fino in fondo parecchie finte telefonate interrompere questa avrebbe rivelato il carattere grottesco di tutta la faccenda Louise costrinse le labbra in un sorriso distorto il touch screen illuminò dei denti che cominciavano a diventare marroni è passato troppo tempo Manu sono d'accordo dovremo vederci ti proporrei di fare una bella attraversata del paese per raggiungermi in macchina ma ho sentito che le autostrade saranno trafficatissime per un po' io oh io non sono in condizione di viaggiare ho paura che la grande G sia piuttosto avanzata le mie vecchie gambe non corrono più faccio fatica persino a stare sveglio per più di la voce gli si spense Charlie trattenne il respiro che Louise sussultasse per l'emozione o per il dolore i suoi occhi rossi e gialli erano inondati di lacrime si portò una mano tremante alla fronte per nascondere il volto contratto ti ricordi eh Manu che guardavamo i film horror piratati dal fratello maggiore di Rafi e io stavo sveglio tutta la notte perché avevo paura che il mostro mi prendesse e se mi addormentavo è così è così anche adesso fratello ogni volta che mi appisolo penso sarà l'ultima volta sarà l'ultima volta che penso alla mamma e al papà e a te e e ho paura e ho paura e ho paura Manu venivo nel letto con te e ricuerda tu dicevi non ci sono mostri Bobo vieni qui così posso dormire e allora era tutto a posto è quello che vorrei adesso solo questo mandare via i mostri Manu tu sei l'unico che ci riusciva Luis si inghiozzò in un'esplosione di muco e Charlie vide la luce del suo telefono che si spegneva la batteria era morta forse del tutto e restava lo schermo nero che chiunque osi il rossetto sa che si può usare come specchio sullo schermo nero Luis vide le ultime cose che il suo telefono avrebbe trasmesso la propria faccia pura e semplice si inghiozzò di nuovo Charlie non poteva fare nulla Luis si addormentò e dopo un po' lei scese da basso e dormì sul divano se fosse morto nella notte si fosse girato a morderla così seppe che era finita di solito bastava un cigolio delle molle del letto un paio di gemiti e lei era in piedi quella notte dormì senza interruzione e quando si svegliò al mattino non c'erano rumori assorbì la novità il 4 novembre quello dunque sarebbe stato il giorno indimenticabile controllò come tutte le mattine le porte le finestre sbarrate mise sul caffè prese la 38 e salì le scale Luis era vivo ma era cambiato ancora una volta il suo corpo era sprofondato nel letto come nel terriccio di una tomba era diventato bianco come il gesso la cosa peggiore era la sua immobilità l'aveva studiato all'università il punto in cui il dolore di un paziente non si può più riconoscere come dolore era l'aria la luce la gravità tutto quando Charlie si sedette sul letto accanto a lui solo gli occhi si mossero girandosi verso di lei Charlie il suo sussurro rallentava le parole fammi vedere la pistola lei avrebbe dovuto essere devastata ma aveva studiato anche questo lo spossato vergognoso senso di gratitudine che le persone care provavano la vigilia della fine alzò la pistola perché Luis la vedesse lui batte le palpebre la cosa più simile a un cenno di assenso che poteva fare una volta finito con me tieni una pallottola per te non si sa mai cioè cioè se devo miro al cuore o dinner lo sai si immagino di sì dimmelo come ai vecchi tempi lei tirò su col naso gli occhi ancora gonfi di sonno si gonfiarono ulteriormente se si mira il petto le costole possono deviare il colpo e ci si può ritrovare con uno pneumo torace un'emotorace una tetraplegia quindi cosa devi fare la testa non la tempia si può mancare il cervello colpire gli occhi restare ciechi neanche sotto al mento la mano potrebbe sussultare e si finirebbe per distruggersi la faccia bisogna mettersi la pistola in bocca e mirare verso il basso dove il cranio incontra la colonna vertebrale ma non con gli spettri eh oh cazzo giusto giustissimo quindi il cranio allora proprio in mezzo alla testa dritto al cervello oh lui cazzo non voglio farlo non ne è detto speriamo di no parlo di te non abbiamo avuto abbastanza tempo ho provato ad andare veloce ma non è stato abbastanza bello eh è stato niente male adesso fai al comò lo scotch bloccami polsi e caviglie no a cocella no non ti resterà quella pallottola se le usi tutte per me aveva ragione ovviamente aveva ragione anche quando John Doe aveva ripreso vita Luisa Cocella si era comportato da perfetto professionista aggiornando la sua registrazione per la WSDC laddove chiunque altro sarebbe scappato avrebbe meritato di diventare medico legale al posto di JT avrebbe meritato un sacco di cose che non aveva mai avuto prima di pensarci troppo Charlie prese il rotolo di scotch e tolse le lenzuola che coprivano Luisa non vedeva il suo corpo da giorni era scheletrico il pigiama incollato alle membra non è lui si ripetè mentre gli legava le caviglie lui è più grande di queste quattro ossa si disse mentre gli fermava i polsi dietro la schiena bene adesso ascolta non voglio creare pasticci sei già in un pasticcio stupido un minimo arricciamento delle labbra scendi da basso prendi dei sacchi della spazzatura mettili uno dentro l'altro così resistono meglio e poi voglio che no Acquacella no me li infili sulla testa e li chiudi sul collo non ti faccio soffocare non lo farai bucali in modo che possa respirare ma quando ritornerò non riuscirai a mettermi quei sacchi e non voglio che tu debba guardare il pasticcio non voglio che mi ricordi così tu non sarai mai come loro mai ho riflettuto sai i miei pensieri non hanno senso sugli spettri non sono esseri umani imperfetti sono esseri umani perfetti capisci l'unica cosa che facevano gli esseri umani era uccidere i nemici come quei tizi che hanno circondato la nostra macchina e davano la caccia ai latini gli spettri sono uguali solo che danno la caccia a tutti senza distinzioni finalmente l'uguaglianza non è male no quando Charlie scese da basso si vide come ripresa da una macchina fotografica galleggiante dissociazione da shock un'altra cosa che aveva studiato all'università c'era anche un elemento di teatralità si passa la vita a guardare sentire e leggere storie che mettono in luce riti importanti la scena in cui si percorre la navata la scena nella sala parto la scena del pianto al funerale questa era la scena sul letto di morte e Charlie raddrizzò le spalle e assunse la giusta espressione triste e forte eccolo il suo momento di gloria accese il generatore il carburante era poco ma ormai cos'è che non lo era prese i grossi sacchetti della spazzatura in cucina ma invece di salire al piano di sopra scese in cantina parecchi giorni prima o parecchi decenni prima a seconda di come li misurava mentre frugava tra le decorazioni di Natale aveva trovato delle scatole con sopra una data scolorita che risalivano a quando Louise aveva poco più di vent'anni conoscere Louise da giovane poteva essere un modo per farlo vivere per sempre perciò tolse lo scotch e dentro trovò non foto e ricordi come sperava ma libri i volumi e muffiti mostravano un ragazzo la cui curiosità intellettuale era più forte delle dieci ore di lavoro giornaliero massicci romanzi latinoamericani antica poesia inglese critica cinematografica europea filosofia tedesca dentro a tutte le copertine c'era una firma in segno di proprietà fatta con la spigliatezza e l'esibizionismo di chi non ha ancora 30 anni e pensa che la sua firma un domani potrà valere qualcosa Louise George a cocella mise insieme un mucchio dei libri più vissuti li coprì con i sacchi della spazzatura e li portò su nella camera da letto dove trovò Louise addormentato si mise subito a lavoro sui sacchi della spazzatura tagliando un buco per farlo respirare quando lui si svegliò hai cinque pallottole non usarne più di quattro farai rumore li attirerai spara attraverso un cuscino potrebbe attutire il rumore non lo so aveva gli occhi chiusi le palpebre nere e unte su una faccia di cera Charlie si chinò il più naturalmente possibile perché non voleva che quel bacio della buonanotte fosse diverso dagli altri che gli aveva dato le labbra di lui erano ghiacciate la pelle tutt'intorno bruciava Charlie scivolò via si leccò dalle labbra il sudore caldo di lui e guardò la sua bella faccia gentile un'ultima volta prima di farla sparire sotto i sacchetti neri fissò i sacchetti con lo scotch alla camicia del pigiama guardò la plastica intorno al buco della bocca gonfiarsi e sgonfiarsi il ritmo dei suoi deboli respiri vuoi della musica lui annui una volta facendo scricchiolare il sacchetto Charlie andò al lettore DVD e inserì un uomo tranquillo quando terminò la vivace nello stesso tempo triste partitura di Victor Young si sedette sull'orlo del letto con le ginocchia che toccavano un uomo legato e incappucciato come in attesa dell'esecuzione in effetti lo era anche se al contrario di molti carnefici lei amava la sua vittima più di quanto sapesse esprimere accanto alle gambe di Louise mise quattro libri e una pistola ti leggo le cose di quando eri giovane ti va Louise annui di nuovo il buco sul sacchetto fu risucchiato all'interno Charlie scelse un grosso volume di poesia e cominciò a sfogliare l'indice dei titoli non arrivò neanche alla B e vide con sorpresa una poesia che riguardava la loro comune professione la poesia si intitolava Autopsia in forma di elegia pubblicata nel 1972 da un cardiologo di nome John Stone Charlie la lesse mentalmente e capì che parlava della grande C o della grande G o di qualcosa del genere quando la rilesse ad alta voce lo fece con dolcezza perché il suo amante il suo paziente la persona che amava di più stava perdendo contatto nel petto nel cuore era il vaso era il ritmo era l'arte era l'amore era il grumo piccolo e lento e la cicatrice che non poteva sapere che il resto di te era quasi perfetto Charlie conosceva anche questa scena affondò la faccia tra le mani e si inghiozzò Diner la voce roca di Louise il sibilo di plastica Charlie annuì sicura che lui potesse percepirlo tu lo sai cerca di ricordartene l'infanzia non è un momento la vecchiaia non è un momento forse neanche la morte è un processo alcune cellule osse continuano a lavorare anche i cluster di cellule come costellazioni nel cielo dico cose senza senso voglio andare a casa i rifiuti del metabolismo la rottura enzimatica i sarcofagi gli animali che si nutrono la putrefazione il terreno la nuova vita voglio andare a casa Charlie voglio andare a casa Charlie non capiva cosa volesse dire la casa poteva essere il Messico poteva essere Rosa sfogliò il libro e continuò a leggere incespicando sulle parole saltando interi versi non è che avesse importanza l'unica cosa su cui riusciva a concentrarsi era al fiorire la passire del sacchetto della spazzatura il salire e lo scendere del petto di Louise e il fatto che lei solo dodici giorni prima aveva cullato il cuore di John Do fra le mani e si era chiesta se qualcuno o qualcosa là fuori avrebbe cullato il suo se il desiderio di Louise era reale le mani che reggevano il suo non appartenevano a una cosa ma a cose tutte pronte a riempirla di nuova vita quando fosse stata pronta era il pensiero più triste gli spettri come correttivi un milione di nuvole a fungo che venivano a riparare ciò che era andato storto stai andando a casa voglio ho detto che stai andando a casa voglio smettila di volere a cocella stai andando a casa dovessi trascinarti là con le mie mani ci fu una lunga lunghissima pausa durante la quale a cocella avrebbe potuto essere morto Charlie non ne sarebbe mai stata sicura verso l'una del pomeriggio mentre finiva I'll take you home again Kathleen di Victor Young un altro suono finalmente emerse dal cappuccio di plastica il verso di Louise che l'aveva sempre deliziata Charlie rise si alzò rise ancora un po' e sollevò la pistola come se sollevasse un braccio voglio danzare con te con le lacrime che le rigavano la faccia le inzuppavano la camicia decise che era una specie di casa dopo tutto fare a Louise l'amichevole familiare a gesto del dito medio che gli era sempre piaciuto vedere gli posò la trentotto sulla fronte usando un cuscino come silenziatore secondo le istruzioni ricevute il sacchetto si raggrinzi come una fronte sorpresa le sarebbe bastato un tentativo per fare quello che lui le aveva ordinato di fare forse era stata una moglie mediocre ma era sempre stata la migliore assistente che Louisa Cocella avesse mai avuto questo è un test qualcuno muore qualcun altro impara a vivere uno scambio onesto il modo migliore in cui Greer poteva inquadrare la sua nuova vita era il tempo peggiore come nell'incipit di quel libro famoso che non riusciva a rammentare ma ricordava perfettamente l'altra metà della citazione contro ogni probabilità era coinvolta in una relazione là fuori tra i geli di sterpi di quel buco di culo del Missuri la caccia andava benissimo ma il campeggio non le era mai piaciuto l'appartamento dei Morgan era già abbastanza scomodo eppure nei nove giorni che aveva passato con Muse avevano dormito nei granai su letti di aghi di pino in una barca remi sfondata e semplicemente per terra svegliandosi bagnati dalla roggiada e odorosi di erba di corteccia e l'uno dell'altro le piaceva lo amava il posto migliore per nascondersi pensavo è stare all'aperto Muse era ubriaco quando l'aveva detto ma aveva un'istintiva capacità di sopravvivere quelli intrappolati nelle roulotte all'ultima spiaggia all'interno della scuola superiore di Bulk o come diceva Muse in tutti i palazzi di Kansan City probabilmente erano condannati gli spettri avevano una forza da bulldozer grazie al loro numero peggio ancora erano pazienti se non riuscivano a spezzare la resistenza aspettavano che la gente finisse il cibo e uscisse diventando cibo essa stessa nella terra dei vasti campi di cereali e dei prati aperti Greer e Muse potevano vedere i guai da lontano il gruppo più numeroso che avevano visto era composto da cinque spettri più spesso ne vedevano uno o due a qualche centinaio di metri di distanza e finivano quello che stavano facendo rovistare mangiare raccogliere baciarsi prima di mettere qualche chilometro fra loro è il pericolo a volte mentre scappavano si mettevano a ridere era come essere beccati a fare l'amore in un posteggio da un agente della polizia Greer pensava di essere innamorata la prima volta che questa idea le era venuta in mente dopo appena un giorno dall'inizio della loro relazione la scacciò le vecchie coppie sposate al Sunnybrook erano convinte di non poter sopravvivere senza il coniuge perché nessun altro sapeva pagare i debiti alla scadenza o fare il caffè come si deve trasferita nell'attuale situazione di vita o di morte probabilmente quella fiducia assomigliava all'amore Greer lo sapeva però si faceva delle domande non era mai stata innamorata neanche lontanamente e preferiva così c'era la libido il povero Quasime e altri ragazzi prima di lui c'era quella che suo padre chiamava Bonomi ragazzi che le davano un brivido perché erano interessanti e la stimolavano a essere interessanti a sua volta Muse non era tutte queste cose era l'intero pacchetto Amazon un ragazzo pieno di storie che preferiva ascoltare quelle di lei Greer non pensava di avere delle storie ma Muse ne era avido come se la patetica incarcerazione di sua madre e le sue lotte nella lurida Sunnybrook gli ricordassero qualcosa Greer scoprì che era proprio così Will e Darlene Lucas una coppia miserabile che Muse teneva in grande stima tanto che ne parlava ansimando chiaramente preoccupato del loro destino a quanto poteva capire i Lucas erano gli unici che avevano amato Muse in quanto Muse e non perché poteva riempire un locale abilità del genere non contavano più niente i contadini e i falegnami erano gli eroi del momento anche se Greer sospettava che il fascino di Muse potesse ancora servire Muse si vantava ingenuamente di quel suo fascino aveva amato un sacco di signore come diceva e le rimpiangeva come parte del tessuto del suo vecchio mondo Greer scoprì che non le dispiaceva essere l'ultima di una serie di signore anziché un esemplare unico distinguersi nel nuovo mondo era come sfidare la morte l'unica cosa di cui aveva bisogno era la sensazione con cui si era svegliata il 24 ottobre desiderio provava desiderio adesso moltissimo anche Muse provava desiderio il loro mestiere se ne avevano uno era depredare le case vuote nella prima che avevano visitato insieme un bungalow a un solo piano all'interno di una fattoria in rovina Greer aveva trovato un binocolo e comprendendo quanto sarebbe stato utile era corsa a mostrarlo a Muse l'aveva trovato che frugava nei cassetti del comodino capì che stava cercando dei preservativi in confronto ad altri ragazzi con cui era andata a letto che si incupivano appena sentivano lo scricchiolio della confezione il suo era un atteggiamento incredibilmente maturo Greer aveva visto abbastanza fantascienza catastrofica per sapere che restare incinta durante l'apocalisse era una grossa stupidaggine ci vollero tre giorni per trovare dei preservativi un tempo che parve lunghissimo anche se Greer pensò che avrebbero potuto metterci tre anni sperava che la scoperta volesse dire scopate infinite invece no quattordici preservativi e basta chissà quando e se ne avrebbero trovati degli altri Muse centilinava le avanze sessuali come un liquore raro ogni tre o quattro giorni o quando si verificava un fatto eccezionale un altro segno di responsabilità anche se Greer non lo apprezzava e glielo fece capire ehi da quale parte di questa guerra civile stai? le chiese Muse allegro ma con una certa sospettosità come se Greer Morgan fosse una ragazza che era bene tenere d'occhio onestamente anche questo le piaceva non si era mai soffermata sul perché sfidasse tanti insegnanti a Bulk e non si fosse mai tirata indietro di fronte a un litigio adesso le era chiaro le piaceva il pericolo nella noia di Bulk quella sensazione non si poteva soddisfare ma qui fuori poteva coltivarla non che si divertisse a uccidere gli spettri questo turbava la sua felicità dormivano con un sistema di allarme di solito un perimetro di filo che disponevano tutte le sere e riavvolgevano tutte le mattine tre volte il filo era stato tirato uno spavento la prima volta erano in un capanno con un muro alle spalle un errore da novellini e per fortuna avevano dovuto affrontare un solo spettro Greer dormiva col macete e glielo piantò nel cranio come in una noce di cocco facendo volare frammenti di osso come se fossero le schegge del guscio l'altra preoccupazione in quei primi giorni era la sopravvivenza il che voleva dire una cosa sola l'arco per andare a caccia con suo padre Greer aveva usato per lo più il fucile ma Freddy Morgan usava anche l'arco non un arco composto uno di quegli aggeggi enormi ipertecnologici a più corde pieni di mirini carrucole e stabilizzatori no Freddy aveva un semplice arco lungo inglese con un che di piacevolmente fiabesco ma per riuscire a colpire qualcosa ci voleva molto esercizio Greer aveva tirato un paio di volte senza grande successo ma adesso era una ragazza con un sacco di tempo libero a disposizione per cui si allenava per ore ogni giorno aspettava di trovare qualche edificio secondario oppure man mano che diventava più abile un albero o un palo del telefono incideva un cerchio sul suo bersaglio con un sasso a cinque passi di distanza tirava le sue sei frecce le recuperava le tirava di nuovo il silenzio della natura la cosa che più apprezzava quando andava a caccia con suo padre era ancora un piacere ma adesso c'era in più quello di migliorarsi quando imparò a colpire regolarmente il bersaglio si spostò a dieci passi di distanza poi a quindici la corda le batteva sull'avambraccio fino a farlo sanguinare ma trova una cintura di cuoio fece un buco con il coltello e se la legò intorno alla carne vulnerabile i muscoli della schiena se li sentiva talmente gonfi da bucare la pelle trapezio disse Mews lavorandole la carne dolorante con i pollici lattesimus dorsi aggiunse scendendo obliquo esterno continuò ancora più in basso coi pollici che tormentavano la vita dei jeans di lei non tutte le attività sessuali richiedevano un preservativo Greer si distese con la schiena dolorante che pulsava contro il terreno freddo e appoggiò delicatamente le mani sui capelli spettinati di Mews anche i palmi le facevano male che una freccia su sei arrivasse a segno non andava bene tre su sei non li faceva sentire al sicuro in caso di emergenza cinque su sei si cominciava a ragionare poco più di una settimana dopo aver cominciato la sua vita nomade Greer faceva centro ottanta volte su cento a quindici metri era un progresso insolito? non lo sapeva ma si sentiva bene avrebbe scelto in ogni caso quindici metri con l'arco rispetto a un colpo di macete Mews apprezzava l'aumento di sicurezza ma era proprio così il suo modo di applaudire i successi di Greer con l'arco era buffo la aiutava doverosamente ad appuntire le frecce i suoi messaggi ai muscoli erano paradisiaci ma l'ombra che gli circondava gli occhi quando Greer si esercitava non era diversa da quella di quando lei aveva colpito lo spettro alla testa sembrava che non gli piacesse quando lei uccideva gli spettri Greer li stava salvando e lui aveva il coraggio di tenerle il broncio per questo aveva usato il suo coltello da caccia per tagliare un pezzo di gomma da una ruota di trattore e metterla intorno al buco della chitarra per farla suonare a un volume più basso e suonava in tutti i momenti liberi vecchie canzoni tranne una una nuova canzone di protesta segreta che chiamava Walk Away la strimpellava in cerca di un'imperscrutabile perfezione era questo il suo grande contributo alla loro vita Greer si rimproverava mi usofriva molto in termini di forza e di spirito forse lei era troppo entusiasta nell'uccidere cose che erano state esseri umani per il resto erano felici ma quell'insoddisfazione era il suo sassolino nella scarpa bastava camminare poche miglia e quel sassolino doveva uscire per Greer questo avvenne nel decimo giorno che stavano insieme si tenevano troppo lontani dalle strade per conoscere con esattezza la loro posizione ma Greer stimava che si trovassero una cinquantina di chilometri a nord di Kansas City la trapunta marrone e gialla della campagna novembrina era la cosa migliore che fossero riusciti a trovare si imbatterono in un furgone mezzo pieno di cibo l'autista non aveva potuto portarlo via con sé quando era finita la benzina e Greer e Muse scelsero le delizie di quella cornucopia carne in scatola fagioli pesche cereali perfino salsa di pomodoro che aggiunsero gli spaghetti precotti quel paradiso aveva un punto debole una lunga dolce salita verso ovest che avrebbe rallentato del 30% la loro reazione se fossero apparsi gli spettri e sul lato nord della collina c'era una fattoria dove per chissà a quale istinto gli spettri si erano dati convegno e vagavano urtando le recinzioni i contenitori di granaglie i silos tutti i giorni per la maggior parte del tempo Greer e Muse stavano seduti su decrepite sedie da giardino sotto una macchia di alberi ai piedi della collina e come un beer watcher lui li teneva ad occhio mentre lei gli offriva le cornie da mangiare raramente Muse accettava la proposta di Greer di assumersi un turno di guardia stringeva il binocolo come stringeva la sua chitarra come stringeva lei beh questa sì che è una novità disse Muse sistemando la messa a fuoco se riuscissi a trovare un altro binocolo potremmo dividerci il compito non mi pesa sì ma sai si strinse nelle spalle odiava essere sdolcinata mi manchi un po' è una protesi di plastica attaccata alla faccia abbiamo un paio di fuggiaschi a 60 70 metri sul lato della fattoria magari gli spettano seguito un cavallo sembra che siano non sono sicuro di vedere bene Greer sospirò on the road again a quanto pareva stirò le gambe per toccare la carriola in cui tenevano cibo attrezzi e naturalmente quell'occupa spazio della chitarra di nome Hewitt tre giorni prima avevano sostituito la schwindifa di Lolo con una carriola a Greer si era spezzato il cuore quando l'avevano abbandonata la carriola non aveva la velocità potenziale della bicicletta avrebbero dovuto procurarsene un'altra e andare dove volevano California Messico Canada dove andresti se potessi andare da qualche parte un paio di miglia a sud con te a quanto pare sono fortunato davvero hanno finito di mangiare credo che stiano cercando noi abbassò il binocolo per dare un'occhiata a Greer dove andrei tipo con la fantasia si il sorriso di Muse la emozionava ancora l'assottigliarsi cremoso delle labbra i canini storti i peli della barbace spugliosa Capitol Records senza dubbio cos'è un negozio di dischi è uno studio di registrazione di Hollywood l'hai visto in qualche film un grosso palazzo rotondo sembra una pila di dischi su un piatto con una puntina gigante in cima rossa e lampeggiante cominciò a rialzare il binocolo ma lasciò perdere si stanno avvicinando dobbiamo fare i bagagli vuoi registrare delle canzoni non intendevo una cosa così di fantasia versione con orchestra di Walk Away sì mi piacerebbe ma quello a cui penso è che la Capitol Records ha queste camere dell'eco le chiamano Vine Street otto camere a forma più o meno di trapezio senza linee parallele capisci? ogni sala ha un riverbero particolare mettevano lì dentro i cantanti Sinatra Nat King Cole i Beach Boys cazzo i Beastie Boys c'è un ritardo di cinque secondi e un eco dolce come cioccolato come se uno cantasse nella cattedrale di St. Patrick la gente dice che adesso si può fare lo stesso coi filtri ma non è la stessa cosa per chi ha orecchio si alzò in piedi e si stirò Greer poteva vedere gli spettri adesso a una distanza di mezzo campo da football sembravano un duo comico degli anni 40 uno basso e grasso uno alto e magro entrambi indossavano dei cappotti entrambi erano insanguinati dal mento in giù chiunque avessero mangiato aveva un sacco di capelli lunghi ciuffi neri erano attaccati nei punti più appiccicosi va bene capito al records le nostre grida di morte in alta fedeltà Wayne Street 10 metri sottoterra pareti di cemento spesse 10 centimetri soffitto da 30 nessuno spettro entrerà mai laggiù se dobbiamo imbucarci tanto vale farlo in un posto con un po' di storia no? credi di essere il primo a pensarci lo spazio è tutto occupato K.K. Mioze ripiegò la sedia e offrì a Greer una mano per alzarsi dalla sua ti immagini chi ce l'ha in questo momento i migliori musicisti del mondo tutti insieme impossibile che non si mettono a improvvisare come dicevano i Rytos Brothers se c'è un paradiso del rock'n'roll devono avere una band diabolica parlo di musica degli ultimi giorni un nuovo tipo di gospel chiuse la sedia di Greer e mise entrambi sulla carriola gli spettri erano a circa 40 metri la loro carne cadente tremava a ognuno dei loro passi vacillanti mentre scendevano la collina Greer adesso li sentiva un rombo basso come nelle vicinanze di un'autostrada immagino che dovremo sentirlo nei nostri sogni fino ad allora binocolo un solo binocolo se ne troviamo un altro sei la benvenuta non ha importanza tu ti comporti come se avesse importanza non ha importanza ok qualcuno deve stare di guardia mentre tu ti eserciti con l'arco ci ho fatto l'abitudine eccola la disapprovazione sottintesa è una cosa da uomini cosa? ma dai perché io mi occupo della protezione ti senti privato della tua virilità? gli occhi di Muse comunicarono una certa animazione ne aveva colto le scintille mentre facevano sesso o quando dovevano correre i suoi zigomi si facevano più a guzzi la gola pronunciata è una cosa da donne cercare di litigare gli spettri erano a dieci metri adesso la distanza a cui una ragazza doveva cominciare a stare attenta Greer però voleva che fosse Miusa stare attento agli spettri a lei a tutto quello che lei faceva e alla merda reale che gli circondava mentre lui cantava walk away walk away immagino che questo sia quello che può dare un artista if the blues was a woman ti hanno mai detto che quella roba è offensiva? dico solo che ogni volta che tiro una freccia ti viene quello sguardo quale sguardo? come se fossi contrario lo sento nella tua chitarra diventa tutta triste cazzo Mius addolcì la voce non è mio diritto dirti cosa fare ma è tuo diritto avere un'opinione voglio dire stiamo insieme o no? com'era possibile che la risposta a questa domanda le facesse ancora paura in un mondo senza balli scolastici cene eleganti e dichiarazioni d'amore sui social media eppure il lento sguardo di Mius poteva ferire come i denti dei due spettri erano alla distanza di un'aula adesso talmente vicini che Greer vedeva i loro nei le zampe di gallina la lunghezza della barba al momento della morte stiamo insieme signora ma il mondo non sta insieme pensavo che certe cose fossero ok e forse non lo penso più dici che è mio diritto avere un'opinione bene bene ma non me la sono ancora fatta certe cose mi sembrano semplicemente sbagliate com'è possibile che uccidere gli spettri sia sbagliato sono morti King Kong cos'è la morte non è che l'hanno inventata le persone forse c'è solo se la chiamiamo così funerali e preghiere tutto il resto questo è ho l'impressione che stiamo sbagliando come se fosse una prova del gran duomo e noi la stessimo fallendo Greer indicò l'ovvio gli spettri a distanza di un'auto le scarpe da cui spurgava sangue fresco le fibbie dei loro soprabiti che tintinnavano mentre alzavano le braccia per rafferrare quello che volevano mentre lei e Muse restavano lì a litigare chi avrebbe fatto per primo un passo indietro oppure avrebbero lasciato che gli spettri mettessero le loro mani di ghiaccio bollente intorno alle loro gole bisticcianti Greer afferrò i manici della carriola tu sai che la tua carriera è decollata perché hai rotto la testa uno che stava per sparare vero? la carriola era bloccata fu un momento di panico il peso del carico la faceva affondare nel fango le ruote si liberarono con un risucchio e Greer la fece girare mettendola fra loro gli spettri è vero Muse si mise le sue spalle ma Will e Darlene mi hanno insegnato altro aveva avuto l'ultima parola ovviamente non doveva preoccuparsi della carriola lo spettro grasso la urtò buttando per terra una preziosa bottiglia d'acqua non c'era tempo di recuperarla lo spettro magro girava la carriola e le sue lunghe gambe lo rendevano molto più veloce sul terreno pianeggiante gli spettri sorprendevano sempre Greer arretrò trascinando con sé la carriola Muse prese la borsa il pezzo che più rischiava di cadere se la mise sulle spalle corsero come non facevano da tempo due minuti dopo Muse prese la carriola e continuarono a camminare Greer aveva ancora la testa in subbuglio Muse aveva ragione stava cercando di litigare quello che la faceva arrabbiare una rabbia che mascherava la vergogna se voleva essere onesta era la possibilità che Muse la disprezzasse perché uccideva gli spettri per quanto lei avesse sempre cercato di nascondergli le cose più brutte cosa vuoi fare Greer si girò bruscamente per scacciare le tarme dei cattivi pensieri il gesto parve aggressivo però e Muse sembrò ferito la rabbia di Greer svanì ralentò fino a un'andatura normale al suo fianco anche il cigolio della carriola ralentò camminavano nell'erba alta l'uno accanto all'altra e il loro ansito si confondeva con il sibilo del vento io io voglio quello che vuoi tu non è da Greer Morgan le fece un piccolo sorriso mi piace qui fuori davvero ma lo so per quanto tempo possiamo andare avanti come finisce la storia tu hai una famiglia non posso chiederti di dimenticarlo sono tutti morti non è vero la guardò serio Blue Feeder giusto? eh carcere di Blue Feeder Iowa hai detto che tua madre è lì? Vienna Morgan la vergogna della famiglia la reietta di Bulk erano quattro anni che Greer non le parlava era stata bella e formosa con labbra imbronciate e occhi lampeggianti per questo veniva assunta per le pulizie in tutte le case migliori come sarebbe stata Vienna dopo quattro anni di sbobba della prigione e di bagni della prigione? era una domanda sbagliata ovviamente non è possibile che sia ancora viva perché no? il carcere potrebbe essere il posto più sicuro del mondo mura per tenere fuori gli spettri celle dove ammassarli Mews si strinse nelle spalle è una strada da seguire sai? la luce di un faro qualcosa era come se si fosse acceso un magnete dentro al suo petto sentiva un inatteso infantile bisogno di stringere le sue braccine intorno alle ginocchia della madre Mews aveva colto nel segno Vienna Morgan poteva essere una persona di merda ma occuparsi di lei o sperare che lei si occupasse di Greer erano altre forme di quel desiderio che teneva in vita Greer stessa e Mews dopo tocca a me anch'io una famiglia anche se non ti fa piacere Will e Darlene? ho girato abbastanza da sapere che Rhode Island è lontano Greer stava ancora annuendo ci arriveremo non è detto che ci siano delle macchine per un passaggio potrebbero non esserci neanche delle strade ho detto che ci arriveremo Greer si fermò si girò lo afferrò per il bavero della giacca e lo costrinse ad abbassarsi un po' mentre lei si alzava Mews aveva il solito odore di sudore secco sporcizia fresca e vestiti umidi non si baciarono semplicemente vissero per qualche istante l'uno nello spazio dell'altro il calore delle labbra di lei la peluria secca del volto di lui il nido di quattro diverse file di ciglia come se fosse una prova del gran duomo e noi la stessimo fallendo Greer si ricordò il frammento di una lezione che Freddy Morgan aveva impartito a Conan quando aveva stuzzicato un cervo con un bastone dopo che il colpo di Freddy l'aveva solo ferito Dio ha messo qui gli animali per giudicarci in base a come li trattiamo aveva detto e Greer non aveva mai dimenticato che quelle parole condannavano il mondo rabbrividì il suo volto urtò il collo di Muse lasciò che si posasse lì allora cosa hai visto la sua voce era tutita dalla pelle della giacca nel binocolo quando hai visto quegli spettri per prima cosa hai detto che era strano Muse la strinse e la lasciò si girò verso nord con il sole sulla destra in direzione dell'Ohioa sì certo gli spettri mangiano le persone ok sì non danno la caccia cani a uccelli eccetera esatto forse ho visto male ma ho avuto l'impressione che quei due mangiassero un cavallo affanculo Jansky la fine cominciò con un gesto innocuo Paddy che spingeva Ramsey Dylan nello studio buio e collocava la sedia di fianco la telecamera 2 probabilmente non voleva dire nulla come sistemare il nonno davanti al gioco di società il giorno del ringraziamento Dylan era stato controllato fin dall'arrivo Baseman aveva detto a Chuck che sospettava Scotty Rolfe di aver drogato il dinamico vice direttore forse già quando era nei bagni per gestire la vescica e le viscere che Dylan non controllava Chuck temeva che fosse vero ma riteneva possibile che Dylan avesse chiesto di essere spinto davanti al set un'idea lusinghiera e forse un segno che stava migliorando due giorni prima Zoe si era messa alla console in modo che Chuck potesse ricevere i nuovi arrivati l'incontro aveva assunto il carattere di un pranzo di lavoro d'altri tempi col ristorante di lusso sostituito dalla cucina dello studio e la specialità dello chef da cracker e burro di arachidi Chuck sentì una fitta di egocentrismo vedendo le vecchie scarpe da ginnastica di Scotty Rolfe appoggiate sul tavolo una stringa che toccava il coperchio del burro di arachidi le quattro camicie di flanella sovrapposte di Scotty erano aperte come un cadavere alla facoltà di medicina e i suoi capelli erano sconvolti come una parrucca ricci di Halloween l'immagine non era molto lontana dalla verità la sua faccia sembrava di plastica bianca il che accentuava il rosso del sangue secco intorno alle narici quel che restava di Ramsey Dillon era accasciato sulla sedia a rotelle a sinistra di Scotty dall'altra parte c'era Paddy enorme e morbido come un pupazzo di carnevale a parte apprendere che Paddy era la previazione di Paddington Scotty pensava giustamente che Paddy assomigliava a un orsacchiotto furono scambiate poche informazioni significative nulla di sorprendente visto che il piatto di Scotty anziché di Cracker era pieno di strisce di coca Chuck aveva un disinteresse da Boy Scout per le droghe ma non criticava chi ne faceva uso in un momento del genere però c'era il prurito un tremito dei nervi un bruciore delle ossa appena sotto pelle si accentuava ogni volta che lasciava la console e adesso era peggio che mai cento fili roventi gli stringevano la fronte le guance il mento aveva la sensazione che il suo corpo avesse sviluppato un sistema di allarme qualcosa in quegli estranei gli faceva paura era una sensazione particolare di fronte a un uomo rattrappito immobile e a due apatici esauriti oppure no nell'ultima settimana mentre il cervello esausto di Chuck vagava tra le storie aveva cominciato a coltivare l'idea che il mondo fosse sprofondato per colpa non del male ma dell'apatia smetti di guardare e smetti di vedere smetti di vedere e smetti di sentire smetti di sentire è già troppo tardi Paddy dava da mangiare a Dylan troppo velocemente e lo faceva apposta il burro di arachidi si spandeva sulla faccia del dirigente e Paddy con gli occhi che sprizzavano in larità repressa gli disegnava un pizzetto appiccicoso Scotti ebbe finalmente la buona idea di togliere i piedi dal tavolo e gli attaccò degli M&M sulla barba di burro di arachidi come tante pustole colorate dagli occhi chiusi di Dylan sprizzarono lacrime non gli piace a quanto pare osservò Chuck signor Dylan riesce a sentirmi quelle sono lacrime di gioia gridò Scotti ci ama non è vero Paddy Paddy scompigliò i capelli di Dylan il prurito sulla faccia di Chuck ritornò il vecchio Ramsey è pieno di gratitudine nei nostri confronti perché la batteria della sua sedia è esaurita vero vecchio Ramsey Dylan tossì sputacchiando burro di arachidi il prurito mise radici nel cervello di Chuck sai come chiamano il bastoncino con cui pilota la sedia bevi e soffia o è succhia e scopa Scotti si accarezzò il mento non riesco mai a ricordarmene Dylan si mise a singhiozzare Chuck contrasse i pugni per non piantarsi le unghie nella faccia Paddy perché non porti Dylan in bagno potrebbe avere la cacca nel pannolone Paddy sorrise fra i cracker smangiucchiati e mosse la sedia di Dylan quest'ultimo aprì gli occhi e guardò Chuck ma per un istante talmente breve che Chuck non capì se aveva davvero visto quella che gli sembrava una supplica terrorizzata la risata cigolante di Scotti si accompagnava al girare delle ruote della sedia doveva fare qualcosa Chuck Baseman lo tolse dal dubbio andando a prenderlo per una riunione sulle notizie Chuck fu contento che fosse Baseman e non Zoe non gli era piaciuto il modo in cui Scotti aveva guardato la stagista come se fosse Foxy Fiona e lui JJ Jelope Chuck non aveva paura di Scotti l'animatore era handicappato come minimo ma sembrava che Paddy ne approfittasse Ramsey Dylan fu posteggiato a pochi centimetri dalla telecamera 2 proprio davanti agli occhi di Chuck non avrebbe dovuto essere importante invece lo era e il prurito tornò più forte che mai un secchio di benzina versato su un fiammifero che stava per spegnersi la sagoma massiccia di Paddy alle spalle di Dylan non faceva che peggiorare le cose Chuck guardò nell'obiettivo e si schiarì la voce c'è del marcio in Belgio detto così di fretta era un errore come la faccia dei vecchi tempi aveva sentito il bisogno di fare il brillante e aveva pasticciato la citazione tornava conlassando il suo cuore pompava panico un bruciore a cui un tempo solo Chuck Sachs 69 poteva rimediare Paddy sbuffò divertito posò le zampacce sulla schiena di Dylan e si mise a massaggiare le spalle del vice direttore Chuck poteva immaginare una situazione in cui quel gesto era una gentilezza Baseman sospettava che Paddy fosse il pusher di Scotti ma se invece fosse stato il fisioterapista di Ramsey Dylan arrivato il 24 ottobre per un massaggio una bella fantasia che svanì subito Paddy si chinò all'orecchio di Dylan e con un borbottio viscido pronunciò le prime e ultime tre parole che tutti alla WWN gli avrebbero sentito dire succhia e scopa undici giorni dopo che Chuck si era messo alla scrivania la sua lingua perse la sua magica scioltezza la sua voce si spense semplicemente si spense a riempire l'improvviso silenzio ci fu lontano martellare dei pugni degli spettri contro la porta delle scale seguito dallo squittio da topo di Paddy che mollava il freno della sedia a rotelle Dylan scuoteva la testa quanto glielo permetteva la sua disabilità in un frenetico tremolio del collo le ruote della sedia emettevano ogni giro un suono piatto che riempiva la testa di Chuck succhia scopa succhia scopa smettetela disse Chuck il dolore gli arroventava la faccia gli occhi di Paddy lampeggiarono allegri nell'oscurità faccia la voce di Lee nell'auricolare cosa succede Chuck indicò oltre la telecamera due voi avrete anche portato qui il signor Dylan ma lui non vi appartiene è un essere umano qualunque cosa gli stiate facendo voglio che la smettiate ve lo chiedo gentilmente per favore Paddy continuava a guardarlo Lee continuava a fare domande il silenzio con il suo allarme risuonava nello studio Chuck sentì porte che si aprivano voci che borbottavano passi che frusciavano una forma avvolta nella luce rossa emerse dal buio e Chuck pregò che fosse Nathan Baseman il suo produttore il suo sostenitore il suo protettore ma le luci dello studio rivelarono ciuffi di capelli in disordine e lembi stropicciati di flanella Scotty Rolfe si alzò sulla punta dei piedi per sussurrare nell'orecchio di Paddy Paddy riflettè a noi e si ritirò nell'oscurità dietro le telecamere qualcuno aveva abbassato le luci dello studio riportandole ai livelli precedenti Scotty sistemò il montante e prese posto sulla sedia del co-conduttore Chuck lo fissò come gli spettri Scotty sembrava umano ma non lo era vene azzurre emergevano sotto la vici da pelle bianca occhi enormi da tossico schizzavano qua e là come seguendo il volo di un calabrone il suo labbro superiore era rosso vivo per il sangue che gli colava dal naso agghiacciato Chuck non fece nulla mentre Scotty prendeva il microfono e se lo attaccava la camicia più esterna sistemò le pagine di uno script polveroso si tirò indietro i capelli sbiancati e arricciò le labbra sui denti guasti un grande saluto da atlanta salve sono scotti rolf la sua voce era formaggio fuso una parodia di tutto ciò che Chuck Corso aveva rappresentato un tempo benvenuti a good evening america il vostro programma preferito che racconta la fine del mondo come lo conosciamo sono insieme a Chuck Corso un manichino portato in vita con un rito satanico svoltosi nella sede locale della Neyman Marcus salute telespettatori Chuck Chuck guardò il sudore che scorreva sul volto raggiante di Scotti si sentiva distaccato a cento miglia dalla scrivania nelle sue viscere qualcosa di secco e pungente come se un cespuglio di spine fosse spuntato da un seme che aveva inghiottito bene magari non ha molto da dire ma non se la cava male per essere un uomo di plastica vero? prima di passare agli ultimi sussulti del paese moribondo voglio prendermi un momento per dire che è un grande onore essere qui al tavolo dei notiziari della WWN wow sono un fan davvero il tuo programma è molto divertente Chuck comico anzi niente in confronto alla festa di JJ questa è una commedia giusto? aspetta è una commedia o no? caos in studio grande caos accanto alla scrivania che veniva inquadrata imprecazioni scivolate colpi stridori scricchioli impossibilitato a vedere quello che accadeva Chuck non riusciva a distogliere l'attenzione dalla voce penetrante e fastidiosa di Scotti troppo simile alle spine che si sentiva nella pancia a loro volta troppo simili al prurito che sentiva sulla faccia Chuck che identificò questa nuova emozione con un leggero stupore l'ambizione la conosceva la gioia la sorpresa la tristezza il disgusto di sé li conosceva la vanità la conosceva meglio di tutte le altre messe insieme ma questa era rabbia e con essa c'era la consapevolezza di avere costruito la fiducia del paese in lui stesso e nella sua rete più che fiducia la certezza che altruismo e coraggio esistevano ancora non avrebbe permesso a quel moccioso di farla a pezzi allontanati dalla scrivania Scotti lo ignorò breaking news siamo fottuti del resto siamo fottuti da quando abbiamo cominciato a buttare confezioni non biodegradabili di McDonald's dai finistrini delle nostre Chevrolet o da quando abbiamo mandato i nostri ragazzi nel macello del Vietnam o da quando abbiamo schiavizzato gli africani che si occupavano della loro cera d'api in un modo o nell'altro tutti i nodi vengono al pettine giusto dal fondo dello studio giunse il gemito di un oggetto pesante trascinato sul pavimento 40 o 50 gemiti variati come i suoni di un organo in una cattedrale si levarono tutti insieme con incisiva chiarezza il grido di Baseman dall'oscurità attento faccia Paddy ha spostato quel cazzo di l'urlo di Zoe spingi spingi il grido di Fessler oh cazzo oh cazzo cazzo la rabbia invase Chuck lo accese come un fuoco fatuo Scotty Rolf era un ladro di carità un distruttore di fede e annientarlo sarebbe stato piacevole come graffiargli la faccia arrossata tu dici queste cose perché ti piace apparire brillante ma è solo un atteggiamento e rischia di farci morire Scotty si toccò un auricolare inesistente cosa è questo aspetta una notizia appena arrivata la gente non guarda la tv per avere notizie da vent'anni Chuck vuoi parlare di atteggiamento la gente si sintonizza per guardare persone che litigano amico ecco tu sei una delle vere casalinghe d'America complimenti Chuck non aveva finito tu e tutti quelli come te commentatori ecco cosa fai commenti e fai in modo che altri come te commentino a loro volta dici alla gente che è stupida se non la pensa come te non hai niente di originale da dire niente di sentito niente che sia di aiuto a qualcuno tu non stai cercando di fare qualcosa non l'hai mai fatto non abbiamo bisogno di te ah invece si signor manichino scotti spalancò le braccia quando il mondo impazzisce l'unica medicina è la pazzia l'intero vasto mondo adesso è una festa di jj siamo tutti mancinini rotti che si credono cene a base di aragosta quindi bevete dal rubinetto che preferite bevete fumate tirate vivete poveri indicanti vivete chiudi baseman senza fiato prendi no cazzo stai attenta non posso zoe terrorizzata sta cedendo stanno arrivando cazzo 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 fessler di corsa cazzo 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 braccia e gambe spinte e calci proprio accanto a chuck fogli di carta e portatile che volavano e scotti che balzava dalla sedia e applaudiva mentre paddy si faceva vedere con le sue braccia dal leviatano strette intorno al petto di uno spettro e non di uno spettro qualunque appena entrato nello studio paddy sbattero shell glass sulla sedia del co conduttore l'ultima volta che chuck l'aveva vista con la gola tagliata da cui sgorgavano bolle di sangue e il lampo perlaceo degli occhi che richiamava quello della sua bava non aveva un bel aspetto adesso era peggiorata morta da due settimane la pelle di glass si stava staccando e ciuffi di capelli caduti erano ancora in qualche modo appiccicate alla testa le zone più ricche di grasso erano diventate verdastre le vene principali violacee tutto questo avrebbe potuto essere mascherato dalla sua squadra di truccatori ma nessuno sarebbe riuscito a rimediare il suo peccato più grande l'aumento di peso le sue cavità si erano espanse per i gas della putrefazione e i suoi abiti di design erano tutti strappati Jack si irrigidì era stato fortunato a sfuggire a glass l'ultima volta perdendo solo qualche ciuffo di capelli adesso nel momento in cui glass toccò la sedia il suo corpo smise di agitarsi i suoi occhi latiginosi si allargarono si sedette più a retta una delle sue mani con tutte le unghie rotte si alzò e si accarezzò goffamente i capelli che non c'erano quasi più scotti rolf a destra di glass era a bocca aperta stupefatto quanto Chuck glass ricordava quelle luci quelle telecamere il suo ultimo desiderio era stato di tornare in onda e finalmente c'era riuscita disse con una certa amabilità inclinò la testa per dare enfasi al discorso ed il liquido nero le colò dall'orecchio Jack ebbe una visione di strana bellezza lui e glass questa glass che lavoravano insieme immaginò di cedere la parola glass le cui dita spandevano il luquame nero sullo script mentre lei emetteva gemiti incoerenti da qualche parte nel mondo esterno gli spettri che passavano davanti agli schermi della tv si fermavano arrestati dalla sua voce era già accaduto che in televisione si abbattessero dei muri Barbara Walters prima donna ospite fissa a Today NBC Max Robinson primo co-conduttore nero World News Tonight ABC nella morte Rochelle Glass poteva rompere la barriera finale unendo due metà di un paese lacerato e Jack sarebbe stato orgoglioso di sedere al suo fianco la visione durò il tempo di un respiro tre spettri con gli occhi bianchi come spuma emersero dall'oceano notturno dello studio e dietro a loro un'ondata di altri dieci con le braccia grigie come il mare alle loro spalle troppi spettri sulle scale per poterli contare sparpagliati come schizzi Paddy probabilmente non aveva intenzione di farli penetrare nello studio ma così funzionava la diretta malgrado l'affollata oscurità Jack riuscì a individuare i vivi si muovevano più incerti dei morti privi di scopo vide Tim Fessler correre verso la cucina una trappola in cui il suo corpo era destinato a diventare il prossimo burro di arachidi sui cracker l'andatura irregolare di Zoe Schillace faceva pensare che si fosse ferita un piede ma Chuck notò il lampo di un portachiavi e questo voleva dire che era diretta l'ascensore con lo strumento per aprirlo Scotty Rolf allontanò Paddy dalla scena il gigante cadde davanti alla telecamera 3 col corpo massiccio che ritraeva le gambe dalle grinfie degli spettri che gli si buttavano addosso Scotty frenetico salì in piedi sulla scrivania del conduttore per vedere meglio occhi e orecchie focalizzati su Zoe e l'ascensore il suo radar individuò l'obiettivo e le sue ginocchia si piegarono pronte a balzare al di là della folla di spettri col carburante che aveva inalato poteva anche farcela il petto di Scotty esplose ossa carne sangue il rumore dello sparo arrivato a una frazione di secondo dopo attribuiva la responsabilità a Nathan Baseman che era uscito dalla folla di spettri stringendo l'automatica fumante di Quaim Scotty cadde in ginocchio col sangue che gli sgorgava dal petto come da una brocca col tappo di sicurezza mentre cadeva dalla scrivania Baseman si lanciò in direzione opposta sbattendo contro il tavolo con tale forza da far tremare l'intero studio la sua testa era appena sotto a Chuck in primo piano nell'immagine più contorta che la telecamera 2 avesse mai inquadrato Baseman sparava 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 contro gli spettri non inquadrati continua faccia non fermarti sono nello studio disse Chuck rivolto all'obiettivo rientrando all'istante nel suo ruolo malgrado il cadavere tremante di Scotty e l'inquietante presenza di Glass lui continuava a essere il fedele messaggero del suo produttore questa è la nostra ultima trasmissione signore e signori ripeto la nostra ultima trasmissione Baseman sparava la notizia è che stiamo per morire la cosa Glass lo vide la sua mandibola si aprì e si richiuse come quella di lui inclinò la testa per imitare la sua enfasi alzò un sopracciglio incolto sulla fronte che si squamava Chuck fece un sospiro tremante e decise di prendere l'attenzione di Glass come un segno che stava facendo quello che doveva se riusciva a trasmettere quell'ultima storia rapidamente in maniera corretta poteva fare una differenza più grande che mai a prescindere che fossero i vivi o i morti a vederlo alzò la voce per farsi sentire al di sopra delle pallottole che venivano sparate dei mobili che venivano distrutti e dei lamenti degli affamati non possiamo più aiutarvi siete soli adesso tutti quanti ricordatevi di quello che avete visto su questo canale gli spettri si sono impadroniti di tutto i musei le fabbriche le centrali elettriche i laghi i fiumi le autostrade le case ma non perdete la speranza vi prego non perdete la speranza forse era necessario che queste cose venissero conquistate il governo l'esercito anche i media tutto questo era già a marcio e se era a marcio non vuol dire appunto che apparteneva già a loro ai putrefatti l'ultimo mobile a rompersi fu la scrivania quando gli spettri le si precipitarono addosso da destra e da sinistra sulla superficie si disegnarono delle crepe viti e chiodi gemettero gli spettri si ammucchiarono le due estremità ed entrambe crollarono come il mondo dall'alto scattarono delle scintille e i faretti morirono lasciando solo le luci principali ad arrostire la specialità della serata ciak corso gli spettri premevano in una tempesta di mani protese tranne Rochelle Glass i cui occhi vacui fissavano ancora il gobbo vuoto il mento necrotizzato andava su e giù dietro alla lingua nera penzoloni Baseman si issò sui resti della scrivania proprio dove si trovava di solito il portale di Chuck smise di sparare teneva la pistola nella mano destra e con la sinistra afferrò quella di Chuck formando un doppio pugno benché fosse coperto di sudore e di croste Baseman sorrideva finalmente era il martire che aveva sempre sognato di diventare ce l'abbiamo fatta faccia le lacrime di Chuck alleviarono il prurito che si era impadronito di tutta la sua testa a noi anche se per lui era stato Baseman a compiere la magia su Chuck Corso bastava guardare la cosa Glass che muoveva tranquillamente le mandibole davanti ai suoi indicanti per capire che la trasformazione di Chuck era stata più radicale di quella da vivo a spettro voleva ringraziare Baseman ma potessero annuire mentre due mura di carne in decomposizione premevano si puntò la pistola alla tempia e guardò nella telecamera 2 affanculo Jansky ricordatevi di Baseman la testa del produttore esplose sotto le forti luci dello studio il suo cranio diventò un pallone rosso che galleggiò un'ultima volta prima di disintegrarsi il suo corpo senza testa girò e cadde a terra dietro la cosa glass gli spettri gemettero e si chinarono per rivendicare i primi bocconi di carne fresca il vetro satinato alle spalle della scrivania si ruppe e le lettere WWN formarono schegge appuntite anche l'idea della WWN andava in pezzi pensò Chuck mentre la sua sedia veniva strappata via e lui cadeva supino sul pavimento coperto di vetri Scottie Rolfe aveva ragione su una cosa non c'era più posto per una sola fonte di verità in questa America chiunque là fuori si aggrappava al suo pezzettino ogni frammento di vetro rifletteva un'immagine del possessore un milione di verità ma nessuna verità pensieri interessanti cancellati dalle teste bavose degli spettri Chuck Corso lottò naturalmente gli spettri calavano troppi per essere efficaci si accavallavano e si ostacolavano a vicenda finché un singolo spettro riuscì a liberarsi e a caderli addosso era una nera alta la cui pelle violacea contrastava dolcemente con gli occhi bianchissimi Chuck notò la stranezza di una targhetta col nome attaccata alla camicetta inaspettatamente la sua assassina si presentava Annie Teller pozzi di catrame di Labrie Annie Teller allungò entrambe le mani verso la testa di Chuck un'altra sorpresa la donna aveva tutito la propria caduta con entrambe le mani grosse schegge di vetro le spuntavano dai palmi come lame di coltello Chuck non poteva fare niente sentì il gelido formicolio del labbro inferiore che gli veniva strappato vide la punta del proprio naso tagliata via entrambe le sopracciglia gli furono amputate se le vide passare davanti agli occhi come bruchi il resto non poteva vederlo ma lo sentì perfettamente lo spaccarsi della fronte il taglio dell'orecchio sinistro la sensazione attaccaticcia della faccia sbucciata come un'arancia rise un suono libero senza gli ostacoli delle labbra e della pelle era stato sotto il coltello molte altre volte blefaroplastica ritidectomia tutte quelle procedure fini ma quel lifting facciale li batteva tutti era l'operazione che avrebbe rivelato il suo vero io quella che alla lunga l'avrebbe fatto sentire a suo agio con il soprannome che non gli era mai piaciuto la faccia manovrare nel vento erano appesantiti tute da avviatore nome exprese da uno spogliatoio dello squadrone caschi integrali non semplici elmetti Jenny strappò un collage di foto di donne sexy prima di trovare un paio di anfibi della sola spessa per Nishimura attrezzi riciclati come armi asce da pompiere un fucile da parata senza munizioni ma aveva la baionetta Jenny era un folletto forte il doppio di lui aveva una spada usata per la nomina degli ufficiali anche essa da cerimonia e quindi senza filo ma era comunque d'acciaio nella tasca sinistra una beretta M9 da pilota nella tasca destra un forchettone per i combattimenti a distanza ravicinata stronzate nel complesso ma loro correvano come gazzelle e sognavano come bambini potevano fare l'impossibile dovevano crederci se speravano che l'operazione Bills Lions avesse successo si accostarono alla porta della camerata illuminata dalla luce di sicurezza rossa Nishimura accostò le mani alla serratura non sono pronta gemette Jenny certo che lo è e se non mi ricordo la lista il codice identificativo se lo ricorderà e se un motore si surriscalda non so come non importa l'importante è provarci ci siamo lasci che le dica dei golem cosa? Jenny è l'unica cosa sensata che ha detto padre Bill ce l'ho dentro come una malattia se muoio là fuori voglio che qualcun altro lo sappia Nishimura sentiva i missionari al piano inferiore facevano i rumori che aveva fatto anche lui quando era il loro capo oggi non erano a caccia di cibo né di rifornimenti presto deve essere rapidissima i golem sono qui per proteggere la terra se ne fregano di noi i golem sarebbero gli spettri? va bene ho capito adesso querido Dios c'è un mozzo che mi ascolti su questa nave siamo noi che li chiamiamo e questa è la cosa importante ok? sta scritto in qualche vecchio libro diceva padre Bill non ricordo bene ma noi chiamiamo i golem per aiutarci e loro per aiutarci ci distruggono è muo importante capisce? deve dirlo agli altri glielo diremo insieme adesso apra la porta pronta pilota pronta il sole li colpì come un tornado Nishimura sapeva di dover bloccare la porta alle sue spalle per tenere a bada gli spettri dei piani inferiori e per rallentare i missionari ma rimase accecato dai riflessi bianchi del mondo con le macchie nere degli spettri sul ponte di volo che padre Bill vietava i suoi seguaci di uccidere ce n'erano molti il che voleva dire che non c'era tempo per altro bisognava correre andarono a poppa tenendosi a bordo Jenny cominciò a sparare con l'M9 malgrado la fretta era brava come aveva detto due spettri caddero subito colpiti alla testa una folla di spettri si avvicinò dal lato di tribordo come l'ombra di una nuvola di passaggio la loro apparizione improvvisa sconvolse Jenny le sue pallottole provocavano inutili bolle di sangue freddo sui petti e sui torsi Nishimura le gridò di correre correre e basta e lei si mise in tasca la pistola afferrò a due mani la spada e scattò la tempesta del 24 ottobre aveva rovinato il rivestimento di gomma e asfalto del ponte Jenny era abbastanza atletica da mantenere l'equilibrio Nishimura no cadde tre volte la prima si rialzò subito la seconda perse l'ascia che fu presa da uno spettro la terza allontanò tre morti con i suoi anfibi nuovi finché non riuscì a usare il fucile come una clava e a piantare la baglionetta nella gola di quello al centro malgrado questi contrattempi quando arrivò a Super Hornet F-18 accanto all'ascensore 04 Jenny era ancora sotto la fusoliera salga sull'aereo gridò Nishimura tentò di spingerla verso la scaletta accanto alla carlinga ma lei fece resistenza avevano dato un cavo di nylon intorno al gancio di arresto dell'aereo come d'accordo ma adesso lo stava tagliando con un coltello perché quel sabotaggio Nishimura avrebbe voluto ricorrere all'incandescenza ma aveva ancora nell'orecchio le parole di lei c'è un mozzo che mi ascolti su questa nave decollare con un aereo su una pista lunga un quarto di miglio senza l'aiuto delle catapulte era al di là delle sue capacità era una vita che vedeva gli aerei partire dalle navi e non aveva mai visto nessuno provarci ma Jennifer Angelis Pagan aveva un piano l'aveva spiegato denigrandolo mentre lo faceva a dispetto delle lodi di Nishimura di solito decollando da una porta aerei i piloti facevano scattare le valvole in modo che la pressione del vapore lanciasse gli aerei in cielo dopo poco più di 100 metri ci volevano due secondi usare l'intera lunghezza del ponte garantiva loro quasi 300 metri la metà di quanto avevano bisogno per decollare senza contare l'asfalto rovinato l'idea di Jenny era di azionare i freni poi portare i motori al massimo e tenere d'occhio le bandiere per approfittare del vento al momento giusto avrebbe mollato i freni azionato il post bruciatore e pregato fissando l'F18 a una bitta sperava di massimizzare la spinta delle due turbine la chiave era che il cavo si spezzasse esattamente quando lei mollava i freni altrimenti l'aereo sarebbe scivolato di lato e caduto in mare ecco cosa stava facendo Jenny mentre scappava aveva deciso di incidere il cavo con il coltello in modo che si spezzasse al momento giusto era un azzardo come faceva a sapere quanto inciderlo fino a poco prima si stava preoccupando del funzionamento della cabina di pilotaggio Jenny alzò lo sguardo su Nishimura lui rispose con una smorfia lei strinse i denti e gli lanciò il coltello se lo meritava pensò Nishimura erano gli uomini che avevano rovinato il mondo meglio che li pugnalassero tutti ma Jenny non aveva mirato a lui la lama fischiò a sinistra di Nishimura lui si girò e vide l'arma lanciata senza grande esperienza a sbattere con l'impugnatura sulla faccia di uno spettro a mezzo metro da lui Nishimura si sentì rabbrividire una decina di altri spettri erano a pochi metri di distanza impugnò il fucile la baionetta era lunga 15 centimetri troppo poco ora che la tirava fuori da uno spettro sarebbe stato afferrato da un altro aveva bisogno dell'M9 di Jenny mentre pensava a questo dal collo di uno spettro si sparse sul ponte carne grigia e marrone accanto a lui il cinocchio di un altro spettro si polverizzò con uno spruzzo rosso Nishimura pensò che a sparare fosse stata Jenny ma poi si chiuse gli occhi in direzione della torre di comando e vide il riflesso delle armi da fuoco le guardie di padre Bill avevano scorto Nishimura e Jenny e stavano sparando a loro la massa di spettri per il momento gli fornivano involontaria copertura la voce di Enstrom gracchiava dagli altoparlanti mentre piovevano le pallottole anche gli spettri continuavano ad arrivare scioccato e terrorizzato Nishimura urlò una mano gelida lo afferrò alla schiena Nishimura si girò urlando e spingendo in avanti la baionetta sentì la lama penetrare in una carne così morbida che capì immediatamente di aver fatto un terribile errore i 15 centimetri di baionetta erano immersi nel petto di Jenny oh no no Jenny abbassò lo sguardo la lama scompariva completamente fra le costole in basso a sinistra Nishimura cercò di rammentare quali zone vitali c'erano sotto quella parte della tuta polmone milza stomaco non lo sapeva pancreas intestino crasso rene non lo sapeva non lo sapeva la mano di Jenny quella che aveva lanciato il coltello si posò sulla canna del fucile la tiri fuori mi dispiace tantissimo la tiri fuori e salga su quell'aereo del cazzo Nishimura tirò e il getto di sangue fu caldo sulla sua mano e rosso vivo perché la pilota pagana era viva almeno per il momento e prima che potessero soffermarsi sulle conseguenze di quanto era appena accaduto Jenny lasciò cadere la spada si tuffò sotto all'aereo e salì la scaletta aggrappandosi al corrimano come un bambino Nishimura lasciò cadere il fucile e la seguì fra i gemiti degli spettri i loro crani urtarono il ventre dell'F-18 la scaletta era dipinta di bianco perché risaltasse sull'asfalto ma quello che risaltava su di essa era il sangue di Jenny macchie in formi su ogni gradino la scala era posizionata male Nishimura dovete fare un salto per raggiungere il seggiolino posteriore dell'aereo cosa difficile con il nuovo carico di colpa che aveva addosso mi dispiace mi dispiace impianto idraulico normale ossigeno spento pilota automatico normale scarico carburante spento mi sente pilota non volevo genito si un suono gorgogliante e denso serbatoi alari esterni normali sonda sonda ritratta stroboscopio attivo freni attivi flaps giù antiscivolo attivo deve esserci una cassetta di primo soccorso qui stia zitto signore leva di atterraggio giù braccio di comando sicuro morirà dissanguata pilota se continuo a parlare mi confonde signore affermativo mi dispiace cinture allacciate Nishimura aveva già decollato da una porta aeree con una catapulta anche se di solito preferiva le partenze più dolci degli elicotteri la velocità dei lanci rendeva difficile ricordarli la cosa che ricordava meglio era l'incredibile numero di persone coinvolte per assicurare che il lancio avesse successo un centinaio facce rosse accaldate labbra screpolate dalle esalazioni dei motori camice verdi chiuse nella carlinga dell'aereo camice gialle che agitavano le braccia per fare segnali camice rosse che presenziavano in caso di disastro questa volta non c'era nessuno solo una pilota che borbottava qualcosa su luci di sicurezza interruttori da girare annunci vocali controlli emi e fei e un timoniere che non poteva dare altro contributo che il panico pagano so che sta facendo il suo dovere nessuno lo apprezza più di me genito si e spruzzò di sangue il parabrezza ma ci sono moltissimi spettri là fuori pilota la legione di padre bill almeno una cinquantina di spettri camminava sul ponte anche se parecchi erano caduti sotto i colpi sparati dalla torre di controllo altri cinquanta si affollavano all'ingresso della camerata che Nishimura non aveva chiuso abitanti delle oscurità sottostanti attirati verso l'alto dall'istinto il che voleva dire che altri potevano arrivare forse centinaia Nishimura non aveva bisogno di spiegarlo a Jenny dovevano lasciare il ponte il prima possibile cosa che i corpi di un centinaio di spettri rendevano complicata oh questo non va bene ogni azione comportava delle crisi ma Carlo Nishimura aveva fatto carriera mantenendosi freddo anche se ciò gli aveva procurato una vita senza amici guardò la nave e lasciò che l'incandescenza prendesse il sopravvento per l'ultima volta vide la rete di protezione alta 6 metri e pensò che se fossero riusciti a sollevarla avrebbero preso degli spettri liberando il ponte in un colpo solo impossibile con Jenny ferita oppure poteva usare il sistema di irrigazione per far scivolare tutti gli spettri fuori bordo ma perché complicare le cose l'f-18 aveva una mitragliatrice Vulcan con 6 canne da 20 mm che potevano sparare 4000 colpi al minuto no non gli faremo del male cosa? ai golem sono spettri pilota potremmo eliminarli sono qui per salvarci questa è la perdita di sangue che parla l'f-18 rugì il mondo davanti a Nishimura quintuplicò scosso da vibrazioni che facevano urlare ogni piastra ogni vite e ogni bullone Jenny mise il motore al massimo Nishimura sentì uno sfrigorio e seppe che erano spettri inceneriti dal calore del motore Jenny dovette urlare per farsi sentire sporcando il finestrino con altre gocce di sangue non ci sono munizioni comunque dovevo ridurre il peso maschere ora Nishimura sentì che doveva controbattere ma gli serviva l'ossigeno per evitare l'ipossia se riuscivano a decollare dal ponte solo mentre si infilava la maschera si rese conto che il suo bisogno di discutere era sparito perché aveva fiducia in quella pilota forse c'erano voluti gli ultimi istanti della sua vita da uomo della marina ma pensò di essersi fatto un'amica una per cui sarebbe morto non per dovere ma per affetto personale per lui valeva più di qualsiasi decorazione e sarebbe stato un buon modo di morire attraverso la nebbia di calore Nishimura vide Jenny sporgersi di lato della carlinga e allontanare la scaletta le pallottole fischiarono vicine piantandosi nel ventre dell'aereo Jenny si bloccò si toccò con le dita al torace insanguinato e cominciò a passarle sulla fiancata dell'aereo Nishimura tese le sue cinture al massimo per vedere cosa stava facendo subito sotto alla carlinga Jenny aveva scritto col sangue una parola Jenny la il mio nome su un aereo cazzo chiuse l'abitacolo le funi si tesero i motori rombavano al massimo Nishimura era un pezzo tremante di una macchina mentre Jenny gridava in gergo calotta cavi diec cas seggiolino flaps adi radar tacan assetto codice identificativo circuiti luci di atterraggio tutto in pochi secondi con un sussulto i freni furono sganciati il super hornet stridette ma i cavi di nylon restero un istante di troppo l'f-18 sbandò ababordo prima che si spezzassero con uno schianto più forte dell'urlo infernale dell'aereo che fu scagliato come un sasso da una fionda non uno dei golem di Jenny li colpì perché furono sbattuti indietro dal vento rovente e Nishimura ne fu lieto perché golem o spettri o millennialisti il loro obiettivo era lo stesso ogni chiodo sul ponte era uno scoglio ogni fessura un canyon il jet sussultava e sobbalzava mentre percorreva la pista troppo corta la rottura tardiva della fune non l'aveva deviato abbastanza da fargli mancare l'uscita collo slogato schiena incrinata denti rotti sangue denso in bocca occhi schiacciati nel cranio il metallo urlava le superfici si curvavano ed eccoli partiti con le ruote senza sostegno silenziose e libere l'ondeggiamento il tuffo il cielo sparito la vastità dell'oceano le grigie sciabolate della tempesta gli schizzi di sale sul vetro della carlinga il naso dell'f-18 toccò il pacifico un bacio di addio 30 tonnellate corsero sulle onde come se fossero una seconda pista e poi su la vendetta del cielo il ritorno del sole le soffici manciate di nubi il sangue in gola lo sfrigolio acido nello stomaco l'aereo che si inarcava si metteva in verticale i motori al massimo sta volando stanno volando protetti dalla mano di un dio un altro sibilo l'ultimo sì urlò Nishimura la mano insanguinata di Jenny si alzò dal posto davanti col pollice in su il super hornet si inclinò e il mondo intero girò stavano tornando verso l'olimpia per prendere il vento occidentale ancora bassi 500 piedi sulla superficie del mare Nishimura sapeva che Jenny si stava esibendo le restava energia sufficiente per farlo era emozionato per lei e per se stesso per aver avuto la fortuna di conoscerla Jenny aveva la grinta del pilota dopo tutto passando così i bassi riuscirono a dare un'ultima occhiata alla situazione a bordo della Big Mama uno spettacolo con cui Nishimura avrebbe dovuto venire a patti per tutta la vita le passarelle superiori scintillavano ancora per le armi della guardia ma nessuno degli uomini di padre Bill era sceso sul ponte per tentare di impedire il lancio dell'F-18 stava succedendo un'altra cosa la superficie metallica della torre di controllo era tinta di rosso gli uomini erano in fila indiana sulla scaletta e aspettavano il loro turno per il sacrificio Nishimura sentì ancora le ultime parole di padre Bill un'offerta credo che i nostri uomini sarebbero felici di offrire qualche pezzo no? quelli dovevano essere i nuovi riti la realizzazione della visione del cappellano per unire uomini e demoni la nascita di una legione più grande i marinai si appoggiavano alle balaustre a legarsi le ferite per fermare il sangue che sgorgava dalle braccia senza mani altri che avevano scelto di donare un piede giacevano a terra in mezzo a pozze scure padre Bill in persona con la camicia huayana zuppa di sangue era in piedi al centro del caos e guardava l'aereo che gli passava sulla testa Jenny non lo deluse e alzò il medio insanguinato quando riuscirono a vedere l'altro lato della torre di comando scoprirono cose ancora peggiori alcuni uomini trasportavano secchi di membre amputate sull'orlo della piattaforma da cui nutrivano il comandante page e i suoi demoni un pezzo alla volta nishimura rabbrividì tfoa pensò occupamente era larguto acronimo usato dai marinai per indicare l'eterno nemico di un equipaggio aereo things falling off of aircraft cose che cadono dal verivolo in un certo senso le cose stavano ancora cadendo il suo cuore si spezzò quando diede un ultimo sguardo all'olimpia centinaia di donne sopravvissute agli spettri e a uomini spaventosi uscivano dalla camerata e dai numerosi boccaporti forse c'erano ancora delle telecamere funzionanti e vedere l'f-18 che decollava le aveva spinte a correre di sopra nella speranza di venire salvate se l'aereo fosse stato armato avrebbe chiesto a Jenny di dare loro il colpo di grazia Nishimura chiuse gli occhi doloranti e si afflosciò sul seggiolino l'operazione Bills Lions era riuscita suo marito le sue figlie e i suoi figli li avrebbe rivisti e questo a prescindere dalle condizioni del mondo sarebbe stato un paradiso e un'oasi di pace come quel cielo tranquillo la cabina venne pressurizzata i dolori di Nishimura diminuirono in base alla posizione dell'Olimpia stimava che il viaggio fino alla costa avrebbe richiesto tre ore non era nulla non dovevano esserci problemi decise di tentare un sorriso come l'operazione Bills Lions anche lui ce l'aveva fatta non si accorse di essere scivolato nel sonno finché non sentì la voce bassa di Jenny sveglia 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 Nishimura alzò la visiera del casco il giorno era cristallino e luminoso sbadigliò gli si sbloccarono le orecchie ridacchiò una reazione infantile buongiorno pilota cosa posso fare per lei oh bene salve ci sono due leve cosa succede siamo vicini a casa due leve ai lati del suo seggiolino deve tirarne una leve perché devo tirare delle leve per espellersi il loro piccolo mondo già denso all'interno della carlinga si ispe si pilota pagan Jenny non ho alcuna intenzione di espellermi i seggiolini sono sincronizzati verremo espulsi tutti e due ma io sarò morta il colpo di baionetta al petto la ferita sanguinante le macchie informi tutto il sangue sul parabrezza ora ghiacciato come tanti rubini era stato lui l'aveva uccisa aveva ucciso se stesso il petto gli doleva come se avesse ricevuto una coltellata anche lui no Jenny se la caverà non è difficile signore la cupola si aprirà le molle la scaglieranno lontano dal jet il paracadute si aprirà sono scesa a undicimila piedi non siamo in california però mi dispiace ma non si preoccupi se il paracadute non si aprisse tiri il cordino Jenny mi parli parliamone il suo seggiolino cadrà tiri le due corde segua il vento Jennifer Pagan mi ascolti le ho fatto io quel buco non ho intenzione di lasciarla morire arriverà fino a Detroit mi sente la porterò fino a Detroit ha una famiglia lì degli amici quando è stata l'ultima volta che l'hanno vista quando è che ha avuto l'ultima licenza la sua risata leggera come una piuma risuonò attraverso un sistema radio che Nishimura non riuscì a individuare se c'era un microfono doveva tenerlo davanti alla bocca e gridarci dentro licenza strana parola eh la licenza è finita dicono abbraccia i parenti e torna sulla nave cos'è la licenza allora licenza vuol dire libertà e questa la libertà la sente? no Jenny aspetti ho provato ma sta andando via è in licenza Jenny no per favore io rappresento lo spirito combattivo della marina esatto proprio così forza obbedirò agli ordini dei miei superiori come me Jenny io le sto dando un ordine sono un marinaio Jenny dica questa parola lei è un marinaio la sua nuca divenne visibile quando il casco si chinò sul petto i riccioli bruni erano spenti per il troppo tempo passato al buio benché l'F-18 vibrasse Jennifer Angelis Pagan si immobilizzò e fu tutto certi dolori si prolungavano nel tempo il mistero degli allarmi per l'uomo in mare com'era strano pensare che non sarebbe mai stato risolto altri dolori erano rapidi martellate in faccia non avrebbe mai accompagnato Jenny a Detroit non avrebbe mai saputo niente di lei se non che era la pilota più coraggiosa che avesse mai conosciuto Nishimura guardò oltre la compagna morta l'oceano si stendeva sfumando dal blu scuro all'azzurro chiaro la terra era vicina fra le ultime frasi di Jenny c'era stato mea culpa non siamo in California dove era diretto riusciva a vedere una linea di costa marrone che emergeva tra le nuvole terra Nishimura cercò le leve di espulsione di cui parlava Jenny le trovò facilmente il loro colore vivace era un avvertimento il casco di Jenny si rialzò la gioia invase tutto il corpo di Nishimura sì pilota bene Jenny sì ascolti rimanga sveglia Jenny può farcela può far atterrare questa cosa può farcela può la tuta di lei era ingombrante il poggiatesta grosso ma girò la testa parecchi centimetri più di quanto fosse possibile la pelle ai lati del collo si tese e si spaccò col rumore del tessuto che si lacera la maschera dell'ossigeno di Jenny coperta di sangue pendeva da una bocca spalancata da cui colavano un liquido nero e una saliva rosa al di là al di là al di là della visiera scura Nishimura vide i suoi occhi bianchi Jenny aprì la bocca ed emise un sibilo Nishimura tirò entrambe le leve benché lei gli avesse detto di tirarne una sola la prudenza non era mai troppa ormai e via si trovò proiettato in un cielo senza aria accecante scagliato sul mare infinito scintillante un granello di polvere nel vento soggetto a tante sensazioni di caldo di freddo di duro di veloce di doloroso tutte insieme e l'unica che gli rimase fu la solitudine Hai molto talento Il sibilo penetrante il campanello subito dopo un pesticciare umido rumori del primo mattino talmente familiari che Charlie ancora sonnata ebbe bisogno di mezz'ora per capire che doveva preoccuparsi Erano i suoni del camion dei rifiuti Si alzò non accese il generatore non sapeva se l'avrebbe acceso di nuovo La sera prima aveva guardato l'ultima trasmissione della WWN Alla fine la telecamera era stata battuta e mostrava solo i colori della discoteca delle luci del soffitto mentre l'audio continuava grida grugniti piedi in movimento e schioccare di labbra Charlie tolse un asse dalla finestra il suo punto di osservazione segreto pescò da un sacchetto di mandorle vecchie e intanto osservò l'attività in fondo all'isolato non era un camion dei rifiuti erano tre la notte la notte la notte in cui erano fuggiti dall'obitorio lui se le aveva detto di aver saputo tramite i social media che la gente attribuiva la colpa delle violenze agli immigrati latini che casualmente dominavano un settore della raccolta dei rifiuti locale Charlie immaginava che alcuni di quei latini accortesi di possedere i veicoli più forti in circolazione si fossero uniti a formare delle bande gli equipaggi dei camion erano troppo lontani per vederli bene ma notò che trasportavano degli oggetti allungati fucili forse o piedi di porco mazzè da baseball chiavi inglesi e asce come i bastardi che avevano bloccato la Prius di Luis uomini col bastone saranno la nostra fine erano metodici in quindici o venti circondavano una casa poi entravano mentre altri fuori affrontavano gli spettri vicini dieci o quindici minuti più tardi i predatori uscivano carichi di oggetti e a quel punto la carovana di camion della spazzatura passava alla casa successiva Charlie triturava le mandorle senza sentire alcun sapore calcolò di avere un'ora prima che la banda arrivasse a casa a Coachella a quel punto chissà se il loro stato d'animo sarebbe stato inclina alla carità o a sparare a vista non pensava di fuggire avrebbe corso i suoi rischi con la banda degli spazzini per vedere come finiva c'era una sola cosa che voleva fare prima una cosa che rimandava da 48 ore non doveva preoccuparsi troppo del rumore i camion erano molto rumorosi e gli spettri erano attirati da loro il corpo di Luis era avvolto in un bel blade Charlie aveva fatto un lavoro preciso fissando gli orli con delle cinture prese dai cassetti del comò non potei fare a meno di sorridere sembrava un burrito Luis Acocella l'agnoso numero uno al mondo adorava criticare quella mostruosità ipercalorica che erano i burritos americani appena ne sentiva l'odore il blade era fatto a mano e il nome dell'artefice era cucito su un angolo se apparteneva alla famiglia di Rosa o di Luis Charlie non lo sapeva il punto era che aveva un valore sentimentale e benché Charlie in genere non fosse una tipa sentimentale in questo caso le faceva piacere concedersi una piccola sdolcinatezza aprì la porta sul retro controllò che non ci fossero spettri o i cani affamati che aveva sentito raspare sulla strada la notte prima e trascinò il corpo di Luis nel prato Luis e Charlie erano stati medici legali non scavatori di tombe e quella di mamà Acocella era un disastro dilettantesco ovale e frettolosamente riempita anche se finora aveva sfidato con successo il naso di quei cani ma lei poteva fare di meglio tornò dentro di corsa prese la vanga e si mise al lavoro senza un'innaffiatura regolare il terreno della California si era prosciugato la vanga vi penetrava come nella cenere in 30 minuti Charlie scavò una buca profonda un metro accanto a quella di mamà altri 10 minuti e l'aveva riempita con il corpo di Acocella in posizione fetale di nuovo con la terra si accovacciò lì vicino la sua ombra creava un cordone ombelicale tra madre e figlio 40 minuti per l'intera operazione per il suo addio le bastarono pochi secondi raccolse una manciata di terra nelle briciole sentì la consistenza dei capelli di Luis la pelle sul dorso delle sue mani le nuvole di fumo di sigaretta la cartelletta con i rapporti delle autopsie l'involucro di plastica del suo stupido cellulare la barba ispida sul suo mento la sua risata roca sei a casa Charlie non voleva che gli spazzini abbattessero la porta degli Acocella quando arrivarono alla casa vicina uscì tenendo un sacco di vestiti e di cose da mangiare con una mano e agitando una delle camicie bianche di Luis con l'altra era il segno universale di pace ma il mondo non girava più come una volta due uomini si avvicinarono correndo con i volti rossi e rabbiosi avevano i fucili puntati contro la testa di Charlie come ti chiami come te l'amas aveva l'aria così malmessa da poter essere scambiata per uno spettro Charlie Rukowski spogliati desnudate cosa? il secondo uomo fece una smorfia ma non abbassò il fucile dobbiamo sapere se sei stata morsa Charlie si spogliò un'azione umiliante ma arrivata a metà si mise a ridere si stava denudando nel giardino del suo capo sempre a esibirsi la vecchia Charlie non era cambiata gli uomini erano in effetti latini nella fila di quattro macchine dietro ai camion della spazzatura Charlie vide gente di ogni sorta probabilmente liberata più o meno volontariamente dalle case barricate quella gente tutti i passeggeri era immobile e silenziosa dopo quindici giorni di persecuzione gli spazzini avevano assunto il comando Charlie non si aspettava nessuna pietà e non ne ebbe le fecero sollevare i seni allargare le natiche e mostrare ascelle e cosce senza morsi era spaventata e un po' arrabbiata forse avrebbe dovuto disseppellire Luis e far vedere a quei bulli che anche lui era latino forse così l'avrebbero trattata meglio naturalmente ormai la pelle di Luis era grigia o blu una ragazza non poteva vincere i camion si fermarono sibilando davanti a casa a Coachella lasciandosi dietro una scia di sangue dovevano stritolare gli spettri al loro interno per risparmiare le pallottole gli uomini saltarono giù e circondarono la casa Charlie gli avrebbe detto volentieri cosa c'era dentro ma non glielo chiesero quello dei due leggermente più gentile gli accennò di rimettersi i vestiti e poi la spinse con la canna del fucile verso l'ultima macchina della fila una suburbana argentata aprì il portellone laterale il SUV era stipato di donne e bambini innumerevoli occhi lucidi e spaventati fissarono Charlie lei rabbrividì come se fosse ancora nuda gli uomini con qualche ragazzino erano fuori a maneggiare i loro bastoni le donne e le ragazze erano stivate come bagagli Charlie non era stupida sapeva cosa succedeva inevitabilmente quando gli uomini prendevano l'abitudine di tenere le donne dietro porte chiuse e finestre oscurate pieno dovrai stringerti nel retro aprì il bagagliaio rivelando uno stretto spazio dietro al terzo seggiolino della vettura c'era già una donna seduta dall'altra parte del guidatore Charlie si infilò dentro e si mise dall'altra parte quando il bagaglio venne richiuso lo spazio non parve così abbondante la donna era una latina grassottella e seria coi capelli neri ed enormi bellissimi occhi scuri Charlie si costrinse a sorridere le sembrava sbagliato come se stessero fingendo che andava tutto bene si schiarì la gola per dire qualcosa ma la donna parlò per prima non ti ricordi di me Charlie chiuse la bocca e la guardò meglio mi dispiace non abito da queste parti in realtà ci siamo conosciute a una festa di Natale ah sì io non questa è casa mia al sole sopracciglia Rosa delgado a cocella Charlie annui non le venne in mente un altro modo per rispondere il suo gesto si ridusse fino a diventare un tremito Rosa era viva aveva infilato la mano di sua suocere in un trita rifiuti era scappata passando da una finestra ma quanto pareva era più abile di Luisa cocella e anche di Charlie in Rukowski non aveva senso nascondere la verità Rosa probabilmente si era accorta dell'attrazione di Charlie per Luisa alla festa di Natale che lei non rammentava e con la triste lungimiranza e pazienza di una moglie aveva aspettato quel momento Charlie sapeva che doveva scusarsi ma era esausta non solo per aver assistito Luisa negli ultimi giorni ma perché aveva dovuto adeguarsi alle regole di una civiltà che scompariva forse il nuovo mondo avrebbe dato spazio alle sfumature e alla complessità forse Rosa e Charlie avrebbero potuto amare Luisa forse ancora di più per il modo in cui aveva dato a gioia tutti quelli con cui entrava in contatto vuoi entrare Luisa è morto Charlie annui Rosa inspirò violentemente e si sistemò un ciuffo di capelli sull'orecchio allora no non c'è più niente che mi interessa i predatori terminarono con la casa di Rosa i camion della spazzatura masticavano il loro carico di ossa sanguinolente la Suburban sussultò e si inclinò girando nella strada senza uscita per portarsi sull'altro lato Luis diceva che tiene smucio talento disse Rosa con semplicità hai molto talento grazie hai dovuto a matar come si dice hai dovuto uccidere dal punto di vista di Rosa non era insensato fare a pezzi dei cadaveri con Luis in un laboratorio fare a pezzi dei cadaveri con Luis in periferia mentre Charlie era nella casa chiusa con le assi per evitare la dura realtà il mondo esterno Rosa compresa era diventato più diretto sì Rosa annui leggermente è difficile no quello che succede al tuo cuore quando devi uccidere la persona che ami Charlie guardò fuori dal finestrino gli uomini litigavano davanti a un camion di rifiuti troppo pieno di cadaveri poi ammucchiarono quattro corpi che ancora si muovevano sotto un'altalena familiare e li irrorarono di benzina ben presto il mucchio di corpi prese fuoco insieme alla vecchia altalena allo scivolo arrugginito all'infanzia perduta Charlie tentò di percepire il calore del fuoco Rosa immaginava era bruciata così ed era riemersa carbonizzata indurita Charlie era pronta per quel rito un'altra morte un'altra rinascita ancora attraverso il fuoco un'altra rinascita per il fuoco per il fuoco liberato si por un'altra rinascita per il fuoco è è Grazie.